8 dicembre 1922 Il titoletto L'Immacolato concepimento della Vergine Santissima per poterle riconcepire il Figlio di Dio fu concepita eternamente nella vita e nelle opere nelle pene e nei meriti del Verbo incarnato Sì, veruisa Stavo pensando all'Immacolato concepimento della mia mamma Regina e dopo aver fatto la Santa Comunione il mio sempre nabile Gesù si faceva vedere nel mio interno come dentro di una stanza tutta luce ed in questa luce faceva vedere in tutto ciò che aveva fatto in tutto il corso della sua vita Si vedevano schierati in ordine tutti i suoi meriti le sue pene, le sue opere, le sue piaghe, il suo sangue tutto ciò che conteneva la vita di un uomo e Dio come in atto di prevenire un'anima a lui tanto, tanto cara da qualunque minimo male che potesse ombrarla Io stupivo nel vedere tanta attenzione di Gesù e lui mi ha detto alla mia piccola, piccola neonata voglio far conoscere l'Immacolato concepimento della Vergine concepita senza peccato Tu devi prima sapere che la mia divinità è un atto solo tutti gli atti suoi si concentrano in uno solo questo significa essere Dio il portente più grande della nostra essenza divina non essere soggetto a successione di atti e se alla creatura sembra che ora facciamo una cosa e ora un'altra e piuttosto che facciamo conoscere ciò che c'è in quel solo atto ed essendo la creatura incapace di conoscere tutto di un solo colpo glielo facciamo conoscere a poco a poco Ora, tutto ciò che io, Verbo Eterno dovevo fare nella mia assunta umanità formava un solo atto con quell'atto unico che contiene la mia divinità sicché, prima che questa nobile creatura fosse concepita già esisteva tutto ciò che doveva fare sulla Terra il Verbo Eterno Oltre, nell'atto che questa Vergine fu concepita si schierarono intorno al suo concepimento tutti i miei meriti, le mie pene, il mio sangue e tutto ciò che conteneva la vita di un uomo Dio e restò concepita negli interminabili avissi degli meriti del mio sangue divino e del mare immenso delle mie pene In virtù di essi restò immacolata, bella e pura e al nemico restò sbarrato il passo dagli incalcolabili meriti miei e non potrei recarle nessun documento E' giusto che chi doveva concepire il figlio di un Dio doveva prima essere lei concepita nelle opere di questo Dio per poter tenere virtù di concepire quel verbo che doveva venire a redimere il genere umano sicché lei prima restò concepita in me ed io restai concepito in lei Non restava altro che a tempo opportuno farlo conoscere alle creature ma nella divinità era come già fatto Perciò colei che più raccolse i frutti della redenzione anzi il frutto completo fu questa eccelsa creatura che essendo concepita in esso amò, stimò e conservò come cosa sua tutto ciò che il figlio di Dio operò sulla terra il figlio di Dio operò sulla terra Ho la bellezza di questa tenera piccina era un prodigio della grazia un portento della nostra divinità crede come figlia nostra fu il nostro decoro la nostra allegrezza l'onore e la gloria nostra Mi piace moltissimo questa spiegazione di quello che è il dogma proprio dell'immacolata spiegato molto bene cioè come pre-redenta per i meriti dello stesso suo figlio cioè che differenza c'è tra noi e la Madonna cioè lei siamo tutti creature la Madonna è una creatura come noi ma lei è immacolata nel suo concepimento ma perché come è immacolata come noi siamo redenti dopo la colpa lei è preservata dal peccato prima ma per gli stessi meriti per lo stesso sacrificio del figlio cioè lei ha avuto effetto ancora prima che nella storia diciamo si verificasse a livello storico no io ringrazio il padre per lo spunto tra l'altro e mi trovo proprio interessante il fatto che questo passo qui l'8 dicembre 1923 del volume 10 è il secondo passo dagli scritti di Luisa perché ce n'è una serie vari 8 dicembre nel corso dei volumi questo è il secondo il primo è quello del precedente il volume 15 allora il padre come ci ha spiegato così bene ci ha detto ecco mi piace come in questo passo nel volume 16 viene spiegato né più né meno in termini di volontà divina perché si fa come dice come è possibile tecnicamente che lei è una pre-redenta redenta in virtù questo l'abbiamo sempre detto in virtù dei meriti previsti del redentore lei è pre-redenta allora nella divina volontà il dogma dell'immacolato concepimento ci viene spiegato in virtù delle verità sul vivere dei vuti di involere in virtù di cos'è la volontà di un tenitore eterno degli atti divini eterna senza tempo ovviamente perché il tempo è creato ecco tolto il video gli atti del verbo incarnato sono già contenuti nella divina volontà tutto quello che Gesù avrebbe fatto è già presente ed eterno nella divina volontà quindi viene applicato a lei perché concepita vengono applicati già questi atti di Gesù ma questo è un merito di Maria Santissima come ci dice il Padre no è un dono è un dono necessario per il decoro del concepimento del verbo nel suo seno invece quello che ci dice il primo passo che non abbiamo qui visto ma che abbiamo visto tante volte il vero merito di Maria Santissima non è quello di essere stata concepita immacolata quello è uno dei tanti titoli il merito di Maria Santissima è che nell'istante di quel concepimento dotata di ragione divina e questa è una cosa che nella Chiesa forse non si sa ancora tanto bene lo dobbiamo capire proprio in virtù di queste verità dotata di ragione divina ebbe la possibilità di vedere di comprendere cos'è il peccato ma non in modo umano capirlo alla divina l'orrore del peccato che cosa aveva fatto Adamo e la sua discendenza con quel peccato capire la sostanza dell'offesa a Dio capire le sofferenze che questo avrebbe comportato per salvare l'umanità per il Dio incarnato che si sarebbe incarnato allora lei presa da tremore da orrore ma anche di amore a Dio e ai suoi fratelli prima ancora di dire un ti amo prese la sua volontà umana e la mise ai piedi dell'eterno questo è il primo atto che fa Maria Santissima nel momento del suo concepimento il secondo istantaneo al primo è di dire a costo di qualsiasi sofferenza io la mia volontà umana non la voglio usare giammai neanche nel bene neanche per dire un ti amo a costo di qualunque sofferenza però implicava in lei una conoscenza di quello che doveva essere la sua sofferenza perché già sentiva le pene di un Dio incarnato e ne partecipava in virtù della conoscenza di quelle pene non di che cosa avrebbe sofferto in termini materiali ma la pena la conoscenza della pena è una conoscenza come dire sostanziale io so che cosa è il male perciò so quanto fa soffrire il male a Dio allora la passione di Maria Santissima il sacrificio enorme comincia dal suo concepimento ed è dovuto alla sua conoscenza al fatto di conoscere Dio e di conoscere le conseguenze del peccato originale quindi questo deriva le è stato dato il dono della ragione divina ma proprio in virtù di questa ragione divina per il momento del suo concepimento le ha fatto un atto eroico ha passato una prova eroica questo lo leggiamo nel libro della Vergine Maria il quarto passo nel concepimento di Maria Santissima la prova il trionfo dopo la prova questa è la grandezza assoluta il merito di Maria Santissima il resto sono doni sono titoli per decoro per onore al verbo incarnato l'immacolato concepimento la maternità divina il fatto che lei essendo concepita immacolata aveva anche i doni preternaturali dovuti insieme al suo immacolato concepimento cioè la sua integrità la sua scienza infusa vogliamo dire la sua immunità dai mali fisici questi sono tutti i doni di Dio ma la grande prova la grandezza nella sua piccolezza di Maria Santissima è quella di non aver dato mai vita per un nanosecondo alla sua umana volontà quindi questo ci dice che fino a quando le verità del vivere nel divinvolere e che cosa vuol dire per il divinvolere operare nella creatura come vita fino a quando queste verità non sono conosciute bene nella Chiesa e adesso sono nella Chiesa ma non sono tanto conosciute tra di noi e le stiamo ancora imparando noi come dice Gesù a Luisa possiamo soltanto diciamo inventarci dei titoli dare delle elodie a Maria Santissima ma la elogiamo nella forma ma non nella sostanza quindi Maria Santissima esploderà con tutta la sostanza dei portenti della divina volontà operati in lei quando queste verità verranno conosciute sempre di più tra di noi e in tutta la Santa Chiesa quindi Gesù ha inaugurato i passi sul concepimento immacolato di Maria nel volume 15 con una verità rivoluzionaria bellissima l'atto istantaneo di Maria Santissima nel momento del suo concepimento dotata di ragione divina per questo il passo del volume 15 è fondamentale in questo passo nel volume 16 in virtù della divina volontà riusciamo a capire tecnicamente proprio in virtù di come opera la divina volontà che è atto unico che cosa vuol dire per lei essere preredenta cioè concepita nei meriti previsti nel tempo ma attuali nel volere divino del verbo incarnato non so se mi sono spiegato a questo punto allora leggiamo il brano del volume 15 che c'è di tu l'8 dicembre eh magari che bello non so se il padre aveva qualcosa da aggiungere lo vogliamo sentire anche io no no grazie 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 basta così molto benissimo l'8 dicembre 1100 per questo a me piace sempre leggere in ordine cronologico l'8 dicembre 22 stile Luisa stavo pensando al gran portento dell'immacolato concepimento della mia regina celeste mamma nel mio inferno mi sentivo dire figlia mia l'immacolato concepimento della mia diretta mamma fu prodigioso e al tutto meraviglioso tanto che cielo e terra mi stupirono e fecero festa tutte e tre le divine persone fecero gara il padre fece sboccare un mare immenso di potenza io figlio sboccai un mare infinito di sapienza e lo spirito santo un mare immenso ed eterno amore che confondendo se ne formavano uno solo e in mezzo a questo mare fu formato il concepimento di questa vergine eletta fra le elette si che la divinità somministrò la sostanza di questo concepimento e non solo era centro di vita di questa mirabile singolare creatura ma questo mare le stava d'intorno non solo per tenerla difesa da tutto ciò che potesse andrarla ma per darle in ogni stante nuove bellezze nuove grazie potenza sapienza amore privilegi eccetera sicché la sua piccola natura fu concepita nel centro di questo mare e si formò e crebbe sotto l'influsso di queste onde divine tanto che non appena fu formata questa nobile singolare creatura non volle aspettare come il solito delle altre creature volle i suoi ampli il ricambio del suo amore i suoi baci godessi i suoi innocenti sorrisi e perciò non appena fu formato il suo concepimento le diedi l'uso di ragione la dotai di tutte le scienze le feci conoscere le nostre gioie e i nostri dolori a riguardo della creazione e fin dal seno materno lei veniva nel cielo ai piedi del nostro trono per darci gli amplessi il ricambio del suo amore i suoi teneri baci e gettandosi nelle nostre braccia ci sorrideva con tale compiacenza di gratitudine e di ringraziamento da straffare i nostri sorrisi come era bello vedere questa innocente privilegiata creatura arricchita di tutte le qualità divine venire in mezzo a noi tutta amore tutta fiducia senza paura perché il solo peccato è quello che mette distanza tra creatore e creatura spezza l'amore sperde la fiducia e in gutta timore sicché lei veniva in mezzo a noi come regina lei veniva in mezzo a noi come regina che col suo amore dato da noi ci tirava i suoi voleri ci rappiva ci metteva in testa e si faceva rapitrice di altro amore e noi la facevamo fare godevamo dell'amore che ci rappiva e la costituimmo regina del cielo e della terra cielo e terra esultarono e fecero festa insieme con noi nell'avere dopo tanti secoli la loro regina il sole sorrise nella sua luce e si crevette fortunato nel dover servire la sua regina col darle la luce il cielo le stelle tutto l'universo sorrisero di gioia e fecero festa perché dovevano avvietare la loro regina facendoli vedere l'armonia delle sfere e della loro bellezza sorrisero le piante che dovevano nutrire la loro regina ed anche la terra sorrise e si sentì dobilitata nel dover dare l'abitazione e farsi calpestare dai passi della sua imperatrice solo l'inferno pianse e si sentì perdere le forze dal dominio di questa sovrana sidona non so se si interrompe se si interrompe poi magari ecco non devo stare perché pare fonte di distrazione però prima che passi al punto qui abbiamo letto tonnellate di verità vorrei solo fare il riepilogo questo è il primo passo dove si parla del padre che tira fuori proprio versa su quel semino mari di potenza il figlio mari di sapienza lo spirito santo mari di amore e in quei mari viene l'immacolato concepimento di maria questi mari non soltanto all'interno di questi mari viene concepita maria ma come dice questo passo non soltanto in questi mari viene concepita ma questi restano intorno a maria santissima quindi qui si inizia a parlare poi dei mari di maria santissima cioè degli attributi divini che si uniscono si combinano in tante forme diverse per costituire i suoi atti quindi in questi mari ella visse sempre perché restarono intorno a lei non è che la concepirono e poi quindi il concepimento in questi mari che continuano a circondarla non solo per proteggerla ma anche per farla crescere in ogni istante dico allora i mari della divinità in questi mari ella viene concepita e questi mari restano intorno a lei non si ritraggono rimane ingolfata in questi mari non soltanto per essere protetta ma per crescere continuamente per ricevere il continuo atto crescente della divina volontà tramite i suoi atti che avrebbe fatto poi dice non appena fu formato il suo concepimento le diedi uso di ragione la dotai di tutte le scienze non soltanto naturali ma anche spirituali le feci conoscere le nostre gioie e i nostri dolori a riguardo della creazione ecco questo è una cosa fondamentale perché ho sentito dire quando diceva la nostra sorella diceva nostra madre santissima non soffrì essendo concepita immacolata i turbamenti che abbiamo noi tutte quelle tentazioni non ebbe neanche un mal di gola un raffreddore non doveva portare gli occhiali non si ammalava allora Gesù Luisa dice a Gesù ma scusa è chiaro Maria Santissima non aveva la prova che abbiamo noi che abbiamo tante lotte interne esterne adesso siamo tentate adesso siamo freddi adesso siamo tutti irritati adesso ci ammaliamo eccetera eccetera Gesù dice certo per il dono dell'immacolato concepimento ci siete? per il dono dell'immacolato concepimento mia madre non soffrì queste prove che voi creature di stirpe comuni soffrite però la mia divina volontà per giustizia divina e architettò per lei una prova infinitamente maggiore quella prova è la prova della conoscenza ecco riprendo la fonte dei dolori e delle gioie di Maria Santissima è la conoscenza dal momento del suo concepimento venne dotata della conoscenza di Dio e dei dolori di Dio a riguardo della creazione questo vuol dire un dolore straziante per una creatura come vuol dire gioia infinita quindi Maria non aveva nessuna protezione in lei lei sarebbe morta di gioia se il dolore non l'avesse non l'avesse sostenuta sarebbe morta di dolore a ogni istante se la gioia non l'avesse sostenuta questo è importantissimo questa è la prova di Maria Santissima il fatto che lei conosce la sostanza delle cose conosce Dio e la bellezza la bontà Dio e le dà un estasi infinita ma conosce anche le conseguenze del peccato e quindi il dolore l'offesa che questo comporta per un Dio incarnato questa conoscenza noi non ce l'abbiamo pienamente perché diciamo per esempio noi sentiamo andiamo in giro al mercato e sentiamo uno che dice una parolaccia al limite al limite non ci facciamo caso oppure al peggio diciamo pure ma guarda quanto è volgare questo oppure restiamo completamente indifferenti oppure se conosciamo Dio un pochino di più facciamo come diciamo come dovremmo fare diciamo Gesù mi dispiace per questo uso cattivo della parola ti offro le parole di Gesù e di Maria come atto di riparazione questa è una cosa buona ma se noi veramente conoscessimo che cosa comporta l'uso disordinato l'uso delicida della parola che dovrebbe essere figlia del verbo incarnato figlia della parola incarnata e quanto l'uso peccaminoso della parola comporta di sofferenza alla parola incarnata noi moriremmo stecchiti per ogni parola che sentiamo ancora di più se la dovessimo dire quindi qui ho fatto un esempio solo per farci comprendere come il dolore e la gioia dipende dalla conoscenza più so quanto una cosa vale più ne gioisco più so quanto una cosa è atroce e più ne soffro allora Maria Santissima sapeva quanto la cosa quanto Dio vale gli attributi e le conoscenze di Dio e sapeva anche diciamo quanto è atroce il male per cui gioiva in ogni istante infinitamente e soffriva in ogni istante atrocemente e questa è una prova infinitamente più grande delle prove che abbiamo noi che essendo di stirpe comune dobbiamo avere a che fare con le nostre turbolenze interne con i nostri malanni fisici spirituali eccetera non so se mi sono sfigata questa è una verità importantissima quindi la prova di Maria Santissima sta nella sua conoscenza che aumentava con più faceva atti nella divina volontà con più la sua capacità di conoscere Dio di ricevere Dio aumentava e più aumentava la sua conoscenza e la sua conoscenza aumentava la sua capacità di gioire e di soffrire più conosciamo Dio e più gioiamo e più soffriamo e quindi questa è una cosa importante adesso abbiamo letto poi come la quindi questa è una verità grandissima una verità importante adesso abbiamo visto come i cieli e la terra hanno esultato e tutti si sono accorti che avevano una regina dice che bello per la prima volta dopo secoli e secoli dai tempi di Diamo Innocente sulla terra c'è una creatura in cui la divina volontà vive intatta come vive noi quindi la terra e il cielo erano contentissi finalmente abbiamo qualcuno perché più c'è conoscenza più c'è consapevolezza del dolore e più c'è anche gioia dell'amore sì 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 no ascoltavo il padre certo no è importante quello che dice il padre perché voglio dire anche noi del nostro piccolo possiamo soffrire della nostra più conosciamo Dio e più conosciamo la divina volontà più gioiamo e più soffriamo però soffriamo noi umanamente anche perché vorremmo conoscere di più e perché sembra che le nostre capacità sono limitate però è bello per questo Gesù dice nelle verità del vivere e dell'indulere il tutto sta nella conoscenza allora riusciamo a capire iniziare a capire che non è tanto la conoscenza quante volte ho letto questo passo perché se ne ho leggo diecimila volte questo passo però non mi arrivano allora non è una conoscenza nozionistica è la conoscenza divina queste sono conoscenze divine per cui l'apprendimento è tutto spirituale e adesso e poi non interrompo più perché andiamo avanti con la lettura e poi si fa anche vicino il tempo per me di andare possiamo continuare la lettura dove Carla ci legge esattamente quello che dice Gesù sul primo atto il secondo atto e il terzo atto che fa Maria Santissima nel momento in cui è stata concepita e questo è quello che accennavamo prima ma sai tu quale fu il primo atto che fece questa celeste creatura quando si trovò la prima volta innanzi al nostro trono lei conobbe che tutto il male dell'uomo era stato la rottura tra la volontà sua e quella del suo creatore conobbe e lei ebbe un premito e senza frapporre tempo in mezzo legò la sua volontà ai piedi del mio trono senza neppure volerla conoscere e la mia volontà si legò a lei e si costitui centro di vita tanto che tra lei e noi si aprirono tutte le correnti tutti i rapporti tutte le comunicazioni e non ci fu segreto che non le affidavano ecco scusa non resisto quindi il primo atto è il sacrificio il sacrificio che lei ha fatto dice conobbe e mise la sua volontà ai piedi dell'eterno conobbe perciò fece questo sacrificio la stessa cosa fece Maria Santissima quando dice tremebonda diede la sua volontà ai piedi dell'eterno la stessa cosa successe con l'annunciazione lei tremò o esitò come dice l'evangelista non perché non conosceva diceva ma come è possibile proprio perché conosceva proprio perché sapeva più dell'angelo che cosa volevano dire le pene del verbo incarnato e come questo verbo incarnato si sarebbe allora incarnato in lei proprio perché voleva dire che cosa vuol dire l'incarnazione del verbo è tutto quello che la redizione avrebbe comportato tremò quindi lei come dice anche Gesù superò l'angelo in sapienza e quindi tremò non perché non sapeva ma perché sapeva e poi dice Gesù sublime nella sua umiltà chiese ma come è possibile non conosco uomo questa è la vergine ma è però ecco l'annunciazione come dire tutto quello che tu conosci e sai quello che deve soffrire il verbo e tutto quanto adesso si viene a compiere dentro di te era come una meteora da diversi miliardi di tonnellate che in un nanosecondo mi viene addosso lei trema non perché non sa ma perché sa che sta venendo addosso e quindi ecco questa la stessa scena che si ripete al concepimento si ripete nel momento dell'annunciazione è la conoscenza che dà il tremore a Maria non l'ignoranza fu proprio questo l'atto più bello più grande più eroico che fece il che porre ai nostri piedi la sua volontà e che a noi come rapiti ce la fece costituire regina di tutti vedi dunque che significa legarsi con la mia volontà e non conoscere la propria il secondo atto fu offrirse a qualunque sacrificio per amore nostro quindi l'operativo qui si offre a qualunque sacrificio questo non è un atto una tantum è un atto che dura per ogni istante della sua vita il terzo di restituirci l'amore la gloria di tutta la creazione che l'uomo ci aveva tolto col fare la sua volontà e fin dal seno materno pianse per amore nostro perché ci vive offesi e pianse per il dolore dell'uomo coltevole ecco quindi il terzo atto di Maria è quello di dare onore e gloria con ti amo riparo Maria non ha potuto dire neanche un ti amo neanche un ti glorifico con la sua umana volontà prima ha dovuto offrire la sua umana volontà ha dovuto offrirsi per qualunque sacrificio soltanto in terzo luogo che poi questi tre atti sono di fatto istantanei però come priorità soltanto al terzo luogo nel momento in cui lei aveva ricevuto la divina volontà iniziò ad onorare a glorificare a riparare ad amare Dio ma farlo alla divina dal seno materno pianse per amore nostro perché ci vive offesi e pianse per il dolore dell'uomo colpevole oh come ci intenerivano queste lacrime innocenti e affrettavano la sospirata redenzione questa regina ci dominava ci legava ci straffava grazie infinite ci inclinava tanto verso il genere umano che non potevamo né sapevamo resistere alle sue replicate istanze ma d'onde le veniva un tale potere e tanta ascendenza sulla stessa divinità ah tu l'hai capito era la potenza del nostro volere che agiva in lei che mentre la dominava la rendeva dominatrice di Dio medesimo questo lo vediamo nel possesso il sesto passo nel concepimento immagolato di Maria Santissima nel libro di Maria Santissima i sei passi del suo concepimento che poi di fatto è un atto istantaneo c'è la trinità il sorriso della trinità il sorriso della creazione la prova il trionfo dopo la prova il possesso una volta che lei ha dato la sua umana volontà e riceve la divina possiede tutte le qualità divine e quindi ha ascendenza potere divino nei confronti di Dio può amarlo come Dio ama se stesso può ottenere tutto da Dio e comincia questo scambio questo rimpiattino come ci diceva la nostra sorella tra Maria Santissima ancora nel seno di Sant'Anna e Dio saliva e scendeva saliva e scendeva e lì ha cominciato a esercitare i suoi tre uffici quello di segretaria di mandataria e di pacera tra lei e il genere umano quindi questi passi è bellissimo perché sono tutti collegati al libro della Vergine Maria e integrarli insieme ci arricchiscono ancora di più e poi come potevamo resistere a se innocente creatura posseduta dalla potenza e santità del nostro volere sarebbe resistere a noi stessi noi scorgevamo in lei le nostre qualità divine come onde affluivano su di lei i riverberi della nostra santità i riverberi dei modi divini del nostro amore della nostra potenza eccetera e il nostro volere che era il centro attirava tutti i riverberi delle nostre qualità divine e si faceva corona e difesa della divinità abitante in lei se questa vergine immacolata non avesse avuto il volere divino come centro di vita tutte le altre prerogative e privilegi di cui tanto la richivamo sarebbero state un bel nulla a confronto di questo tutti i titoli le litania di Loreto sono bellissime ma sono un tentativo nostro umano di dire mamma mia ne aggiungiamo una di più possiamo dire poi alla fine si aggiunge ma regina delle famiglie possiamo farne 50 51 52 350 sono stupende ma ecco sono delle lovi per cui l'umano cerca di raggiungere e di lodare la potenza di una divina volontà operante nella creatura sono insufficienti e quindi dice tutti questi titoli queste cose sarebbe stato un bel niente senza della potenza della divina volontà operante in lei questo è il vero prodigio di Maria Santissima per cui quando le verità del divino volere verranno corresciute Maria Santissima esploderà proprio come madre di tutti e la conosceremo bene e veramente potremmo ricevere tutta la sua maternità fu questo che le confermò e le conservò di tanti privilegi anzi in ogni istante ne moltiplicava dei modi ecco perciò la causa per cui la posticlismo regina di tutti perché quando noi operiamo lo facciamo con ragioni sapienza e giustizia perché mai chiede vita al suo volere umano ma fu sempre integro il nostro volere in lei come potevamo dire ad un'altra creatura tu sei regina del cielo del sole delle stelle eccetera se invece di avere il nostro volere per dominio fosse dominato dal suo volere umano tutti gli elementi cielo sole e terra si sarebbero sottratti dal regine e dominio di questa creatura tutti avrebbero gridato nel loro muto linguaggio non la vogliamo noi siamo superiori a lei perché mai ci siamo sottratti al tuo etterno volere qualci creasti tali siamo avrebbero gridato il sole con la sua luce le stelle con il loro scintillio il mare con le sue onde così tutto il resto invece come tutti sentirono il dominio di questa vergine eccelsa che quasi come loro sorella non volle mai conoscere la sua volontà ma solo quella di Dio non solo fecero festa ma si sentirono onorati di avere la loro regina e corsero intorno a lei a farle corteccio e a tributarle gli ossecqui col mettersi la luna come scapeggio sui piedi le stelle come trona il sole come diadema gli angeli come serbi gli uomini come attendenti tutti tutti le fecero onore e le reggero il loro sede non c'è onore e gloria che non si possa dare al nostro volere sia che agisca in noi nella propria sede sia che abiti nella creatura e infine su questo passo l'ultima cosa che mi veniva era proprio il significato dell'essere regina come diceva come potevo chiamarla regina se non possedeva lei tutto allora che cosa vuol dire che Maria è regina della pace regina del cielo regina della terra regina dei dolori noi siamo abituati almeno io diciamo siamo abituati a vedere la regina diciamo dalla parte dei sudditi cioè voglio dire la regina lei ha il mantello ha la corona e noi ci inchiniamo quindi vedere da un punto di vista terreno che cosa vuol dire essere regina dal punto di vista della relazione dei sudditi con la regina però qui Gesù ci dà una verità più specifica ci dice che cosa vuol dire essere regina dal punto di vista della regina che cos'è il reginato essere regina di una cosa vuol dire possedere quella cosa completamente poterla dare a tutti dominarla e averla sperimentata completamente Maria è regina dei dolori come la chiama Gesù dei dolori perché ne ha sofferti tutti i dolori umani ha sofferto l'ingratitudine ha sofferto tutti i dolori umani e le può capire e sa che cosa vuol dire per tutti i suoi figli soffrire questi dolori per cui ha un'infinita compassione per chi soffre quindi per lei che cosa vuol dire regina del cielo e della terra regina diciamo della creazione vuol dire che lei è talmente andata intorno in tutti gli atti della divina volontà nella creazione che la creazione l'ha inglobata l'ha racchiusa dentro di sé quindi tutto l'amore la gloria la conoscenza la grazia la bellezza del creato e l'ha racchiusa dentro di sé e quindi possiede una creazione dentro di sé pertanto è regina della creazione e ne può disporre come vuole quindi si può essere regina di un qualcosa se si possiede qualcosa completamente e se se ne può disporre completamente questo vuol dire essere regina così come vuol dire essere re grazie a tutti Grazie a tutti, Dio impotente per l'intercessione della beata sempre Vergine Maria, non scudi di volere nel nome del Padre e del figlio dello Spirito Santo. Viva Maria, buona continuazione a Vento. Viva Maria. Volume 15, 8 dicembre del 22. Ma sei tu, chiedi Gesù Loisa, quale fu il primo atto che fece questa nobile regina quando uscendo dal seno materno aprì gli occhi alla luce di questo basso mondo? Mentre ella nacque, gli angeli cantarono le negne alla celeste bambina ed ella restò rapita e la sua bella anima uscì dal suo corpicino accompagnata da schierangeliche e girò terra e cielo andando raccogliendo tutto l'amore che in Dio aveva sparso in tutto il creato e penetrando nell'Empirio venne ai piedi del nostro trono e ci offrì il ricambio dell'amore di tutto il creato e pronunziò il suo primo grazie a nome di tutti. Oh, come ci sentimmo felici nel sentire il grazie di questa bambinella regina e le confermammo tutte le grazie di tutti, tutti i doni da farle superare tutte le altre creature unite insieme. Poi gettandosi delle nostre braccia, si deliziò con noi nuotando nel pelago di tutti i contenti restando abbellita di nuova bellezza, di nuova luce e di nuovo amore supplicò di nuovo per il genere umano pregandoci con lacrime che scendesse il Verbo Eterno a salvare i suoi fratelli ma mentre ciò faceva il nostro volere le fece conoscere che scendesse dalla terra e lei subito lasciò i nostri contenti e le gioie e si partì per fare che cosa? Il nostro volere quale calamita potente era il nostro volere abitante in terra in questa neonata regina non ci pareva più estranea la terra non ci sentivamo più di colpirla facendo uso della nostra giustizia avevamo la potenza della nostra volontà che in questa innocente bambina ci spezzava le braccia ci sorrideva dalla terra e cambiava la giustizia in grazie e in dolce sorriso tanto che non potendo resistere al dolce incanto il Verbo Eterno affrettò il suo corso Dato che questo è il primo brano degli scritti diciamo che parla in modo particolare per ripeterlo insieme a voi per ricordare proprio questa lezione se ce l'andiamo a me io sono una mente un po' schematica non mi piace fare i punti punto primo, punto secondo, punto terzo eccetera è un modo che mi riesce più facile poi di ricordare qualche cosa ho una mente meno discorsiva e più schematica alcuni hanno impostazioni diverse ma diciamo appunto uno come si trova però se vogliamo avere quattro punti di cui parla in questo passo mi piace che Gesù dice spiega quali sono i primi tre atti che la Madre Santissima ha fatto nel momento del suo concepimento quindi quando aveva ancora un seme dentro il seno di Sant'Anna e poi ci dice il primo atto che lei ha fatto quando è uscita fuori dal grembo di Sant'Anna quindi quando ha aperto i suoi occhietti quando è stata investita proprio da tutta la creazione allora ripetiamoci l'insieme perché ci danno un'idea della priorità di quale deve essere il nostro atteggiamento qual è la priorità dei nostri atti da fare nella Divina Volontà il primo atto che la nostra Madre Santissima ha fatto nel momento in cui venne concepita dotata di ragione divina avendo in sé la consapevolezza dell'orrore del peccato delle conseguenze che aveva portato dei dolori che avrebbe portato ad un Dio per salvare l'umanità non volendola neanche conoscere legò la sua volontà ai piedi dell'Eterno quindi il primo atto di Maria Santissima non ha fatto neanche un atto con la sua umana volontà il primo atto fu quello di legarla legare la sua umana volontà ai piedi dell'Eterno non c'è stato neanche un ti amo che Maria Santissima ha detto all'Eterno Padre un ti amo umano dice il primo atto di Maria Santissima appena è stata concepita avendo capito tutto lei dice ti amo ti amo no no lei dice che devo dire ti amo con la mia volontà neanche ti amo allora la prima cosa che ha fatto è dare la sua volontà all'Eterno il secondo atto per comprovare il primo è quello di dire non solo ti leggo la mia volontà ai piedi dell'Eterno ma mi offro a qualunque sacrificio per non fare mai la mia volontà questa è una prova che iniziò dal momento del suo concepimento ma siccome lei aveva ragione divina non è che è come me che io mi alzo la mattina e dico ah signore sono pronta a tutto pur di amarti poi appena mi si rompe un'unghia comincio a lamentarmi no lei aveva ragione divina la scienza impusa quindi per lei offrirsi a qualunque sacrificio pur di non fare la sua umana volontà lei già era stata colpita dalla conoscenza dalla meteora enorme le era chiombata addosso della conoscenza di tutto quanto avrebbe sofferto quindi la prova è forte perché lei sapeva l'entità la conoscenza è la vera prova perché sapeva l'entità della sofferenza che sarebbe andata incontro non è come noi che non sappiamo quindi la prima primo atto legare la sua volontà ai piedi dell'eterno il secondo la prova che poi corrisponde al quarto giorno no del libro della Vergine Maria quindi darsi a qualunque sacrificio pur di non fare la propria volontà il terzo che è quello di dare ha iniziato adesso poteva fare il primo atto nella divina volontà quello di dare gloria e onore a Dio in nome di tutte le creature poi quando esce alla luce del giorno dice ma vuoi sapere qual è stato il primo atto che fece questa creatura il primo atto che fece questa celeste creatura non quando venne concepita ma quando venne fuori alla luce del giorno cioè quando lei nacque fu partorita è quello di girò per tutta la creazione quindi entra in contatto nello spazio e nel tempo con tutte le opere ad extra essendo entrata proprio con il suo respiro con i suoi vagiti con le sue manine con il suo cuoricino con i suoi occhietti entra nella creazione fa un giro completo della creazione e dà a Dio un grazie in ogni cosa creata e in nome di tutti questo lo troviamo anche per esempio nel volume 18 il primo passo del volume 18 dice il ringraziare Dio per ogni cosa creata entra nel primo dovere della creatura quindi in perfetta armonia proprio con la legge eterna della divina volontà che era scritta nel suo cuore e nella sua anima appena esce dal grembo di Sant'Anna Maria Santissima in nome di tutte le creazioni e di tutte le creature e per tutto il creato compie il primo dovere di ogni creatura cioè gira per tutte le cose create in ciascuna dando voce e ragioni a ciascuna cosa creata e facendolo in nome di tutte le creature dà il primo grazie a Dio per la vita per le cose create e per tutto quanto Dio ha messo ad extra a servizio dell'uomo e poi ovviamente a questo corrisponde la festa della creazione come leggiamo anche nella Vergine Maria in cui la creazione fa festa e quindi riconoscono e dice guarda fino adesso loro la riconoscono e dice fino adesso dopo che Adamo si era ritirato dalla divina volontà non c'era stato nessuno che ci aveva dato voce non c'era stato nessuno che vivesse nella divina volontà come viviamo noi ma una creatura umana che ci potesse dar voce che potesse ricevere tutte le grazie l'amore che Dio ha messo in noi sto parlando come fosse una cosa creata allora le cose create riconoscono la madre regina e dice vedi i tempi della creazione i primi tempi gloriosi di Adamo prima del peccato sono ritornati sulla terra finalmente c'è sulla terra una creatura tutta di volontà di Dio e quindi loro possono compiere non più per il momento morire di dolersi di doglie di patto ma possono partorire in lei tutti i beni tutto l'amore tutta la grazia tutta la conoscenza che la divina volontà ha messo in loro e quindi Maria comincia a ricevere a ricevere e a poter ricambiare Dio per tutti e in nome questi innocenti trastulli dei primi tempi della creazione che si ripetono poi con Maria Santissima si interromperanno di nuovo con ovviamente con l'ascensione di Gesù e poi con la assunzione di Maria Santissima infatti Luisa nel volume 16 dice Gesù ma che mi stai a dire non godi tu dei trastulli no questi trastulli innocenti di avere sulla terra una creatura che vive pienamente nella divina volontà e che ci dà a noi trastulli innocenti della creazione ce l'ha avuti nei primi tempi della vita d'Adam ce l'ha avuti finché Gesù e Maria stavano sulla terra e adesso ce l'ho di nuovo perché la piccola figlia della divina volontà scorazza tra cielo e terra e continua a fare i suoi giri e adesso dobbiamo dire Gesù speriamo che non si sono interrotti che fa che questa catena non si sia mai interrotta e che possiamo noi darti gli trastulli innocenti dei primi tempi della creazione con i nostri atti e con una continua catena di anime che vivono nella divina volontà che questa catena non si interroppa più quando la divina volontà comincia ad operare nuovamente sulla terra in una creatura è l'inizio del giorno è l'alba nel linguaggio della divina volontà l'alba l'aurora in tutte le fasi quindi comunque c'è il sole c'è la luce il giorno giorno uguale tempo stato in cui la divina volontà opera notte uguale stato tempo in cui la divina volontà non opera o opera l'umana volontà o opera la volontà diabolica infatti è bello vedere a volte noi diciamo pensiamo il sole questa cosa romantica però tutte queste queste non mi piace parlare di simbologia ma di fatto il fatto che abbiamo una luce il sole eccetera sono proprio riflessi è una creazione naturale che ci parla di come opera la divina volontà di fatto noi lavoriamo di giorno di notte non lavoriamo di notte non esiste allora il fatto di operare di giorno anche nella nella genesi vediamo quando dio ha creato il primo giorno poi alla fine di ogni giorno com'è che dice in italiano l'inglese dice evening came and morning followed cioè venne la sera e ricominciò il mattino ecco quindi non parla della notte è come se viene la sera e ricomincia l'altro giorno quindi Gesù Dio crea si ferma fa un altro un giorno della creazione poi comincia un altro giorno questi due giorni non sono intervallati da una notte perché è la divina volontà che opera continuamente e quindi perché dice l'anima che vive nella divina volontà sta sempre nel pieno giorno nel pieno meriggio non c'è mai notte e la lezione qui di nostra amare santissima vedi con l'umana volontà ci sono le tenebre delle passioni quindi si assolta sempre la divina volontà con gli atti l'operare con il giorno con la luce e l'umana volontà con le tenebre con il buio con l'impossibilità di operare nel divino volere quindi questa è una cosa bella per cui fai sorgere poi diremo pure fai sorgere me l'alba della divina volontà nell'anima mia e quindi inizia a farmi operare sempre nella divina volontà solo per ripetere quello che si era detto prima questo ecco quando Gesù inizia a parlare in modo più specifico nei giri della creazione quando Luisa dice entravo nella creazione questo lo iniziamo a vedere dal volume 18 19 20 sono tutti sulla creazione il primo passo del volume 18 dice come ricambiare Dio in amore per tutte le cose create entra nel primo dovere della creatura quindi il nostro primo dovere è proprio riconoscere il dominio divino in ogni cosa creata e ricambiare il adorarlo e ricambiarlo in amore questo è il primo dovere possiamo vedere come ben nostra Madre Santissima lo ha assolto il primo atto di Maria Santissima al momento del concepimento al momento della nascita al momento del concepimento il primo atto di Maria Santissima ci dice quel passo dell'8 dicembre 1922 il primo atto di Maria Santissima nel grembo di Sant'Anna nel momento in cui venne concepita fu quello di dare la sua volontà in preda in valia all'eterna e quindi già da allora si era fusa tutta nella divina il secondo atto quello di offrirsi offrire sia a qualunque sacrificio pur di non fare mai la sua umana volontà il terzo atto cominciò a girare già ad adorare ad amare quando poi è uscita dal grembo di Sant'Anna proprio anche con i suoi occhietti con le sue manine con il suo piccolio ha detto il suo primo grazie quindi ha fatto un giro nella creazione anche ecco con i sensi con tutta la sua persona e quindi questo l'ha iniziato a fare già nel momento del suo concepimento perché il suo primo atto fu quello di dare l'umana volontà sua a quella di Dio senza di questo atto di fusione che stiamo per fare che comunque abbiamo già fatto se c'è un primo o un dopo Giuseppe senza di quest'atto di fusione della sua volontà in quella di Dio lei non ha detto neanche un ti amo quindi non c'è neanche un ti amo umano in Maria Santissima tutto nella volontà di Dio ma per noi che non siamo stati siamo ma c'è un primo un dopo per noi sì o no perché a questo punto è meglio fare prima se esiste un meglio fare prima la fusione con la manità di Gesù e con la sua volontà divina e poi fare quegli piccoli giro o viceversa diciamo che nella logica sì nella logica è meglio prima fondersi però chi di noi stamattina non ha detto Gesù tutto nella tua volontà vieni tu a respirare in me a palpitare in me quindi a un certo punto non importa perché voglio dire noi li ripetiamo continuamente però giustamente come logica come priorità ovviamente noi prima ci fondiamo nella divina volontà e poi possiamo agire all'interno di questa divina volontà è ovvio qui Marina che cosa ci dici con diritto di giustizia secondo te che dice perciò vogliamo che la creatura in tutte le cose create con diritto di giustizia perché ci dia ricambio che ci avrebbero tanto se tutta la creazione avesse ragione con diritto di giustizia e cosa vuol dire con diritto di giustizia secondo te e no sentiamo prima secondo qualcuno di voi perché Dio ha diritto assolutamente di avere ricambio d'amore visto che ha creato tutto e noi ci assolutiamo per noi in tutte le cose ha diritto per giustizia è giusto che sia così che diamo il ricambio d'amore in tutte le cose no? sì e questo diritto di giustizia è come se Gesù stesso lo troviamo nel Vangelo dice date a Dio quello che è di Dio date a Cesare quello che è di Cesare allora così come si parla tanto di diritti umani magari diritti di Cesare ci sono e soprattutto ci sono i diritti di Dio se Dio ha creato qualcosa dal nulla e quel qualcosa dal nulla l'ha creato con un certo scopo è suo diritto che quella creazione che quella creazione compia lo scopo perché lui l'ha creata quindi è un atto giusto che la creatura dia amore ritorni amore al creatore attraverso tutte le cose create perché questo è lo scopo per cui Dio ha creato le cose create e ha creato l'uomo quindi ciò che è giusto vuol dire ciò che entra nell'ordine divino ciò che rispetta compie l'ordine è lo scopo che ha messo Dio in tutte le cose quando quest'ordine si rompe c'è la ingiustizia cioè si rompe quest'ordine e in qualche modo quest'ordine deve essere ricomposto allora Gesù dice quando non ci riesco per via d'amore ci devo riuscire per via diciamo di castigli però non dobbiamo immediatamente quando noi sentiamo la parola giustizia la colleghiamo immediatamente all'aspetto negativo l'aspetto negativo dei castigli cioè colleghiamo la giustizia ad un concetto positivo la giustizia è una virtù divina allora la giustizia è l'ordine delle cose quindi il dare gloria a Dio in tutte le cose create è prestare noi la nostra ragione alle cose create perché Dio l'ha voluta mettere in noi non nelle cose create perché per ordine divino era proprio che voleva che le cose create gli dessero gloria attraverso la ragione che l'uomo gli prestava questo è un atto giusto perché risponde proprio all'ordine allo scopo all'origine per cui Dio ha creato queste cose e quindi questa è la giustizia quindi per diritto e dovere di giustizia l'uomo deve fare questo è un diritto divino ed è anche un dovere dell'uomo il primo passo del volume 18 dice ricambiare Dio d'amore in tutte le cose create entra nel primo dovere della creatura non soltanto è un dovere della creatura ma io direi è un diritto anche della creatura nessuno ci può togliere questo diritto ci possono togliere ci possono espropriare qualcosa gli uomini ma nessuno ci può togliere il possesso completo del creato noi magari non avremo mai la possibilità o il diritto umano di andare su un'astronave e andare sulla luna ma nessuno mi può togliere il diritto divino di possedere la luna perché io possiedo l'atto di Dio che crea la luna che mantiene la luna e possiedo e ricevo dalla luna tutti i canali di grazie di amore di dolcezza di nascondimento di tenerezza di amore materno che Dio ha messo nella luna ricevo tutte queste canali e siccome la luna non ha ragione io do con diritto sacrosanto mio ragione alla luna perché la luna possa gridare gloria gloria a Dio questo è un mio diritto dovere che nessuno né in cielo né in terra mi può togliere dove esiste il castino allora quando sentiamo la parola giustizia ci imbrogliamo la giustizia è l'armonia di tutto quello che Dio ha stabilito nel creato e per l'uomo e quindi con diritto di giustizia Dio vuole che lo scopo per cui ha creato le cose e il modo in cui vuole che questo scopo sia soddisfatto venga realizzato e questo è un diritto completo di giustizia dell'uomo e un diritto dovere di Dio e un diritto dovere da parte dell'uomo è chiaro è chiarissimo è bellissimo questo passo è bellissimo pensare e dice ma io quasi quasi ma che faccio gli do una ragione al sole così senza aspettare l'uomo il sole con la sua intelligenza mi dia gloria a Dio gloria quanta gloria ci avrebbe dato il sole ma l'amore il grido dell'amore il grido più forte della giustizia no la ragione la dai all'uomo perché per lui ha creato queste cose a lui la ragione sarà lui che presterà ragione al sole quindi Dio si è legato alle mani o noi entriamo nella divina volontà e nella divina volontà prestiamo ragione giriamo nelle cose create per prestare voce ragione canto lode a tutte le cose create perché loro possano dare gloria a Dio o le cose create continueranno a dolere di doglie di parto e Dio non potrà ricevere dalla creazione la gloria che lui deve ricevere si è legato alle mani lui dipende da noi da noi dipende il compimento dello scopo della creazione quando ci decidiamo a fare il nostro diritto dovere nella divina volontà che bello due sole cose stanno loro a cuore desiderano agognano due punti la volontà mia e l'amore poco altro hanno da fare e intanto fanno tutto parola di Dio è il volume 6 18 novembre del 1904 il cielo di Gesù sulla terra sono le anime che danno la mutazione alla sua dignità trovandomi nel solito mio stato scrive Luisa quando appena è venuto il mio adorabile Gesù mi ha detto figlia mia il mio cielo quando venne in terra fu la mia umanità e come nel cielo si vedono la moltitudine la moltitudine delle stelle il sole la luna i pianeti l'anchezza tutto messo in bell'ordinanza immagine questo del cielo che esiste di sopra dove tutto è ordinato così la mia umanità essendo mio cielo doveva trasparire fuori l'ordine della divinità che abitava di dentro cioè le virtù la potenza la grazia la sapienza ed altro ora quando il cielo della mia umanità dopo la risurrezione è asceso al cielo il mio cielo sulla terra doveva continuare a sussistere e questo sono le anime che danno l'abitazione alla mia divinità ed io abitando in loro mi formo il mio cielo e mi faccio trasparire anche fuori l'ordine delle virtù che mi stanno di dentro ora qual è l'onore della creatura nel prestare il cielo al creatore ma oh quanti me lo negano e tu non vorresti essere il mio cielo dimmi che lo vorresti certo e Dio dice Luisa signore non voglio altro che essere riconosciuta nel tuo sacco nelle tue piaghe nella tua umanità nelle tue virtù solo in questo vorrei essere riconosciuta per essere il tuo cielo ed essere sconosciuta da tutti e ci sono provato le mie proposte ed è scontato quest'atto per esempio in questo passo che abbiamo già letto questo passo che abbiamo letto è un atto è un giro nell'atto della divina volontà che fa nel cielo nell'atto chiamato cielo quindi il giro negli atti della divina volontà nella creazione sono dovunque è bella questa cosa che Gesù batte sul fatto che il cielo cosa creata così immenso così infinito così grande che contiene tutto le stelle è proprio l'immagine è l'atto visibile della immensità della capacità immensa che è la divina volontà e che è l'anima e che è Dio e questa capacità immensa tersissima purissima infinita deve riempirsi delle cose più belle delle opere di Dio quindi quando pensiamo al cielo diciamo cielo diciamo atto di divina volontà di infinità di infinita capacità nessuno può immaginare che il cielo non basti per metterci dentro qualche altra stella no non sappiamo neanche i confini del cielo per cui l'anima è cielo perché è la dimora di Dio infinito la divina volontà è cielo perché è capacità infinita per poter contenere le qualità divine Dio stesso nell'operare quindi l'operare divino gli atti divini la vita divina e vediamo come nel creato Dio ci ha dato l'immagine di questo con le stelle infinite pensiamo che ogni stella sia un atto di volontà divina che lo stesso sole sia il centro che è Dio da cui parte tutta la luce e quindi mi piace ecco insieme con voi entrare in questo atto della divina volontà chiamato cielo che deve essere la nostra capacità per poter ricevere non solo l'umanità di Gesù l'umanità risorta quindi sole splendente ma tutti gli atti che la divina volontà vuol fare in noi e allora Gesù ti dice no e tu vorresti essere il mio cielo sì sì che lo vorrei come abbiamo detto insieme quindi l'anima è riflesso può essere riflesso di Dio riflesso tutto ciò che contiene Dio sì sì è l'atto della infinita capacità l'atto del vuoto puro e tersissimo che va riempito di Dio e degli atti e delle opere di Dio si chiama cielo quest'atto di volontà divina si chiama cielo e per capirlo il Signore ce l'ha fatto ci fa vedere quell'azzurro immenso e quindi possiamo capire quest'atto di volontà divina che è capacità infinita immensità infinita terza purissima che deve riempirsi di Dio delle opere di Dio tramite l'atto chiamato cielo quindi per noi nel fare per esempio il giro nella divina volontà nelle opere creato non soltanto mettiamo il nostro ti amo nel cielo ma come dice Gesù l'anima deve ricevere deve contenere tutte le opere di Dio quindi non solo noi mettiamo il nostro ti amo nel cielo per capire che cosa fa la divina volontà nel cielo il ti amo dà il diritto di possesso ma poi c'è la compagnia facciamo compagnia a Dio nell'atto chiamato cielo non soltanto facciamo compagnia ma poi lo possediamo e lo inglobiamo dentro di noi ed ecco che iniziamo a diventare copia delle opere di Dio e abbiamo in noi quell'atto chiamato cielo e questa è la funzione del giro dell'anima negli atti della divina volontà nella creazione perché noi li possiamo copiare e replicare in noi e il cielo è il primo atto tant'è vero che prima di mettere le cose dentro bisogna avere la capacità il contenitore infinito e quindi il cielo è proprio l'atto primo del giro dell'anima nella creazione Gesù negli scritti dice anche che il possedere significa dominare bellissimo sì a me piace fare questo crescendo nel leggere gli scritti di Luisa e in particolare ai giri nella creazione diciamo quando il primo atto in cui Gesù invita Luisa a entrare nella creazione lo si trova nel volume 12 quando Gesù chiama Luisa mi pare il 20 febbraio del 19 a guardare insieme con lui la maestà divina che mette fuori tutta la macchina della creazione e in questa macchina della creazione dice ci sono tante relazioni tra la mia umanità e il creato io davo gloria a Dio allora se poi entriamo nei volumi 19 e 20 dove Luisa in modo più insistente entra spesso negli atti della creazione mi piace fare come un crescendo vedere come si evolvono i suoi atti cioè lei prima quando entra nella creazione riconosce la potenza divina riconosce Dio nella cosa creata nell'atto quindi l'atto di riconoscere poi adora adora la maestà suprema nel mettere fuori quindi contempla poi ripara perché dice vedi io lo riconosco lo vedo e non tante creature ricevono le cose create il fuoco l'acqua l'aria eccetera ma non la riconoscono quindi questo già si trova nel volume 14 dopo al volume nel volume 17 c'è il ti amo e inizia il giro con il ti amo quindi Gesù inizia a invitare Luisa dopo il riconoscere il dominio divino dopo la riparazione il dolore per chi non lo riconosce dice inizia a mettere il tuo ti amo e lei era talmente ignorantella che diceva io non so fare altro che mettere il mio ti amo e questo lo fa per anni e anni e dice Gesù io non so fare niente e quando ventro negli atti della creazione che dire il ti amo e dice Gesù certo il ti amo è tutto il ti amo è amore adorazione è stile è eroismo è sacrificio è fiducia questo è nel volume 17 e poi dice il ti amo dà il diritto di possesso dà il diritto di possesso con il diritto di possesso c'è anche la compagnia poi il possedere il possedere che vuol dire come diceva Rossana dominare non soltanto possedere e dominare ma a quel punto se l'anima possiede l'anima può internalizzare può mettere l'atto dentro di sé quindi possedere internalizzare e poi le fa fare gli dà voce gli dà ragione fa fare a quell'atto quello che vuole cioè venga il tuo regno e poi alla fine c'è questo 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 acme assoluto in cui l'anima dice prende la stessa potenza creatrice e dice tu hai fatto per me cielo, sole, terra e mare e io cielo, sole terra e mare creo per te quindi l'anima che si appropria della potenza creatrice e crea per Dio quello che Dio ha creato per lei e quindi riconoscere la potenza divina il sostituire il riparare il ti amo la compagnia il possesso il dominio l'internalizzare il venga il tuo regno e il creare per Dio questo è tutto il crescendo degli atti che fa la divina volontà nella creazione è quello che Luisa pian piano impara a fare con gli atti della creazione non so se mi sono spiegata però questo lo si vede se si mettono insieme tutti i passi in cui Luisa parla della creazione soprattutto nel volume 20 si vede questa ascesa prima non sa fare altro che mettere il ti amo poi inizia a fare la compagnia poi inizia a possedere poi inizia a dominare poi inizia a internalizzare per creare la copia in se stessa poi inizia a farle fare alla creazione con la voce con la ragione quello che vuole lei dice che cosa voglio io voglio quello che vuole Dio venga il tuo regno e quindi il cielo chiede venga il tuo regno il sole grida venga il tuo regno il filo d'erba grida venga il tuo regno e immaginiamo quale grande progresso è stato fatto che addirittura la creazione la volontà divina operante nella creatura fa fare alla creazione quello che vuole Dio e la domina perché la usa per chiedere venga il tuo regno con ragione e con voce e poi alla fine crea per Dio quello che Dio ha creato per lei quindi è bellissimo vedere questa ascesi degli atti che l'anima fa con gli atti nella creazione quindi è un ascesi del giro dell'anima nella creazione ovviamente noi non possiamo fare sempre tutto magari una volta ci fermiamo semplicemente a riconoscere il dominio divino una volta mettiamo il ti amo una volta diciamo venga il tuo regno l'importante però che conosciamo tutta questa gamma di atti uno dopo l'altro che l'anima nella divina volontà può fare nella creazione per veramente ricevere e replicare la creazione in sé e per far compiere alla creazione lo scopo per cui è stata creata ed è importantissimo quindi ecco è importante questo è importante non considerare il giro quel librettino ah ecco il librettino no 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 il giro nell'anima dell'anima negli atti della creazione è una cosa infinita una cosa che non si può limitare ad una ad una frasetta è una potenzialità infinita di atti che vada a riconoscere Dio all'entrare in questi atti per mettere il ti amo la compagnia il possesso il dominio eccetera eccetera è tutta una gamma di atti che l'anima può fare in miliardi di modi diversi e questo è quello che Gesù ci insegna tramite Luisa perché ogni volta le fa fare una cosa diversa e c'è sempre un crescendo se li mettiamo uno dopo l'altro vediamo che proprio grazie al fatto che lei aveva messo il ti amo quasi come una pappardella per tanti anni e questo ti amo ha spaccato le cose create e ha fatto uscire la divina volontà e Luisa l'ha potuta capire dice finalmente capisco quello che fai e Luisa chiede Gesù divina volontà che fai nelle pietre svelati e Gesù dice metti il tuo ti amo continua a mettere il tuo ti amo e vedrai che la pietra si svelerà e la divina volontà nella pietra ti svelerà l'atto di divina volontà chiamato pietra l'atto di solidità l'atto di fermezza l'atto di irremovibilità l'atto di incessante è così per ogni cosa creata dalla lumaca alla formica è bello chiedere alla divina volontà che fai divina volontà in questi anni e se non è la scienza che ci viene rivelata da Dio è bellissimo è la scienza è la dottrina è la scienza di tutte le cose bellissimo molto bello dal volume 16 volume 16 29 maggio del 24 il dolore degli apostoli nel vedere salire Gesù al cielo è bene che parto di questo dolore lezione a Luisa sul dolore della privazione di Gesù stavo pensando scrive Luisa quando il mio dolce Gesù se ne andò al cielo nella sua gloriosa ascensione e quindi il dolore degli apostoli nel restare privi di un tanto bene e il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia il più grande dolore di tutti gli apostoli in tutta la loro vita in tutta la loro vita fu restare privi del loro maestro credo bene non è quando è morto perché quello è stato passato di Maria Santissima solo Maria loro quando lui è salita al cielo certo come mi vedevano salire al cielo il loro cuore si struggeva nel dolore della mia privazione e molto più fu acuto e penetrante questo dolore perché non era un dolore umano una cosa materiale che perdevano ma un dolore divino era un dio che perdevano e sebbene io avevo la mia umanità ma siccome risorse era spiritualizzata e glorificata quindi tutto il dolore fu nelle loro anime che penetrandoli tutti si sentivano struggere tutto nel dolore da formare in loro il più straziante e doloroso martirio ma tutto ciò era necessario per loro si può dire che fino allora non erano altro che tenere i bambini nelle virtù e nella conoscenza delle cose divine e della mia stessa persona potrei dire che stavo in mezzo a loro e non mi conoscevano né mi amavano davvero ma quando mi videro salire al cielo il dolore di perdermi squarciò il velo e mi conobbero con tale certezza che io ero il vero figlio di Dio il dolore intenso di non più vedermi in mezzo a loro partorì la fermezza nel bene la fortezza di tutto soffrire per amore di colui che avevano perduto partorì la luce della scienza divina tolse loro le fasce dell'infanzia e li formò uomini impavidi non più paurosi ma coraggiosi il dolore li trasformò e formò il vero carattere di apostoli ciò che non potessero ottenere con la mia presenza lo ottennero col dolore della mia privazione ora figlia mia una piccola lezione a te a noi la tua vita si può dire un continuo dolore di perdermi e una continua gioia di acquistarmi ma tra il dolore della perdita e la gioia di acquistarmi quante sorprese non ti ho fatto quante cose non ti ho detto è stato il dolore il doloroso martirio della mia perdita che ti preparava e ti disponeva a sentire le sublime lezioni sulla mia volontà di fatti quante volte a te pareva ad avermi perduto e mentre tu eri immersa nel tuo straziante dolore io ritornavo a te con una delle più belle lezioni sulla mia volontà e facevo ritornare la nuova gioia del mio acquisto per disporti di nuovo al trafiggente dolore della mia assenza posso dire che il dolore di restare priva di me ha partorito in te gli effetti il valore le cognizioni il fondamento della mia volontà era necessario il comportarmi con te in questo modo cioè di venire spesso spesso da te e di lasciarti in preda del dolore di restare priva di me avendo io stabilito di manifestarti in modo tutto speciale tante cose sulla mia volontà dovevo lasciarti in preda ad un continuo dolore divino perché la mia volontà è divina e solo sopra un dolore divino poteva fondare il suo trono e distendere il suo dominio e atteggiandosi a maestro comunicava la conoscenza della mia volontà per quanto creatura possibile il dolore fa sempre spazio a nulla delle altre cose molti si meravigliarono nel sentire le mie continue viste che ti ho fatto si meraviglieranno nel sentire le mie continue viste che ti ho fatto ciò che non ho fatto ad altri ed il tuo continuo dolore della mia privazione se tu non mi avessi veduto tante volte non mi avresti conosciuto né amato tanto perché ogni mia visita porta una conoscenza di più di me e un nuovo amore e quanto più l'anima mi conosce e mi ama più dolore si raddoppia ed io nel venire andavo stuzzicando più forte il tuo dolore perché voglio che alla mia volontà non manchi il nobile corteggio del dolore che costituisce l'anima ferma e forte da poter la mia volontà formare in lei il mio stabile soggiorno e darle lezioni nuove e continue sulla mia volontà perciò te lo ripeto lasciami fare e fidati di me è bello vedere la lezione cioè che cos'è poi ci sta anche un altro passo che ho visto che segue stavo leggendo proprio l'altro giorno del volume 34 ci sono tre passi sull'ascensione questo del volume 16 poi c'è uno del volume 34 e uno del volume 35 dove dice io parto e resto parto e resto la prima lezione cioè il primo atto dell'ascensione è proprio rivolto verso gli uomini verso gli apostoli verso il basso come per dire quello che non ho potuto ottenere con tre anni di vita in comune con loro che ci mangiavo ci dormivo e li accudivo eccetera eccetera erano sempre dei bambini nelle cose spirituali ci avevano ancora le fasce dei lattanti nella vita cristiana ma quel dolore quello strappo atroce di vedermi salire al cielo ha maturato in loro in un istante in pochi secondi quello che non era potuto succedere con tanti con diversi anni insieme e proprio per questo dice Gesù è per poter mandare il paraclito il paraclito io devo andarmene via e quindi quel dolore squarciò il velo e conobbero con certezza chi io ero quindi la privazione come diceva Grazia è quello strappo che crea il vuoto e per poter mettere le grazie più grandi Dio vuole il vuoto vuole il cielo ecco Gesù saliva al cielo e quello strappo creava nell'anima il cielo vuoto per poter mettere quelle grazie perché era ancora pieno di tante cose umane di attaccamento umano alla persona di Gesù infatti pure Luisa era attaccatissima all'umanità di Gesù ma quando Gesù ha dovuto sottrarla alla sua umanità farle provare la privazione proprio per slanciarla nel cielo degli atti della divina volontà se la umanità di Gesù fosse sempre stata visibile a Luisa Luisa vi sarebbe rimasta attaccata come per succhiare tutto dal seno di Gesù e dalle piaghe di Gesù è sempre rimasta attaccata all'umanità di Gesù invece a un certo punto Gesù comincia a egliessarsi ed è allora che la slancia nel cielo infinito di luce degli atti della divina volontà perché altrimenti lei si sarebbe fermata all'umanità di Gesù mentre l'umanità di Gesù è più piccola della divina volontà l'umanità di Gesù è il centro della divina volontà e chi vive in essa vive in questo centro come leggiamo nel volume 18 ma l'anima deve slanciarsi in tutti gli atti della divina volontà non solo quelli dell'umanità di Gesù ma anche come dicevamo della creazione dell'ordine della grazia di tutto quanto e quindi per questo Gesù doveva eclissare la sua presenza e anche perché appunto creare questo vuoto della conoscenza che aveva messo per creare maggiore capacità per poter mettere quelle verità infinite una treccani divina di conoscenze ci voleva una capacità infinita e questa capacità la poteva ottenere soltanto con l'alternanza come dice Gesù con Luisa la tua vita è un'alternanza tra il vedermi e il sentirti privata di me nel ricevere le conoscenze lei lo conosceva di più conoscendolo di più lo amava di più e poteva fare atti più completi più ricchi più pieni di vita poi per ricevere maggiore capacità Gesù creava il vuoto di questa conoscenza e lei si sentiva priva della vita di cui non poteva fare a meno e questa pena della privazione della vita di Luisa che era diventata la vita la vita di Gesù era la vita di Luisa creava lo spazio per mettere nuove conoscenze quindi il segno che tu hai questa pena della privazione dice Gesù a Luisa è il segno che tu mi hai conosciuto che io da te sono venuto quanti sono privi di me e neanche se ne accorgono e quindi la vita di Luisa questa alternanza continua fecondare nuove conoscenze nuove verità tramite la pena della privazione e ricevere nuove conoscenze nuove verità tramite la percezione della vicinanza dell'umanità di Gesù e quindi uno strazio continuo un tiremollo continuo che doveva servire proprio un'alternanza di apparente buio a luce però il buio era ancora più fecondo della luce perché serviva a creare lo spazio e il cielo per mettere nuova luce e nuove verità nel cielo dell'anima di Luisa e quindi è bella questa altra lezione dell'ascensione di Gesù che ci chiarifica proprio l'alternanza della vita spirituale la conoscenza e la privazione la conoscenza e la privazione percepita che è la stessa pena che ha subito Gesù poi con il padre e poi quella terza lezione che vedremo nel prossimo capitolo è quella che Gesù dice così come nell'ascensione io insomma sono partito ma sono rimasto e così l'anima può dire che vive nella divina volontà io salgo ma resto vado al cielo per beatificarlo per portare il mio Gesù per beatificare addirittura le anime del cielo con l'atto mio che contiene Gesù e resto per supporto vita e sostegno dei miei fratelli e sorelle qui sulla terra e quindi l'anima che vive nella divina volontà può dire con Gesù così come Gesù nel santissimo sacramento nell'ascensione così l'anima dice io parto e resto quindi l'anima sta in cielo e sta in terra si biloca come Gesù quindi continuiamo ciò che stavi dicendo il volume 34 20 maggio del 36 Fiat differenza che passa tra chi chiama la divina volontà negli atti suoi e chi fa le opere buone senza di esse magari costruiamo ospedale facciamo chissà che cose ma senza la divina volontà e rischia di essere fenotropia l'ascensione come Gesù partiva per il cielo e restava sulla terra Sire Luisa la mia povera mente continua a girare negli atti della divina volontà e pensavo tra me qual è la differenza tra chi chiama la divina volontà negli atti suoi e quelli che fanno le opere buone e non la chiamano non le danno al primo posto negli atti loro mia dolce Gesù facendomi la sobra e visitina mi ha detto figlia mia non c'è da paragonarsi l'uno e l'altro il primo col chiamare la mia volontà negli atti suoi si spoglia di ciò che è umano e forma il vuoto nel suo volere umano dove dare il posto alla mia volontà la mia volontà appellisce santifica forma la sua luce in quel vuoto poi pronuncia il suo fiat creante e chiama vita il suo operato divino nell'umano e la creatura non solo partecipa ma resta proprietaria dell'atto divino il quale possiede la potenza l'immensità la santità e il valore divino che non si esaurisce mai perciò in chi vive nel nostro volere noi guardiamo e troviamo noi stessi e i nostri atti che ci onorano e ci fanno corona invece in quelli che fanno le opere buone ma non animati dal nostro volere noi non troviamo noi stessi ma l'atto finito della creatura e siccome noi non ci sappiamo tenere nulla di qualunque bene che essi fanno diamo loro il merito come mercede la mercede non è proprietà che può sempre produrre quindi queste anime simboleggiano quelli che vivono alla giornata che sebbene vivono stentatamente della mercede che hanno ma non si fanno mai ricchi sentono sempre il bisogno di essere pagati dei loro lavori per vivere e se non lavorano passano a pericolo di morire di fame cioè di non sentire la sazietà del bene la vita delle virtù ma la squallida miseria delle passioni invece per chi vive nel nostro volere tutto è abbondanza noi le diciamo prendi ciò che vuoi e quanto più prendi e quanto più puoi prendere anzi mettiamo a disposizione tua le nostre ricchezze la nostra luce la nostra santità il nostro amore perché ciò che è nostro è tuo e ciò che è tuo è nostro non resta altro che è vivere ed operare insieme magari ci fermiamo un pochino dato che questo è un altro argomento però si rifà a quello che abbiamo detto prima il cielo perché Gesù dice veramente la differenza se ci rendiamo conto qual è la differenza incredibile tra chiamare la divina volontà nei nostri atti e fare semplicemente una cosa buona se veramente ci rendiamo conto dice Luisa a Gesù quanto è importante l'atto attuale cioè quello di chiamare la divina volontà in tutti i nostri atti e Luisa dice nel volume 14 ah ahimè quanti me ne faccio sfuggire e Gesù dice c'è l'atto preventivo e l'atto attuale quindi l'importanza del chiamare la divina volontà che sembra una cosa così senza un effetto rispetto a fare un'opera buona eccetera ma il solo fatto di chiamarla crea il vuoto in noi il vuoto dell'umano il vuoto dei pensieri umani dell'aspettativa umana il vuoto dell'umana volontà quindi fa l'atto primo della creazione di Dio nell'anima cioè crea il cielo il vuoto il vuoto assoluto quando c'è il vuoto assoluto che non è compatibile con nessuna cosa umana aspettativa umana merito umano intenzione umana virtù umana niente questo vuoto della divina volontà che si vuole formare nell'anima non è compatibile con nessun'altra intenzione virtù umana mentre nelle altre santità nelle altre spiritualità ci si mescola sempre tutto l'umano e il divino c'è sempre qualcosa di impuro nella divina volontà è la spiritualità divina il vivere divino assolutamente radicale la divina volontà non si abbassa a condividere lo spazio con nulla di umano se poi dice vuoi qualcosa di umano io ti do la mercede ti do la ricompensa vuoi il tuo premio vuoi il tuo piccolo merito vuoi la caramella te la do però hai perso un atto divino quindi nel chiamare la divina volontà nei nostri atti si forma il vuoto assoluto questo vuoto assoluto è il reso cielo immaginiamo che istantaneamente nella nostra umana volontà si forma questo vuoto dove se c'era qualche macchia viene smacchiata se c'era qualche spina viene polverizzata se c'era qualche chiodo viene frantumato e quindi la divina volontà forma il cielo quindi la capacità infinita immensa il vuoto infinito purissimo e quindi nell'anima l'abbellisce la santifica e forma la sua luce in questo vuoto e poi istantaneamente che fa? il vuoto mica lo lascia vuoto no comincia subito a dire fiat per metterci le stelle il sole il cielo e dice abbiamo chiamato la divina volontà nel nostro atto si forma il vuoto la divina volontà lo abbellisce lo purifica lo smacchia lo santifica e poi che fa? pronunzia il suo fiat creante e ci mette il suo operato nell'umano quindi via con le stelle con le costellazioni con il cielo con le opere divine nell'anima e quindi la creatura non solo partecipa a questa attività ma diventa proprietaria quindi in queste quattro righe vediamo chiamare la divina volontà vuol dire formare il vuoto la divina volontà svuota completamente questo vuoto lo abbellisce lo santifica lo crea cielo divino poi che fa? numero 3 pronunzia il suo fiat in questo vuoto e inizia a creare inizia a metterci tutte opere divine l'operare divino cioè che cosa vuol dire? le qualità divine la potenza la sapienza l'amore la misericordia la giustizia si mettono in moto con questo fiat creante si mettono in moto e creano atti divini e quindi come se si formano nel cielo dell'anima la stella della potenza la stella la costellazione della virtù tutte virtù divine e quindi la creatura non soltanto partecipa a questo operato divino ma diventa proprietaria e quindi vediamo che tutto questo è il risultato del semplice chiamare la divina volontà negli atti nostri senza nessun interesse personale senza nessun pensiero di noi stessi dice Gesù a Luisa i chiodi che ti devono crocifiggere continuamente sono numero 1 mancanza del pensiero di te stessa numero 2 nessun interesse personale quindi il chiamare la divina volontà continuamente più volte al giorno più volte al minuto più volte in quanto possiamo fare senza interesse personale e senza pensiero di noi stessi produce questo vuoto abbellito e divinizzato in cui la divina volontà pronunzia il suo atto creante inizia a formare la creazione divina nell'anima immaginiamo quella differenza tra questo e fare il bene umano dice puoi fare un ospedale puoi fare un ordine religioso puoi fare la carità ma resti in mano con la monetina della tua ricompensa che squallore e quindi che bello vedere capire poter capire questa differenza tra il chiamare la divina volontà negli atti nostri e fare semplicemente un'opera buona ma senza chiamare la divina volontà sembra una cosa da niente sembra una differenza da niente eppure ci passa il cielo in mezzo e quindi questa è una bellissima verità una bellissima lezione per poterci spingere sempre di più e sempre più instancabilmente incessantemente senza pensare a noi stessi senza pensare ai risultati senza pensare a cosa si produce ma semplicemente per fare la divina volontà chiamarla in tutti i nostri atti luisa continua sempre volume 24 il 20 maggio del 36 dopo di ciò stava accompagnando l'ascensione di gesù al cielo come era bello tutto maestà vestito di luce fulgidissima che rapiva ed incantava il cuore ed amarlo incatenava grazie incatenava il cuore ed amarlo ed il mio dolce Gesù tutto bontà ed amore mi ha detto figlia mia benedetta non vi è tratto della mia vita che non si boleggia il regno della mia divina volontà in questo giorno della mia ascensione io mi sentivo vittorioso e trionfante le mie pene erano già finite anzi lasciavo le mie pene già sofferte in mezzo ai miei figli che lasciavo sulla terra per aiuto per forza e per sostegno e come rifugio dove nascondersi nelle loro pene per attingere dalle mie l'eroismo nei loro sacrifici posso dire che lasciavo le mie pene i miei esempi e la mia stessa vita come semenza che maturandosi e crescendo dovevo far sorgere il regno della mia divina volontà sicché partivo e restavo restavo in virtù delle mie pene restavo nei loro cuori per essere amato dopo che la mia santissima umanità saliva al cielo sentivo più stretto il vincolo dell'umana famiglia quindi non mi sarei adattato a non ricevere l'amore dei miei figli e fratelli che lasciavo sulla terra restai nel santissimo sacramento per darmi continuamente a loro e loro a darsi a me per far loro trovare il riposo il ristoro e il rimedio a tutti i loro bisogni le nostre opere non soffrono di mutabilità ciò che facciamo una volta ripetiamo sempre oltre di ciò in questo giorno della mia ascensione io avevo doppie corone la corona dei miei figli che portavo con me nella patria celeste e la corona dei miei figli che lasciavo sulla terra simbolo essi dei pochi che saranno principio del regno della mia divina volontà tutti quelli che mi videro asceso al cielo ricevettero tante grazie che tutti misero la vita per far conoscere il regno della redenzione e gettarono le fondamenta per formare la mia chiesa per far raccogliere nel suo grembo materno tutte le umane generazioni così i primi figli del regno della mia volontà saranno pochi ma saranno tali e tante le grazie di cui saranno investiti che metteranno la vita per chiamare tutti a vivere in un regno in questo regno santo regno metteranno la vita per chiamare tutti a vivere in questo santo regno una nube di luce mi investì la quale tolse alla vista dei discepoli la mia presenza i quali stavano come statue nel guardare la mia persona perché era tanto l'incanto della mia beltà che teneva rapite le loro pupille tanto che non sapevano abbassarle per guardare la terra tanto che ci volle un angelo per scuotermi e farle ritornare al cenacolo anche questo è simbolo del regno del mio volere sarà tale tanta la luce che investirà i suoi primi figli che porteranno il bello l'incanto la pace del mio figlio divino in modo che le creature facilmente si arrenderanno a voler conoscere e amare un bene si grande ora in mezzo ai discepoli c'era la mia mamma che assisteva alla mia partita per il cielo questo è il più bel simbolo sì che essa è la regina della mia chiesa l'assiste la protegge la difende così siederà in mezzo ai figli della mia volontà sarà sempre essa la motrice la vita la guida il modello perfetto la maestà del regno del figlio divino che tanto le sta a cuore sono le sue ansie i suoi desideri ardenti i suoi delini d'amore materno che vuole i suoi figli in terra nel regno dove essa visse non è contenta che tiene i suoi figli solo in cielo nel regno della divina volontà ma li vuole anche sulla terra si sente che il compito datole da Dio come madre e regina non l'ha compiuto la sua missione non è finita fino a tanto che non regna la divina volontà sulla terra in mezzo alle creature vuole i suoi figli che le somiglino e che posseggano l'eredità della mamma loro perciò la gran signora è tutt'occhio per guardare tutto cuore per amare per aiutare coloro che vede in qualche modo disposti che vogliono vivere di volontà divina quindi nelle difficoltà pensa che essa ti sta d'intorno ti sorregge ti fortifica prende il tuo volere nelle sue mani materne per fargli ricevere la vita del Fiat Supremo dal volume 16 abbiamo visto l'ascensione e il suo effetto sugli apostoli che da da piccoli bebè sono diventati hanno acquistato il carattere dei veri apostoli con la forza l'intrepidezza eccetera poi abbiamo visto anche ecco l'atto dell'ascensione cioè della privazione degli apostoli e la privazione di Luisa quindi che cosa vuol dire la privazione per Luisa e continua a alternarsi del sentire Gesù e del sentirse ne priva per formare questi cieli queste capacità ancora maggiori poi adesso dal volume 24 abbiamo visto come l'atto dell'ascensione è proprio simbolo di tutti gli atti della vita di Gesù del regno della divina volontà dove Gesù è vittorioso trionfante e raggiunge i suoi figli in cielo perché ha aperto il cielo finalmente il cielo è popolato dai giusti dai santi dell'antico testamento ma vuole anche formare la sua corona la doppia corona dei figli sulla terra e questo è il simbolo dei pochi che l'hanno visto ascendere e i pochi figli della divina volontà e qui anche l'atto e la missione della mamma che non è contenta di avere soltanto i suoi figli in cielo ma li vuole anche sulla terra quindi c'è quella simbologia così come l'abbiamo vista nel volume 12 quando Gesù disse la mia umanità dopo la mia resurrezione simboleggia i figli della divina volontà perché saranno pochi così come furono pochi quelli che mi videro risorto i 600 per dire così pochi saranno pure i figli della divina volontà dice Luisa tu sei del numero dei pochi non dei molti e questo lo ribadisce anche qui nella nella ascensione perché dice quelli che hanno il seme della resurrezione che ricevettero il seme della resurrezione in primis Maria di Magdala sono quelli che l'hanno visto risorto e poi gli apostoli pochi sono quelli che l'hanno visto asceso al cielo simbolo dei pochi figli della divina volontà che però riceveranno tanta luce da chiamare tutti quanti gli altri pochi saranno i primi figli che però con la luce e la grazia che ricevono chiameranno tutte le umane generazioni a vivere nella divina volontà adesso mi pare che c'è un'altra lezione del volume 26 giusto? il 12 maggio del 29 chi vive nel fia divino è la narratrice delle opere divine ascensione causa perché Gesù non lasciò rendere la divina volontà sulla terra continuando il mio solito abbandono nel fia divino stavo seguendo gli atti di esso nella creazione mi sembrava che unendomi ai suoi atti ora facevo un atto di luce ora un atto di messica ora un atto di potenza e così via via ma mentre ciò facevo il mio sempre amabile Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia chi vive nella mia divina volontà e segue gli atti suoi è la narratrice di tutte le opere nostre sicché come tu giri nel sole per ripetere insieme con la mia volontà ciò che feci nel creare il sole ci fai la narratrice della storia della sua luce e l'ente supremo nel sentirsi ripetere tra te tutta la storia del sole da te tutta la storia del sole ciò che racchiude il bene che fa si sente ridare tutta la gloria della sua luce e come la luce brilla sopra tutte le cose investe tutto vi è anche l'aria così si sente il tuo ego vicino e lontano nel basso e nell'altezza dei cieli e sussurrando al nostro orecchio ci fa la narratrice della luce e ci glorifica tanto che ci dà il sole di gloria oh come restiamo felicitati da parte della creatura perché da noi fu creato un astro così benefico per tutta la terra e come non amare chi vive nel nostro fiat divino lei raccoglie tutte le nostre qualità e felicità sparse in tutto il creato ed ora ci fa la narratrice del cielo e ci dice la storia della sua immensità e ci dà la gloria del cielo intero ora ci dice la storia del mare e mormora insieme con le sue acque amore gloria di tutto il mare al mio creatore ora ci narra la storia della terra fiorita e tutte le piante e fiori elevano il loro profumo e ci dà la gloria di tutta la terra ed ora fa la narratrice della storia del vento ora dell'aria ora dell'uccellino che canta ora dell'anillo che vela insomma tiene sempre cose da narrarci delle tante cose che abbiamo fatto nella creazione per ridarci l'amore e la gloria che abbiamo nel crearla oh come dolce gradito nel sentirti fare la narratrice delle opere nostre ci sentiamo raddoppiare l'amore la gloria nostra molto più che chi ci fa la narrazione vive nel nostro volere il quale maestrandola le fa dire i segreti amorosi che ci sono in tutte le cose create detto ciò ha fatto silenzio poi come se non potesse contenere l'amore del suo cuore divino soggiunto figlia di letta mia tu sei la mia speranza la speranza del regno della mia divina volontà sulla terra quella speranza che non dice dubbio ma certezza perché già in te la divina volontà vi trova il suo regno i tuoi modi le tue prerogative le tue narrazioni sono tutti appartenenti al mio figlio divino in te ci sono le sue fondamenta le sue conoscenze perciò spero che il suo regno si formerà e si divulgherà sulla terra questo è incidentalmente un altro esempio di quello che può fare l'anima nelle opere del creato le narra a dio come si sente narrare le sue stesse opere dall'anima e quindi ne riceve gloria l'importanza è che ciò dei giri girare certamente facendo sempre cose diverse dopo ciò stavo pensando quando nostro signore salì al cielo glorioso e trionfante con la sua umanità non più umiliata soggetta alle pene con la divisa della dama decaduto ma intangibile d'ogni pena con la divisa del nuovo adame innocente con tutte le prerogative più belle della creazione vestito di luce ed immortale mentre ciò pensavo il mio dolcissimo Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia la mia umanità rifece in sé e sopra di sé stessa tutti i mali dell'umanità decaduta fino a morire per dar le virtù di farla risorgere dalla morte a cui era soggetta ecco la causa perché non lasciai il rene della mia volontà divina sulla terra perché mancava l'umanità della dama innocente gloriosa e immortale per poter impetrarlo e ricevere il grandono del profilo perciò era necessario che la mia umanità prima doveva rifare l'umanità decaduta e darle tutti i medi per rialzarla poi morire e risorgere con le doti dell'adama innocente per poter dare all'uomo ciò che perdete non solo ma vogli salire al cielo con la mia umanità bella vestita di luce come uscì dalle nostre mani creatrici per dire al padre celeste padre mio guardami come la mia umanità è rifatta come il regno della nostra volontà sta al sicuro in essa sono io il capo di tutti e chi ti prega tiene tutti i diritti di chiedere e di dare ciò che io posseggo di mia ci voleva una umanità innocente con tutte le doti con cui uscì dalle nostre mani creatrici per impetrare di nuovo di nuovo il regno della nostra volontà in mezzo alle creature fino allora mancava ed io l'acquistai con la mia morte e salì al cielo per compiere oltre al primo compimento il secondo mio compito di impetrare e dare il regno della mia divina volontà sulla terra oltre al primo compito sono circa duemila anni che questa mia umanità prega e la nostra maestà divina sentendosi ricogitare di nuovo anzi con più intensità l'amore della creazione che ebbimo nel creare l'uomo e sentendosi rapire ed affascinare dalle bellezze della mia umanità ha sboccato fuori di nuovo ed apprendo i cieli ha fatto piovere a torrenti la pioggia di luce delle tante conoscenze del mio fiat affinché come pioggia discenda sulle anime che con la sua luce vivifichi e sali l'umano volere e trasformandolo getti la radice della mia volontà nei cuori e distenta il suo regno sulla terra per venire il mio regno sulla terra prima dovevo farlo conoscere dovevo far sapere che vuol venire a regnare ed io come un fratello maggiore dell'umana famiglia sto facendo tutte le pratiche nel cielo presso la divinità per darle un acquisto si grande e quindi era necessario che io salissi al cielo con la mia umanità glorificata per poter riacquistare di nuovo il regno del mio fiat per i miei fratelli e figli su questo mi viene in mente come queste parole di Gesù dice io dovevo salire al padre con un'umanità perfetta glorificata come l'adamo innocente perché non solo per la redenzione ma proprio per riacquistare tutti i diritti della divina volontà e quindi mentre lui sebbene il Vangelo non lo dice ma lo sappiamo anche tramite la riva del torta ovviamente come risorse lui andò da sua madre e si abbracciarono si baciarono eccetera eccetera però quando invece Maria di Magdala lo riconobbe lui non potè farsi toccare da lei non perché non fosse santa o santificata dalla grazia ma perché nulla di umano per quanto santo poteva toccare questa umanità divinizzata glorificata dice non mi toccare perché non sono ancora asceso al padre quindi lui doveva salire al padre con la veste purissima candidissima non di purezza umana ma di purezza divina di gloria divina per poter riacquistare tutti i diritti di poter ridare alla umanità non soltanto il regno della grazia ma il regno della divina volontà quindi mentre Maria Santissima anello primo con Gesù della divina volontà con l'umanità lo poter toccare e abbracciare benissimo qualsiasi altra creatura per quanto santa e santa sì perché convertita e fu la prima a vedere Gesù risorto non poteva toccarlo perché Gesù doveva ancora salire al padre e salire con una veste completamente intangibile all'umano e glorificata e divinizzata per poter riacquistare con pieno diritto il regno della divina volontà per le creature in primis anche per Maria di Magdala per cui quando noi facciamo gli atti possiamo immaginarci che lei è la prima che si fionda nei nostri atti a prendere la gioia la gloria come se lei avesse fatto tutto nella divina volontà e quindi quando facciamo questi atti nella divina volontà li facciamo anche per i santi per Maria Maddalena è come se lei ricevesse la gioia di poter toccare e abbracciare quella umanità risorta e glorificata che lei in quella situazione non poteva ancora toccare perché le porte del regno della divina volontà non erano ancora aperte alla creatura di stirpe comune quindi se vogliamo fare rendere Maria di Magdala una amica una sorella felicissima ardente di amore e di aiuti per noi chiamiamola nei nostri atti e offriamoli anche per lei come per tutti i santi volume 25 31 marzo del 29 titoletto diritti assoluti del divino volere la volontà umana cambiò la sorte umana e divina Gesù se l'uomo non avesse peccato doveva venire sulla terra glorioso e con lo scettro del comando l'uomo doveva essere il portatore del suo creatore signor Luisa sento il meno continua potenza del fio divino che mi involge con tale impero che non mi dà tempo alla mia morente volontà di fare il minimo atto e si gloria non di farla morire del tutto perché se ciò facesse perderebbe il suo prestigio di operare sopra ad una volontà umana che mentre vive volontariamente subisce l'atto vitale del fio divino sopra della sua ed essa si contenta di vivere morendo per dar vita e dominio assoluto al supremo volere che vittoriosa dei suoi diritti divini stende i suoi confini e canta vittoria sulla morente volontà della creatura la quale sebbene morendo sorride e si sente felice ed onorata che un volere divino tiene il suo campo d'azione nell'anima sua ora mentre mi sentivo sotto l'impero del fio divino il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia piccola del mio volere divino tu devi sapere che sono diritti assoluti del mio fio divino di tenere il primato su ciascun atto della creatura sono diritti assoluti del mio fio divino di tenere il primato su ciascun atto della creatura e chi gli lega il primato gli toglie i suoi diritti divini che gli sono dovuti di giustizia perché è creatore del povero umano chi può dirgli figlia mia quanto male può fare una creatura chi può dirti quanto male può fare una creatura quando giunge a sottrarsi dalla volontà del suo creatore vedi bastò un atto di sottrazione del primo uomo alla nostra volontà divina che giunse a cambiare la sorte delle umane generazioni non solo ma la stessa sorte della nostra divina volontà se Adamo non avesse peccato l'eterno verbo che è la stessa volontà del padre celeste doveva venire sulla terra glorioso trionfante e dominatore accompagnato visibilmente dal suo esercito angelico che tutti dovevano vedere e con lo splendore della sua gloria doveva affascinare tutti e attirare tutti a sé con la sua bellezza coronato da re e con lo centro del comando per essere re e capo dell'umana famiglia in modo da dargli il gran onore di poter dire teniamo un re l'uomo e Dio molto più che il tuo Gesù non scendeva dal cielo per trovare l'uomo malato perché se non si fosse sottratto dalla mia volontà divina non dovevano esistere malattie né di anima né di corpo perché fu l'umana volontà che quasi affogò di pene la povera creatura il fiat era intangibile ad ogni pena e tale doveva essere l'uomo quindi io dovevo venire a trovare l'uomo felice santo e con la pienezza dei beni con cui l'avevo creato invece perché volle fare la sua volontà cambiò la nostra sorte e siccome era decretato che io dovevo scendere sulla terra e quando la divinità decreta non c'è chi la sposta solo cambiai modo ed aspetto ma discesi ma sotto sfoglio umilissimo povero senza nessun apparato di gloria sofferente e piangendo e carico di tutte le miserie e pene dell'uomo la volontà umana mi faceva venire a trovare l'uomo infelice cieco sordo e muto pieno di tutte le miserie ed io per guarirlo le dovevo prendere sopra di me e per non incutere il loro spavento dovevo mostrarmi come uno di loro per fratellarli con me e dare loro le medicine e rimedi che ci volevano sicché l'umano volere tiene la potenza di rendersi felice o infelice santo o peccatore sano o malato veni dunque se l'anima si decide di fare sempre la mia divina volontà e di vivere in essa cambierà la sua sorte e la mia divina volontà si slancerà sopra la creatura la farà sua preda e dandone il bacio della creazione cambierà aspetto e modo e stringendolo al suo seno le dirà mettiamo tutti da parte per te e per me sono ritornati i primi tempi della creazione tutto sarà felicità tra te e me vivrà in casa nostra come figlia nostra nell'abbondanza dei beni del tuo creatore sentimi a piccola neonata della mia divina volontà se l'uomo non avesse peccato non si fosse sottratto dalla mia divina volontà io sarei venuto sulla terra ma sai come? pieno di maestà come quando risuscitai dalla morte che sebbene avessi la mia umanità simile all'uomo unita all'eterno verbo tuttavia con quale diversità la mia umanità risuscitata era glorificata vestita di luce non soggetta né a patire né a morire invece la mia umanità prima di morire era soggetta sebbene volontariamente a tutte le pene anzi fu l'uomo dei dolori e siccome l'uomo aveva ancora gli occhi abbacinati dall'umano volere e quindi ancora malato pochi furono quelli che mi videro risuscitato che servì per confermare la mia risurrezione quindi me ne salì al cielo per dare il tempo all'uomo di prendere i rimedi e le medicine affinché guarisse e si disponesse a conoscere la mia divina volontà per vivere non della sua ma della mia e così potrò farmi vedere pieno di maestà e di gloria in mezzo ai figli del mio regno perciò la mia risurrezione è la conferma del fiat volontas tua come in cielo così in terra dopo un si lungo dolore sofferto dalla mia divina volontà per tanti secoli di non tenere il suo regno sulla terra il suo assoluto dominio era giusto che la mia umanità mettesse in sangue i suoi diritti divini e realizzasse il mio e il suo scopo primiero di formare il suo regno in mezzo alle creature oltre di ciò tu devi sapere che maggiormente confermi tu devi sapere per maggiormente confermarti come la volontà umana cambiò la sorte sua e quella della divina volontà a suo riguardo in tutta la storia del mondo due solo hanno vissuto di volontà divina senza mai fare la loro e fu la sovrana regina e Dio e la distanza la diversità tra loro e le altre creature è infinita tanto che neppure i nostri corpi rimasero sulla terra erano serviti come reggia al fia divino ed esso si sentiva inseparabile dai nostri corpi e perciò reclamò e con la sua forza imperante rapì i nostri corpi insieme con le anime nostre nella sua patria celeste ed il perché di tutto ciò tutta la ragione sta perché mai la nostra volontà umana ebbe un atto di vita ma tutto il dominio e il suo campo d'azione fu solo della mia divina volontà la sua potenza è infinita il suo amore è insuperabile dopo ciò ho fatto silenzio e mi sentivo che muotavo nel mare del fiat e dopo quante cose prendevo comprendevo il mio dolce Gesù ha soggiunto figlia mia col non fare la mia divina volontà la creatura mette in scompiglio l'ordine che tende la divina maestà nella creazione disonora se stessa scende nel basso si mette a distanza col suo creatore perde il principio il mezzo e la fine di quella vita divina che con tanto amore le venne infusa nell'atto di essere creata noi amavamo tanto quest'uomo che mettevamo in lui come principio di vita la nostra divina volontà volevamo sentirci rapire da lui volevamo sentire in lui la nostra forza la nostra potenza la nostra felicità il nostro stesso eco continuo e chi mai poteva farci sentire vedere tutto ciò se non la nostra divina volontà biloccata in lui volevamo vedere nell'uomo il portatore del suo creatore il quale doveva renderlo felice nel tempo e nell'eternità perciò con il non fare la nostra divina volontà sentimmo al vivo il gran dolore della nostra opera disordinata il nostro eco finì la nostra forza rapittrice che doveva rapirci per dargli nuove sorprese di felicità si convertì in debolezza insomma tutto si capovolse ecco perciò che non possiamo tollerare un tal disordine nell'opera nostra e se tanto ho detto sul mio fiat divino è proprio questo lo scopo che vogliamo mettere l'uomo nell'ordine affinché ritorni sui primi passi della sua creazione e scorrendo in lui l'umore vitale del nostro volere forma di nuovo il nostro portatore la nostra reccia sulla terra la sua e la nostra felicità grazie c'è un altro capitolo che parla dell'ascensione nel volume 35 che vabbè non c'è qui ma non è che c'è una pretesa di esaustività nelle nostre selezioni ovvio però giusto per dire la cosa finale in questo capitolo 24 gennaio del 38 dove addirittura nel volume 34 è Gesù che dice io partivo e restavo nel volume 35 ribadisce questo ma poi aggiunge la cosa proprio il crescendo è incredibile perché in questo volume 35 si dice anche l'anima l'anima che vive nella divina volontà può dire con tutta verità quindi non è soltanto Gesù che lo dice ma l'anima stessa dice parto e resto parto per il cielo per beatificarlo addirittura l'anima in terra parte per il cielo per beatificare il cielo perché si porta Gesù reale a beatificare il cielo ci rendiamo conto per raggiungere la mia sede e far conoscere a tutti il mio caro Gesù che ho racchiuso nel mio atto quindi con l'atto nella divina volontà l'anima parte per il cielo e aumenta la conoscenza di Gesù che i santi hanno in cielo quindi per beatificare il cielo per raggiungere la mia sede per far conoscere a tutti il mio caro Gesù che ho racchiuso nel mio atto affinché lo godino e lo amino e resto in terra come vita mia sostegno e difesa di tutti i miei fratelli come è bello un atto nella mia volontà è incredibile cioè qui è l'anima nella divina volontà che dice parto per beatificare il cielo perché nel mio atto ci ho racchiuso Gesù vivo e vero è una nuova conoscenza di Gesù per beatificare tutti gli angeli santi e resto sulla terra perché si fa pane per i suoi fratelli e sorella parto e resto per difesa sostegno e vita di tutti quanti i miei fratelli e quindi questo è la come dire il summit la parte più alta dell'ascensione in cui è l'anima stessa che dice con Gesù parto e resto bellissimo è diventato il nostro Gesù bellissimo è bello vedere proprio il crescendo di queste lezioni siamo partiti dal volume 16 dove Gesù ci spiega con la sua ascensione quegli allocchetti marmocchi dei suoi apostoli diventarono degli uomini coraggiosi con il carattere vero degli apostoli spiega la privazione poi nel volume 26 spiega come lui doveva ascendere al cielo con la veste glorificata intangibile poi nel volume 34 ci dice come la sua ascensione è simbolo come tutti i suoi atti della vita della sua vita del regno della divina volontà dove aveva la corona dei suoi figli in terra e in cielo è lo stesso pure la madre santissima e nel volume 35 alla fine col quarto passo dell'ascensione mi pare quarto e ultimo addirittura è l'anima che vive nella divina volontà che proclama io parto e resto che bello volume 17 17 maggio del 25 ecco chiediamo lo spirito santo è il primissimo passo in cui Luisa è il primo nel maggio del 17 del volume 17 si sta dilungando e sta scrivendo quindi ce lo scrive per la prima volta i suoi giri nella creazione dice ti amo nella luce del sole ti amo nel vento ti amo nel piccolo uccellino nel belato dell'agnello e nel trillo dell'uccellino poi entra nella redenzione dice ti amo nelle tue lacrime Gesù ti amo nelle tue rocce del tuo sangue ti amo nella tua vita nascosta nella tua vita pubblica nelle tue pene finisce con l'ascensione e si ferma e Gesù qui per la prima volta dà l'indicazione che dice figlia mia tu non hai finito oltre agli atti della mia volontà nella creazione e quelli nella redenzione devi entrare anche negli atti della divina volontà in cui prende il ruolo predominante lo spirito santo quindi nella creazione il ruolo predominante è quello del padre e la trinità concorre nella redenzione il ruolo di attore è il verbo incarnato e dice adesso ti resta da entrare nell'ordine della grazia quindi entrare negli atti dello spirito santo vuol dire entrare negli atti dell'ordine della grazia quindi unirsi allo spirito santo e per questo qui Luisa dice fai che le creature possono accogliere l'atto primo della loro santificazione la santità nella divina volontà questo ricorda anche i tessalonicesi quando dice qual è la volontà di Dio la volontà di Dio è la vostra santificazione quindi l'atto primo della santificazione delle creature è la divina volontà e quindi in questo passo lei chiama lo spirito santo santificatore prima lo invoca poi dice ti chiedo scusa per tutte le volte che ti abbiamo sbattuto le porte del cuore in faccia ti chiedo perdono per tutti i tuoi gemiti inenarrabili che tu esprimi nei sacramenti quando noi facciamo proprio i sordi li riceviamo con cattive disposizioni o magari li riceviamo e poi ci riveliamo dei tuoi nemici e quindi entro nell'ordine dalla grazia e mi unisco a tutti i sacramenti che tu imparti agli atti di conversione agli atti di ammonimento agli atti di consolazione agli atti di santificazione questo vuol dire entrare negli atti dello spirito santo e quindi girare negli atti della divina volontà della santificazione non soltanto dai primi ammonimenti della santificazione e potremmo dire dal Giovanni Battista quando lo spirito santo lui diceva convertitevi l'ora è vicina poi gli atti della grazia quindi il regno della redenzione con la grazia impartita tramite i sacramenti e poi il terzo fiat completo la terza fase della santificazione è quella in cui lo spirito santo vuole santificare portando in noi la vita completa del verbo quindi la vita della divina volontà non solo la grazia che viene dalla divina volontà non solo gli effetti ma la stessa vita divina quindi il fiat volontà stua siccote in cielo e in terra non sono riuscita a trattenere questa riflessione perché questa lettura che abbiamo letto è importantissima proprio l'inizio dei giri nella santificazione da parte di Luisa dato che ci troviamo in preparazione dallo spirito santo alla Pentecoste ho citato questa vi ricordiamo volume 17 17 maggio del 25 giacolatoria mamma mia col tuo potere mi rionfa nell'anima mia e fammi rimanere nella volontà di Dio posso allora sì no due secondi soltanto proprio per non ogni volta che magari leggiamo anche il giorno della verginia è sempre un atto potentissimo però è sempre bello anche diciamo farci colpire da una nuova verità soltanto due velocissimamente quando l'anima dice la preghiera che abbiamo letto insieme anzi chiudi nell'anima mia il germe della risurrezione di Gesù affinché in virtù di essa risorga pienamente nella divina volontà questa frase è importante bella perché magari ce la ricordiamo in un passo un passo del volume 12 mi pare che il 15 di aprile del 19 dove si parla proprio della risurrezione infatti ad aprile magari erano di quei giorni la risurrezione e Gesù dice come le anime e come la mia risurrezione è simbolo delle anime che vivono nella mia divina volontà no glorificate e dice così come furono pochi quelli che mi videro dopo risolto le scritture dicono i 600 lui apparì per quei 40 giorni e poi comunque furono relativamente pochi così saranno poche le anime che vivono nel mio volere lui dice a Luisa tu sei nel numero dei pochi non dei più saranno quelle e dice quelli che mi videro risorto sono quelli che avevano in sé il germe della risurrezione quindi ritorna questa espressione e pensando ovviamente a Maria Santissima ma una che la vide risorta completamente era Maria Maddalena quindi quelli che lo videro risolto erano quelli che avevano abbracciato una conversione così radicale proprio che si erano lasciati trasformare la loro volontà dalla volontà di Gesù tanto che nel regime della grazia ancora avevano dentro di loro il germe della resurrezione come dice Gesù se io non ho la luce dentro non posso vedere la luce di fuori se io non ho il germe della resurrezione dentro non posso vedere Gesù risorto quindi quello che vedo fuori è sempre il riflesso o comunque l'ampliamento di un germe che devo avere dentro e quindi chiedere che noi Gesù metta il germe della resurrezione proprio chiedere che noi possiamo con questo germe della resurrezione dentro ricevere la resurrezione alla vita nella divina volontà ecco questa espressione che abbiamo letto mi ha ricordato quel brano bellissimo del volume 12 dove si parla delle anime nella divina volontà che sono simbolizzate dalla umanità risorta di Gesù un'altra piccola frase un'altra piccola riflessione è come dice dopo che Gesù è stato seppellito io mi ritirai nel cenacolo dice Maria Santissima con l'amato Giovanni alla Maddalena questo corrisponde proprio a quanto leggiamo anche in Maria Valtorta dove Maria Santissima per quei tre giorni di fatto un giorno e mezzo perché sono le sue preghiere che hanno diminuito il tempo di Gesù non è stato tre giorni nel ventre della balena cioè nella morte ma un giorno e mezzo diciamo dal venerdì pomeriggio fino alla domenica mattina presto e lì anche Maria Valtorta leggiamo come Maria Santissima si è chiusa dentro non voleva neanche una goccia d'acqua qualcuno la andava a bussare gli unici che potevano erano Giovanni e la Maddalena perché gli apostoli non c'erano poi a poco a poco venivano ma lei non riceveva nessuno neanche l'unico che ha fatto entrare era stato Longino quando lui fu spinto a portarle la lancia ancora macchiata di sangue anche Giovanni e la Maddalena avevano i loro dubbi però erano forse quelli che erano più aperti a credere nella resurrezione ma di fatto nessuno sulla faccia della terra nessuno credeva nella resurrezione di Gesù in quel giorno e mezzo tranne Maria Santissima anzi possiamo dire che lei completò la redenzione perché dice la mia anima era graffiata da Satana che mi voleva strappare questa speranza questa fede quindi lei contro tutti anzi anche contro gli sguardi un po' patetici un po' commiseranti degli apostoli dice ma guarda questa crede ancora ma che siamo ma poveraccia lei ha dovuto lottare contro Satana contro il mondo e anche contro quelli che le stavano intorno in quel giorno e mezzo per ottenere la resurrezione voglio dire perché se lei avesse smesso di credere Gesù non sarebbe risorto quindi è lei che continua la redenzione per questo diciamo che lei è corredentrice perché la redenzione è fatta dai due nella divina volontà quindi mi ritirai nel cenacolo insieme a Giovanni alla Maddalena così come lei si ritirò nel cenacolo e lottò quest'ultima lotta contro Satana che la voleva far dubitare della resurrezione del figlio allo stesso modo quando il figlio risorse lei fu la prima a vederlo anche se non ne viene fatto cenno nel Vangelo perché il Vangelo è una testimonianza diciamo degli evangelisti ma Maria Santissima non parlò assolutamente di quella scena dove lei è troppo sublime troppo troppo estatica troppo meravigliosa tanto vale tanto è vero che lei dice non ne feci motto a nessuno lei rimase nel cenacolo dove Gesù le era venuta a trovare il risorto ed era talmente estatica talmente immaginiamo il dolore atroce la lotta infinita quando uno fa uno sforzo incredibile e poi viene risollevato da questo sforzo non ha neanche la forza di gioire con la voce con il sorriso con la parola lei stava zitta non fece motto a nessuno quasi non se ne accorgevano gli altri la Maddalena arrivò e dice l'ho visto risorto lei se l'abbracciò non disse niente perché la gioia era troppo forte lei già lo sapeva e soltanto accolse la Maddalena con le lacrime e disse le lacrime di gioia sono più straripanti delle lacrime di dolore ma lei già lo sapeva anche se non aveva fatto motto a nessuno la terza considerazione era che tutti dopo che Gesù si mostrò più o meno a tutti risorto e li perdonò a un certo punto da codardi si trasformavano in trionfanti tutti si sentivano trionfanti di essere stati gli apostoli quindi diciamo pure che prima della venuta dello Spirito Santo gli apostoli più o meno nonostante la resurrezione di Gesù erano rimasti gli stessi cioè codardi prima orgogliosi dopo prima si nascondevano e poi si inorgoglivano tant'è vero che Gesù dovette ricordare a Pietro il suo triplice tradimento la sua triplice negazione dicendogli se non l'avessi fatto Pietro a te questa cosa non ti avrei reso pastore ma ti avrei lasciato lupo e quindi Gesù ha umiliato tutti i suoi apostoli come è necessario che noi diciamo apostoli siamo stritolati nel nulla perché altrimenti noi come dice poi la scrittura non siamo capaci di confortare i nostri fratelli noi a nostro turno avendo subito la morte l'umiliazione lo stritolamento della nostra umana volontà possiamo trasmettere questa speranza della resurrezione nella volontà divina agli altri questo è quello che nell'ambito del regno della redenzione Gesù ha dovuto fare con i suoi pastori per fare che non fossero dei lupacchiotti ma dei pastori questa era la terza riflessione che mi veniva da questo da questo brano che abbiamo letto magari chissà quante scene avete voi se volete condividere siamo qui c'è scusa che cosa ha fatto per gli apostoli perché diventassero coraggiosi dopo lo spirito ha dato lo spirito santo ha dovuto fare in modo che essi si sentissero umiliati perché quando poi fuggirono e sono tornati pure di San Tommaso li ha dovuti umiliare tutti perché altrimenti prima erano codardi e poi si sentivano tutti trionfanti che Gesù era risorto mentre Gesù anche con le parole con i fatti li ha dovuti umiliare facendo capire loro appunto che era così facile sentirsi uniti a Gesù quando si sentivano forti e poi tutti quanti l'hanno abbandonato Pietro l'ha negato tre volte quindi il tocco finale venne dato dall'ascensione dove come abbiamo letto diciamo l'altra volta dal volume 16 prima erano bambini nella grazia ma quel dolore quello strappatroce di vedersi l'umanità di Gesù portata via in cielo questo dolore fu tanto profondo nell'animo un dolore divino perché era un Dio quello da cui si sentivano privati li maturò e li rese coraggiosi con il temperamento degli apostoli quindi lì l'ascensione chiede il primo colpo e poi quando ricevettero lo Spirito Santo furono riempiti e finalmente erano pronti per evangelizzare il volume 35 gennaio 24 1938 poi magari facciamo un riassunto delle puntate precedenti titoletto come nostro signore partì al cielo e restò in terra nei tabernacoli per ultimare il regno della divina volontà chi vive nel volere divino può dire come Gesù parto e resto il mio volo nel volere divino stile Luisa continua e mentre stavo facendo la visita a Gesù in sacramento volevo abbracciare tutti i tabernacoli e ciascuna hostia sacramentale per far vita insieme col mio prigioniero Gesù e pensavo tra me che sacrificio che lunga prigionia non di giorni ma di secoli povero Gesù ne fosse almeno contraccambiato e il mio amato Gesù visitando la piccola anima mia tutto immerso nelle sue fiamme d'amore mi ha detto figlia mia buona la mia prima prigione fu l'amore mi imprigionò tanto che non aveva libertà né di respirare né di palpitare né di operare se non fossi imprigionato nel mio amore sicché fu il mio amore che mi imprigionò nel tabernacolo ma con ragione e con somma divina sapienza ora tu devi sapere che le catene del mio amore mi fecero partire dal cielo nella mia incarnazione partì per scendere in terra in cerca dei figli miei e fratelli per formare a loro col mio amore tante prigioni d'amore da non potersene uscire ma mentre partì restai in cielo perché il mio amore facendomi prigione mi legò nelle plage e celesti ora vedo che vuol dire la mia vesti sono le plage 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 degli spazi esatto gli spazi ora avendo confiuto la mia carriera quaggiù partì per il cielo e restai imprigionato in ogni ostia sacramentale ma sai perché il mio amore facendomi dolce prigionia mi disse il tuo scopo perché scendesti dal cielo in terra non è confiuto il regno della nostra volontà dov'è? ne esiste ne è conosciuto quindi restati in prigione in ogni ostia sacramentale così non sarà un solo Gesù come nella tua umanità ma tanti Gesù per quante ostie consacrate esisteranno tante tue vite faranno breccia e furore d'amore innanzi alla divinità breccia e furore d'amore ad ogni cuore che ti riceveranno avranno una parolina da dire per far conoscere il nostro volere perché queste vite quante scenderanno nei cuori non saranno vite mute ma parlanti e tu parlerai nel segreto dei loro cuori del nostro Fiat sarai il portatore del nostro regno sempre Gesù che parla quindi io le vidi giuste le pretensioni pretensioni del mio amore e volentieri me le stai in terra per formare il regno della mia volontà fino ad opera compiuta vedi se io partii per il cielo e mi restai in terra la mia vita sparsa in tanti osti sacramentali non sarai inutile quaggiù formerò con certezza il regno del mio volere ne io mi restai ne io mi sarei restato rimasto se sapessi di no dover ottenere l'intento molto più che mi porta più sacrificio della mia stessa vita a portare non starei chiuso in contatto le osti quante lacrime segrete quanti sospiri amari in mezzo a tante fiamme d'amore che mi divorano e vorrei divorare tutte le anime del mio amore per far risorgere a novella vita le anime che devono vivere nel mio volo divino dal centro del mio amore uscirà questo regno esso brucerà i mali della terra farà conto su di se stesso armerà la sua omnipotenza e a coronamento di tante sue vincite vincerà il nostro regno in mezzo alle creature per darlo a loro ne fui contento di restarmi in prigione ma il mio amore divampandomi di più mi fece scegliere te per farti prigioniera con catene si forti da non potermi sfuggire come sfogo del mio amore e compagnie della mia prigionia per poterti parlare a lungo del mio volere delle mie ansie e sospiri che vuole regnare e come un pretesto del mio amore per dire innanzi alla maestà suprema una creatura della razza umana è già nostra prigioniera e con essa parliamo della nostra volontà per farlo conoscere e stendere il suo regno questa prigioniera è come caparra per tutta l'umana famiglia che con diritto dobbiamo dare il nostro regno posso dire che ogni vita mia sacramentale sono tante caparre per i doni sufficienti per accaparrare il mio regno ai figli miei ma alle tante mie caparre il mio amore ha voluto aggiungere la caparra di una semplice creatura che porta i segni della mia fuggionia come per risaldare le parti tra creatura e creatore e così venire a compimento ed ultimare il regno della nostra volontà in mezzo alle creature da ogni tabernacolo le mie preghiere sono incessanti perché le creature conoscessero la mia volontà per farla regnare e tutto ciò che soffro lacrime e sospiri mi spedisco al cielo per muovere la divinità a concedere una grazia si grande mi spedisco da ogni cuore per muoverle a compassione delle mie lacrime e pene per farle arrendere a ricevere un tanto bene Gesù ha fatto silenzio ed io pensavo tra me dice Luisa il mio caro Gesù col farsi prigioniero ha fatto un fatto di eroismo si grande che solo un Dio poteva fare ma mentre prigioniero è anche libero tanto è vero che in cielo è libero gode la pienezza della sua libertà non solo ma anche in terra quante volte non se ne viene alla volta mia senza veli sacramentali è libero prigioniero ma libero ma con l'avere resa prigioniera la mia povera esistenza l'ha fatta proprio grossa e lui sa in che stretta prigionia mi mette e come sono dure le mie catene e io posso fare come fa lui che mentre il prigioniero è libero mentre il prigioniero è libero la mia prigione è continua mentre ciò pensavo ha ripreso il suo dire col dirmi figlia mia povera figlia hai subito la mia stessa sorte quando il mio amore vuole fare un bene non risparmia nulla né sacrifici né pene pare come se non si volesse dare ragione tutto il suo intento è di far sorgere il bene che vuole e poi certo che dovevo farla grossa e poi certo che dovevo farla grossa non si trattava di un bene qualsiasi ma di un regno di volontà divina da stabilire sulla terra questo bene sarà tanto grande che nessun altro bene potrà paragonarsi a questo tutti gli altri bene saranno come tante goccioline di fronte al mare come piccole luci di fronte al sole perciò non ti meravigliare che l'ho fatta grossa come tu dici la tua continua prigionia entrava come necessità al mio amore per darmi la compagnia e farmi parlare delle conoscenze della mia volontà che tanto mi stavano a cuore e sentivo il bisogno di farle conoscere e tu devi sapere che come ti parlo di essa il mio amore ti paga ti sprigiona dai ceppi della tua volontà umana e ti rende libera nei campi dei domini del regno del mio volere a questo sono dirette le conoscenze di esso a sprigionare la creatura dalla sua volontà dalle sue passioni dalle sue miserie perciò ringraziami di quello che ho disposto di te il mio amore ti saprà pagare e ti racconto anche di un tuo respiro ed un istante della tua prigionia dopo ciò seguivo pensare ai prodigi del volere divino il mio amato Gesù ha soggiunto figlia del mio volere come il tuo Gesù disse nello scendere dal cielo in terra parto e resto così quando salì al cielo disse presto e parto la mia stessa parola ripete nello scendere sacramentato nelle creature parto e resto nei tabernacoli così chi vive nella mia volontà in tutti i suoi atti può dire la mia stessa parola come incomincia il suo atto così viene formato il suo Gesù nell'atto suo la mia vita tiene virtù di moltiplicarsi all'infinito quante volte voglio quindi può dire con tutta verità parto e resto parto per il cielo per beatificarlo per raggiungere la mia sede e far conoscere a tutti il mio caro Gesù che ho racchiuso nel mio atto affinché lo godano e danno ce lo le abili resto in terra come vita mia sostegno e difesa di tutti i miei fratelli come bello un atto della mia sostegno e difesa e pure l'agio per dire tutta la sua inizia la quale è finito eterno e benissimo bellissimo questo l'altra volta poi abbiamo aggiunto abbiamo letto questo che è un po' almeno l'ultimo mi pare degli scritti di Luisa che si riferiscono all'ascensione come dicevo ne abbiamo letti alcuni mercoledì si può fare una piccola carrellata innanzitutto mi colpiva di questo brano dove dice Gesù ecco io sono asceso al cielo ma sono restato nel santissimo sacramento e Gesù è venuto con la sua umanità prima di tutto per rivelare il padre e ha scelto per rivelare il padre la parola se Gesù non avesse parlato nessuno avrebbe saputo niente ecco qui mi colpisce il fatto come dice resto nel santissimo sacramento per continuare a divorare le anime nel tuo amore e Gesù dice a se stesso quante scenderanno ai loro cuori non saranno vite morte ma parlanti tu parlerai nel segreto dei loro cuori del nostro fiat quindi Gesù oggi continua a parlare dal santissimo sacramento ed è una cosa che è importantissima pensare che ecco io mi metto nella divina volontà insieme con voi e Gesù insieme a noi in corpo sangue anima e divinità e nei momenti in cui facciamo silenzio nei momenti in cui appunto ascoltiamo le verità lui continua a parlare mi viene in mente quasi come oggi diciamo l'80% delle cappelle di adorazione perpetua mi faceva notare la madre stanno negli Stati Uniti in Italia io dopo 20 anni passati negli Stati Uniti una cosa sono rimasta colpita come davanti al santissimo sacramento in Italia si tende a parlare mentre negli Stati Uniti in altri paesi magari ce ne sono di meno ma c'è silenzio invece in Italia c'è quella o le persone chiacchierano parlano anche quando Gesù è esposto ma io vorrei vedere se lui si rivelasse con la sua gloria noi se non chiuderemo la bocca e ci metteremo invece con la testa per terra ad adorarlo e mi sembra che questo è in genere adesso non c'entra solo l'Italia ma in genere una strategia proprio del nemico perché siccome Gesù dal Santissimo Sacramento vuole parlare e ha bisogno del nostro silenzio e ci vuole tirare la nostra anima ci vuole tirare verso la divina volontà come vita che è il compimento della sua missione anche nel Santissimo Sacramento allora la strategia del nemico qual è? le ore di adorazione animate i canti le preghiere vocali senza limite sembra che noi dobbiamo andare a intrattenere Gesù che poveraccio si annoia e quindi noi gli dobbiamo sbrodolare davanti sette pagine di preghiere vocali guardando sul foglio neanche guardandolo negli occhi e poi questo viene promosso non soltanto da laici e da sacerdoti quindi ecco uno stimolo diciamo uno risveglio per noi essere coscienti come a Gesù gli serve essere presente essere esposto nel Santissimo Sacramento ma con noi che stiamo zitti non con noi che lo vogliamo intrattenere con la chitarra o con la voce e questo silenzio di adorazione anche Luisa che parla ai nostri cuori magari ci incentiva a fare gli atti no? Certamente infatti ecco è importantissimo quello che manca oggi l'adorazione stare davanti a Gesù nel Santissimo Sacramento in profondo silenzio dove Gesù parla dove noi possiamo fare gli atti dove Luisa insieme a Gesù ci istruiscono senza cercare di fare di dire di organizzare di intrattenere quegli opuscoli interminabili dove si dicono anche qui da noi magari non lo so non vivono nella mia cittadina cioè il Santissimo è esposto tutta la giornata ma è soltanto un'ora che si fa di silenzio tutte le altre si deve parlare si deve dire si deve intrattenere ecco ecco quasi ecco vogliamo chiedere perdono a Gesù di dire a Gesù dacci la grazia che impariamo a starci zitti di fronte a te e che ti facciamo parlare nel segreto dei nostri cuori così ci istruisci negli occhi e nelle verità del vivere nel divino volere si possono leggere le 24 ore della passione e farle davanti al Santissimo ma adesso ma perché mi chiedi a me il permesso uno può fare quello che vuole ma certamente soltanto il discorso è generale non che non si possono fare la preghiera vocale o che non si possono è certo che si possono fare però ecco è una questione di equilibrio rendiamoci conto come spesse volte si parla troppo e si ascolta poco quindi è una questione generale non che io adesso mi metta a dire questo si può fare questo non si può fare anche chi fa una domanda di questo genere dico ovviamente la risposta ce l'hai dentro di te è ovvio che le puoi fare è soltanto una considerazione di livello generale come Gesù abbia bisogno di attenzione e di silenzio certo anche ripercorrendo la sua passione magari guardandolo un po' più negli occhi e un po' meno sul foglio di carta ha bisogno di sguardi di orecchie e di attenzione e quindi preghiamo a Gesù che ci dia la grazia per prima di stare presente davanti al Santissimo in silenzio e che dove ci sia l'adorazione ci siano anime più ispirate dallo Spirito Santo a fare silenzio invece che a voler intrattenere Gesù con musica canti e parole scusa un attimo c'è il motivo le 24 ore la passione per le pellegracce certe volte non corrisponde come hai trovato sono diversi sono due cose diverse sono due cose diverse non possono corrispondere adesso sono due cose diverse negli atti del pietro abbraccia tutta la vita di Gesù ecco invece le 24 ore della passione sono sono costruite alle 24 ore sono un giorno non parliamo da Santa Anastasia sta partendo un gruppo adesso per tutta Roma che va animando le adorazioni eucaristiche c'è pure Pasquale si l'ha fatta la chiesa io questo concetto non l'ho capito che vuol dire animare dobbiamo animare Gesù dobbiamo intrattenere io invece magari un gruppo che vada a promuovere la presenza di fronte a Gesù nel Santissimo Sacramento in assoluto silenzio ecco quello è animare quello la silenzio l'adorazione a Gesù quello sono che in due conciclioni si chiacchierà proprio non si ascolta nessuno io vedo anche anche in famiglia e in amici tu parli ti ascolta niente ti ascolta niente ti ascolta niente è tutta così ma così fai c'è una cosa te lo leggiamo ieri cioè voglio dire animare voglio dire vabbè c'è un morto non c'è nessuno bisogna dare vita ma questo se invece ci rendiamo conto che di fronte a noi abbiamo Dio vive e vero in corpo in carne e ossa e sta lì che ci vuole parlare che ci saetta con gli suoi sguardi ci fulmina ci vuole catturare ecco noi non dobbiamo proprio animare nessuno ad animare si animano i morti si fa la respirazione a bocca a bocca ma noi abbiamo Dio vive vero davanti è lui che ci vuole animare non noi che dobbiamo animare lui però questo nasce dall'ignoranza non è appunto quello che sto dicendo è proprio una diciamo una sensibilizzazione nei confronti di questa ignoranza non è un'accusa magari si può anche far presente in queste ore di animazione dire va bene facciamo una preghiera adesso però ricordiamoci che non siamo noi che dobbiamo animare ma lui che ci anima a noi quindi fratelli e sorelle rimaniamo in silenzio facciamo anche se ci distraiamo non importa guardiamolo negli occhi facciamoci animare da Dio in corpo, sangue, anima e divinità lasciamo che ci parli basterebbe dire una cosa così e poi magari qualcuno non se ne va e quindi questo va bene comunque questo era il punto sì 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 infatti quanto è bello vedere i ministri di Dio in silenzio di fronte al Santissimo che pregano è un esempio che si dà sì sì e infatti noi dobbiamo quindi pregare perché Gesù ci tolga da questa ignoranza da pensare che noi morti dobbiamo animare lui vivo e pregare va anche per i suoi ministri perché nel popolo della chiesa c'è tanto bisogno di avere l'esempio dei ministri che pregano che pregano in silenzio che ascoltano Gesù e questo tirerebbe tante anime questo lo diciamo non con polemica ma proprio come come atto nella divina volontà e come atto di preghiera adesso riprendiamo il no una brevissima carrellata anche perché io poi devo andare l'altra volta abbiamo letto dal volume 16 che è il primo capitolo che parla dell'ascensione facciamo una specie di carrellata molto breve così quando ce lo andiamo a leggere noi possiamo leggerlo diciamo in progressione c'è prima il maggio 19 1924 del volume 16 è il primo capitolo che parla in modo specifico dell'ascensione e parla proprio del fatto che Gesù dice con l'ascensione i miei apostoli sentirono questo strappo della mia umanità e loro sentirono questo dolore talmente forte talmente profondo che questo dolore ottenne per loro quello che tre anni di vita insieme non poteva ottenere quindi da piccoli bambini che avevano i pannolini nella vita spirituale maturarono e diventarono gli uomini coraggiosi pronti a mettere anche la loro vita per me e dice Luisa così come gli apostoli sentirono questa pena della privazione questa pena atroce questa pena divina della privazione di sentirsi privati della mia umanità mentre mi vedevano scendere al cielo è la tua vita Luisa la tua vita non è altro che un'alternanza nella gioia di vedermi di sentire le mie lezioni di sentire la mia voce è la pena atroce della mia privazione infatti Luisa o sta con Gesù oppure Gesù non lo sente e lei lo cerca due sono le cose ma è proprio la pena della privazione che è questo vuoto che io creo in te per darti un desiderio ancora maggiore di me e per espandere la tua capacità di ricevere le mie lezioni una volta che mi faccio vedere quindi la pena della privazione anche se atroce ed è la pena che possiamo soffrire che è forse la più vicina alla pena più atroce che soffrì Gesù quello della privazione del padre suo non soltanto sulla croce ma per tutto il corso della sua vita sulla terra la mia pena più grande dice Gesù è che anche se io ero uomo e Dio ed ero sempre inseparabile con il padre nelle pene io mi sentivo separato isolato anzi sentiva che il padre lo condannava faceva proprio il giustiziere e quindi è una pena atroce che Gesù ha sofferto la pena della privazione di Gesù è il segnale che noi l'abbiamo conosciuto lui ci ha riempito di sé e poi ci sentiamo svuotati di questa presenza di questa conoscenza ma è un diciamo un marchigegno divino che crea questo vuoto perché proprio in quel momento lui ci sta sempre vicino quindi Luisa quando si sentiva priva di Gesù chiaramente Gesù era con lei ma era questa pena divina questo vuoto divino atroce che sentiva in sé che doveva fecondare il regno della divina volontà doveva tirare nuove conoscenze nuove verità e quindi la vita di Luisa è stata un'alternanza tra il ricevere verità e la privazione che ne sentiva e quindi questa è la prima lezione che riceviamo dal volume 16 sull'ascensione poi nel volume 26 c'è maggio 12 quindi siamo sempre nel periodo dell'ascensione capitato di maggio 12 1929 in questo secondo capitolo Gesù parla più che altro di un altro aspetto della sua ascensione del fatto che lui quando è asceso al cielo aveva ricostituito la sua umanità perfetta gloriosa vestita della veste di gloria della veste di Adamo innocente quindi aveva restituito ad Adamo la sua veste di Adamo innocente quindi aveva riconquistato tutti quanti i diritti a che la divina volontà venisse a regnare sulla terra e quindi con questa veste di Adamo innocente il nuovo Adamo doveva scendere al padre dice padre vedi ho fatto tutto ho sofferto tutto ho riparato tutto e adesso mi sono vestito della luce dell'Adamo innocente quindi in nome di tutto quello che ho fatto tu mi devi dare i diritti del regno della divina volontà per le creature quando Gesù è risolto ed è proprio per questo facevamo questa osservazione l'altra volta che quando lui apparde alla maddalena non si fece toccare perché nulla di umano per quanto santo nulla di virtuoso ma sempre umano lo poteva toccare quindi Gesù dice alla maddalena no non mi toccare non sono ancora asceso al padre mentre ovviamente quando andò da sua madre si abbracciarono si baciarono perché in Maria c'era già la vita della divina volontà quindi Gesù con questa veste del nuovo Adamo è salito al cielo ma prima di salire al cielo non poteva consentire nessuna umanità con peccato originale di toccarlo perché doveva prima salire al padre con questa veste gloriosa trionfante del nuovo Adamo e quindi questo spiega anche il verso del Vangelo quando lui dice a Maria di Mandala no Maria non mi toccare non sono ancora asceso al padre poi troviamo il volume 34 e il 20 maggio del 1936 dove dice che così come tutti gli atti della sua vita qua giù anche l'ascensione al cielo è un atto che simbolizza il regno della divina volontà simbolizza il fatto che lui andava a trovare in cielo andava a costituire i figli della divina volontà in cielo portandosi tutta la schiera dei giusti dell'antico testamento quindi il limbo si è svuotato e si è popolato di amico in cielo però è restato anche in terra voleva restare con la corona dei suoi figli in terra che dovevano simboleggiare i figli della divina volontà quelli che avevano in sé il germe della resurrezione che avrebbero vissuto nella divina volontà per questo lui diceva io parto però resto resto anche nel santissimo sacramento poi velocemente il compimento di questo volume 35 a questo gruppo di quattro passi che parlano dell'ascensione negli scritti di Luisa è quello con cui ecco abbiamo la più grande sorpresa alla fine non è soltanto Gesù che dice parto con l'ascensione ma resto in mezzo a miei figli nel santissimo sacramento ma è l'anima stessa le ultime righe di questo passo che dicono addirittura io parto e resto quindi l'anima che vive nella divina volontà insieme a Gesù può dire io parto Gesù ascende al cielo come ascende al cielo l'anima che vive nella divina volontà l'anima che vive nella divina volontà ascende al cielo ogni volta che fa un atto nella divina volontà perché quest'atto nella divina volontà sale al cielo a beatificare il cielo a far conoscere Gesù a portare Gesù vivo e vero che io tengo chiuso nel mio atto dice l'anima quindi addirittura facendo la divina volontà vivendo in essa con i nostri atti noi aumentiamo la beatitudine che si trova in cielo quindi partiamo per il cielo come parte Gesù portando Gesù con noi nel nostro atto per beatificarlo per raggiungere la nostra sede per far conoscere il nostro caro Gesù che abbiamo racchiuso nel nostro atto e che tutti lo conrano e restiamo sulla terra perché sulla terra è ancora nostra vita la chiesa militante ma restiamo sulla terra come Gesù sacramentato a sostegno difesa di tutti i fratelli perché soltanto gli atti fatti nella divina volontà possono conquistare nuovi figli nuovi fratelli alla divina volontà possono ottenere le grazie strabilianti della redenzione possono difendere chi è in pericolo sono il passo del missionario sono la parola del predicatore sono l'eroismo dell'anima vittima e quindi nella divina volontà noi partiamo portiamo il nostro Gesù in cielo e andiamo nella nostra casa celeste e restiamo con Gesù vivere nel nostro atto come sostegno a difesa ai nostri fratelli e sorelle e quindi il parto e il resto lo pronuncia anche l'anima che vive nella divina volontà e questo è proprio il compimento dell'ascensione di Gesù questo è quello che volevo dire è chiaro questa ascensione questa progressione di questi quattro passi adesso che ce li andiamo a leggere diventano proprio una specie di ecco di compendio sulla divina volontà dell'ascensione di Gesù e vediamo anche i suoi insentiamenti graduali prima ci ha parlato degli apostoli della privazione poi ci ha parlato della sua umanità che si veste della veste regale trionfante e divina con cui va a riconquistare i diritti presso il padre poi ci parla del suo parto e resto e poi alla fine ci dice del parto e resto che la stessa anima può pronunciare e quindi più di così si muore poi passiamo ad un altro volume c'era da raggiungere qualcosa mi veniva un solo breve pensiero anche grazie alla riflessione diciamo di 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 se non c'è la volontà divina nei nostri atti non siamo non c'è garanzia che ci sia il vero amore ci può essere un certo tipo di amore perché dice Gesù proprio per creazione della creatura ogni nostro atto pure il peccato se vuoi è azionato è motivato da un certo amore per passione cioè voglio dire ci sono diversi tipi d'amore amore di patria amore coniugale amore così ma c'è anche amore per il peccato in un certo senso quindi è bello come nella spiritualità del vivere del divin volere Gesù non parla dell'amore dell'amore si è parlato tantissimo si è anche sparlato tantissimo il problema è che noi il problema di oggi è che tutto si può definire amore ma noi abbiamo la garanzia del vero amore solo dentro la divina volontà è la divina volontà che ci dà la garanzia del vero amore per questo Gesù dice l'unica purezza di intenzione è fare qualsiasi azione non per amore di una creatura per amore a Dio per far bene a qualcosa no ma perché lo vuole Dio ed è Gesù che vuole fare questa azione in me se io mi faccio guidare da questo motore allora nella volontà di Dio automaticamente ci trovo l'amore ma se lo faccio per amore mi posso sbagliare perché l'amore è il figlio primogenito della divina volontà ma è la divina volontà che ha imprimato la divina volontà fa tutto per vero amore il vero amore tiene tutte le virtù quindi c'è questa gerarchia che non possiamo da cui non possiamo prescindere che è divina volontà nel più alto la divina volontà opera e quindi la sua sostanza il suo operare è amore l'amore genera in catena riordina ed è la sostanza di tutte le virtù se invece partiamo dall'amore ci siamo già persi la divina volontà che è al di sopra dell'amore peggio ancora se portiamo da una delle virtù che sta addirittura sotto l'amore possiamo scambiare l'amore per una delle virtù o addirittura la divina volontà per una delle virtù dice faccio tutto per obbedienza ma l'obbedienza può essere ci può indurre a fare delle cose addirittura senza amore e addirittura senza divina volontà quindi per noi la garanzia che ci rende le cose più facili nella divina volontà è guardare sempre solo e soltanto alla divina volontà perché se guardo sempre e solo e soltanto nella divina volontà nella divina volontà c'è la sostanza dell'amore e nell'amore c'è la sostanza di tutte le virtù e quindi è questa la gerarchia del regno di Dio quando in realtà noi abbiamo fatto un cammino di spiritualità umana che va dal basso verso l'alto dice io adesso pratico la pazienza non è che non lo dobbiamo fare sì però abbiamo grazie abbiamo anche adesso la conoscenza che va dall'alto verso il basso cioè dalla divina volontà nel basso verso tutte le virtù però abbiamo la garanzia che queste virtù sono devono essere animate dalla divina volontà altrimenti non mi interessano altrimenti sono pure pericolose c'è povero cuore povero amore senza la divina volontà oggi è tutto infavorato domani fa un bel tonfo pora vertù senza divina volontà oggi pare che vogliamo morire per sacrificio a Dio domani c'è una cosa e mi succede qualche altro quindi la gerarchia che ci deve far vedere in tutto la divina volontà e quindi il vivere nella divina volontà è il grande semplificatore della creatura è il grande semplificatore del cristianensimo non so se dicevo volume 32 30 ottobre del 33 volume 32 30 ottobre del 33 la volontà divina guida l'anima a raccogliere le opere del suo creatore e a portargliele per amarlo e glorificarlo con lo stesso suo amore e le stesse opere sue stavo facendo il mio giro nella creazione la vita è la volontà divina questo girare continuamente negli atti di Dio per ottenere le compagnie operare insieme per le opere stavo facendo il mio giro nella creazione e mi sembrava che tutte le cose create volevano il grande onore di essere offerte come omaggio e gloria al loro creatore ed io passavo da una cosa all'altra e mi sentivo così ricca che avevo tante cose da dare a colui che tanto mi ama e che mentre tutto aveva fatto per me io potevo dare tutto a Dio per potergli dire ti amo per mezzo delle opere tue dei quali sono pregno del tuo amore e mi insegnano ad amarti ma mentre ciò facevo il mio sommo bene Gesù sorprendendomi tutto bontà mi ha detto com'è bello trovare la figlia nostra in mezzo alle opere nostre sentiamo che si vuole mettere a gara con noi noi per amarla noi per amarla abbiamo creato tutto per essa e tutto le abbiamo dato affinché le possedesse le godesse e fossero le narratrici della nostra potenza e le portatrici del nostro amore e perciò essa in ogni cosa creata sente il nostro amore e l'abbraccia che l'abbraccia la bacia e che la smantola le dice fortemente tenacemente ti amo sente le nostre strette d'amore che le facciamo al nostro seno divino in ogni cosa creata ed essa in mezzo a tanto amore si sferde si confonde e per farci la gara fa la stessa via nostra che le fecimo nel creare tante cose per scendere a lei e mettendosi in via in ogni cosa creata sente sente che cosa fecimo per lei e come la mamma ed essa ripete a noi ciò che fecimo per lei ci ripete i nostri abbracci amorosi giate un secondo sei pronto? senti panciulla Dio ti benedica di una volontà stiamo in riunione ci risentiamo dopo va bene Dio ti benedica ciao c'è un po' che fratelli ogni tanto bisogna di per non stare chiuso se tutte giornate notte 35 giorni all'anno da solo tappato in casa ogni tanto bisogna di chiamare di sentire la voce qualche altro vuole la benedizione io l'abbiamo chiamati marito di me è un ordinato chiamaci quanta volte già no no Libio riprendo il pensiero adesso però la creatura fa la stessa la stessa via per risalire il creatore la stessa via che lui ha fatto per sempre a lei ci ripete i nostri abbracci amorosi i nostri baci ardenti le nostre foghe d'amore ed ho i nostri contenti nel vedere che la creatura sale a noi e ci porta ciò che con tanto amore le diamo la nostra la nostra volontà le fa da guida e la porta fino a noi per farci dare il contraccambio di ciò che le abbiamo dato sicché chi vive nella nostra volontà è la raccoglitrice di tutte le opere nostre e ce le porta nel nostro grembo per dirci vi amo con lo stesso vostro amore vi glorifico per mezzo della vostra potenza tutto mi avete dato e tutto vi do diamo a Dio le stesse cose sotto diamo a Dio le stesse cose raccogliamo tutte le cose tutto l'amore spasso in tutte le cose create per noi le portiamo a tutti per dirti a nome di tutti i fratelli diamo con lo stesso vostro amore ti glorifichiamo per mezzo della nostra potenza tutto vi avete dato e tutto vi do diamo onde continuavo il mio giro nella divina volontà e giunta nell'Ede pensavo tra me oh come vorrei l'amore l'adorazione della dama innocente per poter anch'io amare il mio Dio con lo stesso amore con cui l'amò la prima creatura da lui creata il mio dolce Gesù sorprendendomi mi ha detto figlia mia benedetta chi vive nella mia divina volontà trova in essa ciò che vuole quindi tutti i beni divini sono nella divina volontà con l'amore infinito che Adam stesso dava a Dio non perché era ancora con l'amore che Dio stesso aveva messo a lui nel creare lo troviamo in atto vivo nella divina volontà chi vive nella divina volontà è per l'importanza perciò di entrare in fondo e ci continuamente nella divina volontà di entrare e ci continuamente apprende tutto ciò per dare tutto a Dio chi vive nella mia divina volontà trova in essa ciò che vuole perché di tutto ciò che si fa in essa niente esce fuori ma tutto mi rimane dentro insieme con essa inseparabile da essa dalla volontà divina anzi formano la sua stessa vita quindi Adamo tutto ciò che fece nella mia divina volontà nulla potette portarsi con sé al più il felice ricordo del come aveva amato dei mari d'amore che rinontavano delle pure gioie che aveva goduto e di ciò che aveva fatto nel nostro fiat che gli serviva ad amareggiarlo di più ricordato non potendo più fare le stesse cose un atto fatto nella nostra volontà un amore un'adorazione formata in essa è tanto grande che la creatura non tiene capacità deposta dove metterlo perciò solo nella mia volontà si possono fare possedere questi atti infondiamoci continuamente per dargli il stesso amore suo onde chi entra in essa nella divina volontà trova in atto tutto ciò che fece in essa l'adama innocente perché nella divina volontà tutto un atto che facciamo le dammo fino al primo al peccato che erano tutti atti di volontà divina quindi atti eterni infiniti che non non potevano morire chi entra in essa trova in atto tutto ciò che fece in essa l'adama innocente il suo amore le sue tenerezze di figlio verso il suo padre creatore celeste la paternità divina che da tutti i lati adombrava il suo figlio per amarlo tutto fa suo quindi sia l'amore di Adamo che è il suo creatore sia con l'amore finito della paternità divina verso Adamo fa tutto suo facciamo tutto nostro tutto fa suo ed ama adora e ripete ciò che fece l'adama innocente la mia divina volontà non si cambia né si muta qual era tale è e sarà purché la creatura entri in essa e faccia vita insieme con essa non mette limiti né tasse i confini anzi dice prendi ciò che vuoi amo come vuoi nel mio fiat ciò che è tuo è mio solo fuori di esso incominciano le divisioni le separazioni le lontananze e il principio di vita del tuo è mio perciò finché noi rientriamo nella divina volontà finché non diventa vita nostra di tutti sarà sempre un caos altro di pace unione eccetera noi non possiamo pregare quella pace se non viviamo nella divina volontà la pace ci sarà quando ci sarà questa divisione non ci sarà più appunto questa divisione tuo è mio io tu tu e io ma sarà tutt'uno bisogna rientrare in quell'atto unico della divina volontà come dite tutti anzi tu devi sapere che tutto ciò che deve fare la creatura nella nostra volontà viene fatto prima in Dio ed essa nell'atto di farlo riceve la trasmissione dell'amore e degli atti divini in sé e continua a fare ciò che è stato fatto nel nostro essere supremo grazie mi prendo il pensiero tu devi sapere che tutto ciò che deve fare la creatura nella nostra volontà viene fatto prima in Dio ecco perché prendiamo gli atti suoi ed essa nell'atto di farli riceve la trasmissione dell'amore e degli atti divini in sé e continua a fare ciò che è stato fatto nel nostro essere supremo come sono belle queste vite che ricevono la trasmissione di ciò che è stato fatto prima in noi sono le nostre opere più belle le magnificenze della creazione queste vite divine la creazione della creazione vera della quale la creazione estera è soltanto un riflesso grazie all'interno il cielo il sole resta loro dietro esse sorpassano tutte sono le santità assolute da noi decise santità assolute da noi decise che non ci possono sfuggire noi le diamo tanto le diamo tanto del nostro che l'affoghiamo dei nostri beni in modo che la creatura non trova il vuoto di pensare se deve o no corrispondere perché la corrente della luce e dell'amore divino la tengono assediata come fuso nel nostro creatore nel suo creatore e le diamo tale conoscenza delle cose che le serve di libero arbitrio affinché nulla devo spedire fino a quei quei corsaggiori che mi ha chiesto con un po' di primonizzazione di queste cose perché non so non le confesse devo mandarle anche la dava perché c'è proprio questo primo approccio del creatore del creatore con la sua creatura e le messe gregoriane si la spada messe gregoriane e no è importante perché diamo i soldi non te darà soldi che diamo noi per le messe gregoriane e così ce l'hai se hai chiesto i messe gregoriane i soldi le devi mandare da su e le diamo tale conoscenza delle cose che le serve di libero arbitrio affinché nulla faccia di sforzato ma di volontà spontanea e risoluta perciò queste celesti creature sono la nostra occupazione il nostro lavoro continuo le teniamo sempre occupate perché la nostra volontà non sa stare in ozio perché essa è vita lavoro e moto perenne quindi chi di venessa tiene sempre da fare e dà sempre da fare al suo creatore non lo possiamo adormentare lasciamo e lo mettiamo lo so adormentarò grazie per essere a me una cingurina di qualcosa e sì no stavo stavo pensando no magari una cosa che volevo l'ultima volta anzi la penultima non so che sono stato accorato c'è stata poi una una riflessione di padre carlos massier che ha lasciato non voglio caso comunque diciamo da parte di alcuni c'è e io cercavo appunto di riflettere su questa cosa e trovare una risposta molto serenamente diciamo tra di uno cioè che Luisa è stata sicuramente la prima ad avere la missione della conoscenza e quindi di trasmettere la il vivere nel divinvolere per tutte le altre creature però non necessariamente nessuno prima di lei dei santi ha potuto vivere nella divina volontà per me non è così però non voglio influenzare voi voglio sapere voi che cosa ne pensate e dove trovate diciamo suffraggio a quello che pensate negli scritti siccome quello che abbiamo letto adesso mi ha diciamo mi ha fatto risorgere questo pensiero secondo me è anche bello poterne riflettere insieme non so se mi sono spiegata perché dov'è che dice trovi Gesù adesso dice a Luisa una cosa che magari lei non sapeva dice guarda prima nella divina volontà ci trovi tutti gli atti di Adamo innocente giusto Luisa sapeva forse gli aveva detto anche nel volume 28 comunque lo sta ribadendo Luisa sapeva che ci trovava gli atti ovviamente di Gesù gli atti di Maria ok adesso dice guarda che tu nella divina volontà ci trovi pure gli atti di Adamo innocente poi ci sono altri due volumi per esempio nel volume 15 Luisa fa sto giro allora inizia a dire entro una divina volontà con la tua intelligenza una divina volontà percorse tutte le intelligenze delle creature per dare al Padre celeste la gloria e l'onore le riparazioni ciascun pensiero di creature in modo divino e suggellare con la luce con la grazia della tua volontà ciascun pensiero di esse così anch'io voglio percorrere ciascun pensiero dal primo all'ultimo che va a vita nelle menti umane per ripetere ciò che sta fatto da te anzi voglio unirmi con quelli della nostra mamma celeste quindi Luisa copre Gesù la mamma celeste che mai restò indietro ma sempre corse insieme con te qui nel volume 15 lei ancora non sapeva niente diciamo di Adamo e con quelli che hanno fatto i tuoi santi bravissima a quest'ultima parola Gesù mi ha guardato e tutta tenerezza mi ha detto figlia mia nella mia volontà eterna troverai tutti gli atti miei come pure quelli della mia mamma che coinvolgevano tutti gli atti delle creature dal primo all'ultimo che doveva esistere come dentro di un manto e questo manto come formato in due uno si elevava al cielo per ridare al padre mio con una volontà divina tutto ciò che le creature le dovevano amore gloria riparazione soddisfazione l'altro rimaneva a difesa aiuto delle creature e poi dice nessun altro per rispondere a Luisa quello che diceva Carla nessun altro è entrato nella mia volontà per fare tutto ciò che fece la mia umanità quindi qua già Gesù lo dice però secondo me non menziona Adamo perché non ha ancora parlato di Adamo innocente poi nel volume 32 lo stavo nel che sto dicendo nel volume 29 lo stavo vedendo proprio l'altro giorno scusate allora maggio questo qua era il 4 maggio del 23 volume 15 poi c'è il 19 maggio del 1929 volume no 1931 volume 29 che è ancora interessante dove dici ecco ecco perciò qua parla dei dubbi ecco perciò la necessità dei preparativi delle grazie delle mie visite e comunicazioni questo ha suonato male a chi ha letto quindi dubbi e difficoltà che non può essere possibile che tanti altri grandi santi nessuno abbia vissuto nel regno della mia volontà questo lo dice proprio a chiare lettere lo dice proprio non è una nostra inferenza quindi non è vero che Luisa è stata l'unica ad avere la missione della divina volontà cioè ha vissuto nella divina volontà e ha avuto la missione di farla conoscere agli altri mentre qualche altro santo può aver vissuto nella divina volontà senza aver avuto la missione di farlo conoscere agli altri qui dice chiaramente che missione di far conoscere o meno nessuno degli altri grandi santi abbia vissuto nel regno della mia divina volontà quindi non so se mi sono spiegata siccome il contrario l'ho sentito da da un guru che diceva questo parlava conosce Luisa da 40 anni mi era venuto il dubbio però adesso con queste cose che ho visto volevo condividerle con voi e pensare appunto nessuno è entrato nella divina volontà c'è entrato soltanto Adamo innocente per un periodo della sua vita c'è entrato Gesù nella sua umanità proprio per sua natura umana e divina anzi Adamo stesso perché il primo anzi Adamo stesso poteva fare come abbiamo letto adesso gli atti nella divina volontà perché i suoi atti già stavano in Dio era proprio perché nell'umanità di Cristo già stavano fatti che Adamo ne poteva trarre gli atti primi da Gesù e farli quindi Gesù è il primo ovviamente stanno fatti anche da Maria Santissima come anello primo tra la divinità e l'umanità unito all'anello di Gesù e adesso stanno fatti anche in Luisa come secondo anello di congiunzione dove il dono perso da Adamo viene ridato all'umanità ma ad un'umanità come io e te cioè nata con peccato originale e quindi la missione che non poteva avere Maria Santissima altrimenti noi ci saremmo spaventati dice grazie è stata concepita immacolata invece no questo dono è stato ristabilito ad una creatura come me come te e come tutti noi cioè una umanità una creatura nata con peccato originale e quindi essendo stato creato il prototipo si può estendere a tutti e quindi Luisa non solo diciamo Luisa è stata la prima a vivere nel regno della divina volontà Gesù perché avrebbe fatto questa opera universale come dice anche nel volume 16 adesso mi viene diciamo chissà quante altre persone avrei fatto vivere nella tua divina volontà e Gesù dice perché l'avrei fatto se non l'avessi fatto conoscere capito perché dovrei fare un'opera prima universale e poi tenerla nascosta e quindi ovviamente lui crea in Luisa il prototipo della prima anima di stirpe comune a vivere nella divina volontà che poi appunto fa conoscere proprio che è un'opera prima unica universale che è destinata a tutti gli altri faccio un'opera uno a uno con la creatura quando deve essere destinata a tutte così come ho fatto nella creazione dell'uomo così come ho fatto con la mia incarnazione così faccio con il terzo fiat non lo so volevo chiarire a me forse con il vostro supporto questo concetto non so se mi sono ma quello che ha scritto Zeghietto dal 2014 che risponde a Gesù a Luisa del 6 del 1922 no no il 4 quella là che abbiamo letto dice quella dei Santi era il volume 15 il 4 gennaio 1923 ma Rossana voleva aggiungere quest'altro ah me lo dici scusa non ho capito sono 14 riscontra questo quando quando scusate mi hai messo in copertina del libro del perghiere riscontra del volume 14 il 6 ottobre sì 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 quante scritti quante vuoi tanti troverai la rassegnazione unione di voleri ma in nessuno troverai la mia volontà operante come vita nella creatura e la creatura operante come vita nella creatura questo in realtà non basta ancora perché lì sta solo partendo degli scritti lì sta dicendo soltanto nei tuoi scritti c'è questa questa dottrina però uno potrebbe dire un malpensante potrebbe dire ok Luisa è la prima ad aver avuto la missione con gli scritti cioè di farlo conoscere però privatamente nel segreto Gesù avrebbe potuto far vivere qualche altra creatura nella divina volontà certo ma non la fa invece quest'altro passo del volume 29 dice non solo come dice il volume 14 queste verità scritte pubblicate disponibili a tutti non si trovano in nessuno ma anche se non fossero state scritte nessun'altra creatura io l'ho fatta vivere nel regno della divina volontà pur non avendola fatta scrivere non so se mi spiego e quindi diciamo quel volume passo del volume 14 spiega la questione che a Luisa va alla missione del far conoscere ma ipoteticamente non dimostra che lui sia stata la prima a vivere nella divina volontà invece questi altri passi che ho citato servono a suffragare anche quest'altro punto ed è importante perché se uno che è considerato il guru va a dire queste cose è importante poi saperlo lo dico per me perché a me il dubbo mi è venuto poi sono andata a vedere ho detto no vedi e quindi è anche bello dirci le tre di noi queste cose nel caso uno avesse dei contributi vuoi piacere che io non era momento nessuno nessuno lo dice Gesù stesso è importante che ho citato questo volume perché questa domanda qualcuno ha qualche sacerdote ma infatti vedi l'ho trovato proprio quel giorno e dice proprio così vedi e perciò questo ha suonato male a chi ha letto quindi dubbi e difficoltà che non può essere possibile che tanti altri santi nessuno abbia vissuto nel regno della divina volontà quindi questo dice punto e basta e quindi non solo nessuno abbia vissuto ma a maggior ragione nessuno abbia vissuto e nessuno ha scritto perché non aveva quella visione e quindi questo e va bene quindi quindi mi stupisce che in questi burgo questo è il problema più pensiamo di sapere e più corriamo dei rischi per cui ecco ci dobbiamo mantenere piccoli tra di noi e giustamente un ritiro che avete fatto giù no è quando siamo andati aspetta sì sì quando siamo andati con le suore sì sì c'era questo ritiro che ci stava padre Carlos Massieu come si chiama quello dei figli e ha parlato a questi americani filippini lui ha parlato direttamente in inglese io dovevo tradurre poi dall'inglese ad italiano per suore assunte per Don Sergio che è così e uno diciamo del mio gruppo ha fatto anche una domanda così però diciamo questo era quello che era venuto fuori tra le altre cose però aveva lasciato un po' di di confusione lui però parlava di un aveva fatto dei commenti su un documento del Papa non stava leggendo dagli scritti però dicevo vedi a volte tanta scienza tante cose perché è stato accolto da Don Sergio da Don Marco quegli sacerdoti di Corato come il grande guru che è grande cosa lui da 40 anni eccetera eccetera e poi dico com'è facile scostarsi dalle verità dico stiamo parlando di Luisa perché ti devi mettere a parlare di una lettera del Papa delle cose leggiamo un passo dagli scritti e sono venute fuori un sacco di cose che hanno lasciato la gente più confusa che di prima e quindi avevo bisogno di diciamo di avere dei riscontri motivo di più per non fare il più il corato ma fare in giro la sua da Roberto della sua anche la mia sapienza c'è sempre qualche confusione ma dipende 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 diciamo anche noi possiamo passibili di tante confusioni e tante cose per questo facciamo il cristianacolo per questo chiamiamo lo spirito santo eccetera però quando uno di noi o viene considerato oppure si considera oppure il depositario o dici che questo deve sapere tutto questo scioglie tutti i dubbi là iniziano i problemi per cui dobbiamo sempre aiutarci a vicenda insomma vabbè grazie scusate non volevo divagare però mi era venuto sto pensiero voi avete chiesto che cosa c'ha in mente Marina io ve l'ho detto questo è quanto ma quando quando ribadiscono quando ribadiscono che però il Dio il disegno è unico in Dio quindi prima ha preparato anche le anime le creature già a questa vita di volontà divina però la vera vita di volontà divina parte con Luisa no si diceva no questa persona diceva diceva noi non sappiamo nel segreto di Dio se qualche anima qualche altra anima ha vissuto nella divina volontà Luisa è la prima con cui l'ha fatto conoscere però in realtà non ha senso perché Gesù non dice questo però lì per lì io non mi sono sentita perché non avevo la sicurezza appunto non avevo la sicurezza della mia conoscenza e poi non era una conversazione ma era un monologo per cui lungi da me diciamo il contraddire eccetera però ecco era rimasto un po' con una confusione adesso pare però che queste cose qui ecco appunto suffragano la tesi opposta diciamo la verità opposta io sono rimasta un attimo perplessa non vi volevo confondere scusa che è arrivato nel lito il scino della oggi inserito del 1800 adesso non mi ricordo non ho la tua memoria dove lì si parla dell'intelletto memoria e volontà di Gesù che doveva prendere praticamente piede nella popolazione come era il cuore di Gesù e quindi lì ne parla come di una cosa sacra che noi avremmo dovuto adorare già da qui i tempi di dover prendere questo intelletto memoria e volontà ed è del 1800 e qualcosa ce l'ho a casa sto rimasto un attimo perplessa ma la fusione come Gianni Santi c'era questa fusione con l'umanità di Gesù si parla sempre della fusione capito non della divina volontà con l'umanità di Gesù però se io seguo l'umanità di Gesù entro in un certo in un certo non si può operare nella divina volontà se non hai riconoscenza d'accordo però qualcosa di molto grande c'era e io non lo sapevo io non lo sapevo no ma infatti è verissimo capito Gesù l'ha preparato per sei anni ma io mi ricordo questo libricino della Ose sono andata a leggerlo e dico ma è anche vero è anche vero che alla luce di queste conoscenze che tu già sai vedi qualcosa di grande che altrimenti non avresti neanche visto esatto esatto cioè qualcosa per me è rimasto rimasto così ma poi me ne è venuta un'altra adesso che poi forse no delle sue ore delle cose questi spiegano in una certa maniera pure questo sono messo tutte e due da parte per cosiddetto dico ma qui parliamo senza parlare ma di volontà di Dio in una maniera molto fotte capito quello che voglio dire ma i preparatori ecco sì sì vabbè ma io per carità non mi intornetto nel discorso di Marina solo che volevo dire questo mio pensiero che mi è rimasto dico io non lo conoscevo quindi sta cosa del sacro del sacro capo di Gesù che bisognava farle come il cuore di Gesù quindi era già una forte preparazione sì però già questa sa come devozione sa di devozione voglio dire cioè non lo so che sa di devozione no tutte sono cioè sono tutte dei grandi dei grandi le grandi preparazioni però Gesù dice il vivere nel divinvolere non l'ho insegnato a nessuno non l'ho detto a nessuno indipendentemente da quello che hai detto tu sì 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 questo mio pensiero che mi era rimasto che ho detto io questa cosa non la sapevo per esempio lo stato adesso c'è la divina volontà capito Marina è solo questo e quindi sono rimasta un attimino allora volume 34 un portamento è stato quello del sacro assoluto volume 34 8 aprile del 37 siamo in fondo pagina 111 tutto ciò titoletto tutto ciò che si fa nel volere divino costituisce un diritto per tutti costituisce un diritto per tutti e tutti possono fare quel bene questi diritti furono dati da Adamo dalla regina del cielo da nostro signore il quale ci preparò da questi regali ecco le tre le tre umanità santissime santi e santissime di Adamo del cielo oh bello questo passo perché moce li mette tutti e tre uno due tre queste sono le tre umanità diciamo che hanno vissuto nella divina volontà o come natura umana e divina o completamente o parzialmente prima di Luisa bellissimo salto il primo pezzo la mia divina volontà con la sua immensità coinvolge tutti e tutto non vi è essere che non nuota in essa perciò tutto ciò che si fa diventa diritto di tutti e tutti possono ripetere quell'atto al più chi non vuole ripeterlo e possederlo e non vuole riconoscere che vive in essa e che la sua vita è animata dal fia divino questi sono come ciechi che mentre il sole le tardeggia con la sua luce essi non vedono e giacciono come se fosse notte per loro sono come paralizzati che mentre possono avere l'uso delle membra di fare il bene si contentano di restare immobilizzati sono come muti che non sanno parlare però sono ciechi paralizzati e muti volontariamente volontari ma tutto il resto ma per tutti gli altri come la mia volontà è vita è vita e sta in comunicazione con tutti così tutto ciò che si può fare in essa è vita è bene è diritto di tutti quindi tutti i beni dei romani tra Santissimo Gesù di Maria Santissima e di Adamo sono e poi adesso di Guisa diritto di tutti e tutti possono ripetere quell'atto per formare la vita divina operante in loro tutti possono ripetere quell'atto è la vera comunione dei beni comunione dei santi comunione dei beni e dei santi in questo caso dei beni perché gli atti sono i beni quindi l'atto che sta nella divina volontà è atto tuo e atto mio è come appartiene a tutti i primi diritti di far possedere il regno del mio volere alle umane generazioni furono dati da Adamo perché da lui nella prima epoca della sua vita i suoi atti furono fatti nel volere divino e sebbene peccò e perdette volontariamente la vita operante della mia volontà in lui e lui in noi tuttavia ma i suoi atti restarono peccato si è staccato però i suoi atti restarono perché ciò che si fa nel nostro volere non esce perché sono le nostre vincite le nostre vittorie sull'umano volere quindi sono nostri e noi mai mettiamo fuori ciò che è nostro onde chi entra in esso trova il primo amore di Adamo i suoi primi atti che le danno hanno il diritto di possedere il nostro fiat e di ripetere gli stessi atti che lui e vedi lo stesso dipende le stessi atti che lui fece lo stesso i suoi atti sono ancora parlanti il suo amore ancora fuso nel nostro e gessantemente ci ama col nostro stesso amore perciò l'operare nel volere divino si rende eterno con noi e non è soggetto a finire e si mette a disposizione di tutti in modo che solo chi è ingrato non lo prende e non si vuol servire della vita per ricevere vita in pratica non prende anche tutti gli archi di Adamo ci scordano ci scordo sempre non prende gli archi di Adamo ma solo per Gesù di Maria e di Luisa ma di Adamo no volevo appunto giusto per appunto tutto in comunione proprio nella divina volontà che si realizza no Rossana diceva comunione dei beni dei santi c'è una differenza nel catechismo si parla della comunione nelle cose sante sancta e la comunione tra persone sante sancti quindi la comunione nelle cose sante quindi la comunione nella fede nei sacramenti nelle eucaristie eccetera invece la comunione dei santi si intende quella tra gli stati mistici la chiesa trionfante purgante militante eccetera noi non abbiamo accesso alla beatitudine della chiesa trionfante possiamo fare suffragi alla chiesa purgante la chiesa purgante può aiutare la chiesa militante no questi sono questi tipi di comunione però soltanto nella divina volontà si eliminano tutte le barriere e la comunione delle cose sante anzi direi degli atti e la comunione delle persone sante quindi la comunione di tutte le persone che vivono la divina volontà si realizza nel modo pieno infatti infatti mentre appunto la comunione nei sacramenti cioè tutti partecipano eccetera però soltanto nella divina volontà proprio gli atti miei sono atti tuoi c'è proprio una comunione in cui non c'è proprietà private possiamo pienamente partecipare come nostri siccome Gesù ci dà come nostri le opere sue gli atti che fai tu sono atti pure miei perché stanno fatti nella stessa divina volontà allo stesso modo per quanto riguarda la comunione dei santi nella divina volontà soltanto nella divina volontà possiamo fare per esempio tra la terra e il purgatorio dove ci sono delle barri cioè tra la terra e il paradiso per esempio fuori della divina volontà noi possiamo ricevere delle intercessioni dei favori delle grazie ma nella divina volontà i santi in paradiso altro che intercessione e grazie loro si tuffano nei nostri atti e guai hanno guai fanno sfalleggiano sgomitano tra di loro per buttarsi negli atti nostri questa è vera comunione se poi facciamo l'esempio di chiesa purgante e chiesa militante cioè tra noi sulla terra e il purgatorio fuori dalla divina volontà gli possiamo offrire una messa ci sono ancora i legati magari gli possiamo fare una preghiera di suffraggio ma questi stanno ancora lì a purgare poveracci non ricevono niente da noi perché il tubo la via l'autostrada attraverso cui passano i suffraggi è stretta è stretta perché dipende dalla nostra umana volontà mentre nella divina volontà dice Gesù a Luisa soltanto nella divina volontà si fanno i suffraggi più completi dove Luisa diceva prendo tutte le pene di Gesù il sangue di Gesù e le verso sul mio confessore defunto dal momento in cui è stato concepito fino alla fine Gesù e il confessore dice ripetilo 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 e quindi convediamo tra queste chiese che sono in comunicazione dovrebbero essere in piena comunione ma sono ancora separate quindi la trionfante la purgante e la militante soltanto tramite le anime che vivono nella divina volontà si può ottenere questa vera comunione quindi tra cose sante e tra persone sante quindi tra sancta e sancti come dice il catechismo ai numeri 946 e 960 ho ripreso una cosa che avevamo fatto in America però questo mi ha ricordato questa cosa qui e quindi la distinzione anche nella comunione in cose sante e tra persone sante e come solo nella divina volontà esista la pienezza di questa comunione ma scusa Marina basta scusa la mia ignoranza per esempio io dico la preghiera dei defunti il suffragio di mio padre è di pagina 104 vale già quella come divina volontà per pregare per i detti e quindi il fatto che però glielo faccio una divina volontà ecco nella regina va a montare e nella prima e quindi da lì dico questo proprio per la mia ignoranza forse per questo mi chiedo da un'anima che era mio padre sono diventate 12 e per questo allora se tu innanzitutto il fatto che questa preghiera diciamo sia un suffragio potentissimo nella divina volontà non dipende dal fatto che tu la prendi dal libro delle preghiere a pagina 145 eccetera ma dipende solo e soltanto dal fatto se e che tu ti sei fusa nella divina volontà che tu abbia letto la preghiera o l'abbia fatto in un modo diverso che tu lo faccia come lo faccia uno come lo faccia un altro però solo e soltanto dal fatto che sei fusa nella divina volontà se dici l'eterno riposo se dici quella preghiera se lo dici con una parola o con un'altra è suffragio una divina volontà quindi certo certamente è valido poi ti dico pure un'altra cosa non solo sono diventate 12 sono diventate miliardi perché tu nel momento in cui fai un suffragio nella divina volontà ti pensi che la divina volontà si ferma tuo padre tutte le anime infatti chiuso con tutte le anime del purgatorio anche quelle più scordate e anche se tu ti scordi il giorno di dire tutte le anime in purgatorio siccome questa preghiera tu la fai nella divina volontà automaticamente per il principio dei vasi capillari per un principio di scienza divina si diffonde a tutte le anime purgate quindi sono una per 12 elevata a 12 elevata a 12 elevata a 12 elevata a 12 e questo dipende dal fatto che tu ti fondi continuamente vuoi fare questo suffragio nella divina volontà e quindi questo bellissimo però l'eterno riposo donna loro signore è un chiedere a Dio che faccia lui qualcosa mentre quel suffragio come abbiamo letto anche prima che sia la pagina tolta è proprio questo entrare e prendere tutto il potere di venire l'amore di Dio prende tutto l'operato del sangue di Gesù delle piave e prendere i falinostri e riversarli sulla creatura è verissimo voglio dire che dice un eterno riposo è verissimo infatti usare la nostra intelligenza la nostra memoria la nostra volontà e fare questi atti così specifici così particolari voglio dire non sto dicendo anzi queste piave sono bellissime però si possono fare in tanti diciamo uno può usare tante parole diverse sto dicendo l'eterno riposo perché essendo l'eterno riposo come diciamo una preghiera ufficiale della chiesa io se la recito nella divina come pure Luisa diceva nella divina volontà al volume 12 io mi metto a recitare il credo e intendo con questo credo impetrare il dono della fede per tutte le creature io posso dire nella divina volontà io intendo recitare questo eterno riposo e con questo eterno riposo io intendo impetrare per tutte le anime la luce la pienezza la luce perpetua la luce perpetua la divina volontà beatificante quindi tutto quello che è così diciamo in codice quasi non spiegato nelle preghiere della chiesa tu la preghiera della pace 146 la trovi pure nell'eterno riposo però non è codificata quindi noi che abbiamo questa conoscenza la vogliamo dispiegare però gli dico paradossalmente anche recitando un eterno riposo però avendoci la conoscenza e l'intenzione di tutto quello che fa la divina volontà nel suffragio anche quell'eterno riposo nella divina volontà perché io so e perché io voglio perché ho quelle volontà di Dio produce l'effetto di quel suffragio perché so che quando stai con gli altri la volontà di Dio e so che cosa vuol dire riuscire che cosa vuol dire riposare in acqua riposare in acqua questo non è questo non è un deterrente a dire ma da ora in poi domani non faccio più la preghiera per i defunti ma dico non riposo così mi sbrigo no sbagliato assolutamente è un discorso paradossale per dire in tutte le preghiere della chiesa io ci posso mettere la conoscenza di quello che ho certo quando stai con gli altri in chiesa in qualche maniera fai no bravissima ecco perché siamo sempre tra di noi anzi per esempio per esempio no nella messa con Don Massimo ho notato che a un certo punto anche se non è la cosa canonica della chiesa voi mi mette anziché il canto anziché fate delle preghiere comuni e la divina volontà che se stesse a San Pietro e Paolo ai Santissimi Apostoli dice ma che so ste qua statevi zitte che c'è la messa capito e invece voi iniziate a fare queste preghiere allora perché c'è questa conoscenza comune perché si fa ciao no saluto il mio fratello e allora allora dico proprio perché però voglio dire paradossalmente anche con la messa di Don Massimo se Don Massimo un giorno dice ragazzi silenzio silenzio durante la messa le preghe comunitarie le facciamo durante però voi avete la conoscenza quindi tutto quello che si fa si fa comunque che venga recitato come preghiera non so se mi so spiegata quindi quando noi stiamo nella messa a Santo Apollinare oppure a Santo Ippolito comunque facciamo tutto nella misura in cui abbiamo la volontà in Dio e la conoscenza di voler fare quegli atti senza che abbiamo o meno la possibilità di recitarli ad alta voce di leggerli di non leggerli quello che conta è la volontà e la conoscenza ma anche la fusione dell'umana famiglia quando stiamo in chiesa assolutamente tant'è vero e questa è una delle cose importanti tant'è vero che la Santa Messa per definizione è la ripetizione dell'impernazione vita nascosta vita pubblica passione morte resurrezione di Gesù Cristo non c'è giro più completo nella redenzione che la Santa Messa non c'è suffragio più completo che la Santa Messa per questo volevo anche ecco magari poi voglio ognuno fa come vuole però in realtà appunto proprio perché la Santa Messa è la Santa Messa io eviterei pure di fare queste preghiere comunitarie cioè voglio dire facciamole ma proprio è la Messa universale non è che abbiamo bisogno di recitare le cose facciamole magari unite in comunione però nel silenzio e guardando i gesti dal sacerdote perché quello che dice il sacerdote è tutto nella Santa Messa c'è tutto quindi anche se un giorno non mettiamo a fare questo mi aveva colpito di vedere queste preghiere comunitarie durante questa Santa Messa ci sono già basta concentrarsi basta avere la concentra un'altra cosa pure l'omelia di Don Massimo è un'omelia non è una conversazione pure lui una volta silenzio ragazzi non mi interrompete pare che durante l'omelia si fa il cenacolo no bisogna lasciarlo parlare lui parla quando sta vestito sta davanti all'altare in persona a Cristi non è un cenacolo bisogna starsi zitti e quindi avere diciamo a botte ci si può confondere che siccome stiamo in una casa privata eccetera no la Santa Messa è la ripetizione dell'incarnazione vita nascosta vita pubblica e quindi non c'è modo più completo nella divina volontà che possiamo viverlo se non con la reverenza più assoluta con l'ascolto più assoluto con la partecipazione interiore più assoluta e in quella noi ci mettiamo proprio il massimo di tutto voglio dire quindi e quindi ecco la distinzione tra il cenacolo e la Santa Messa soprattutto nell'omelia del sacerdote però questo diciamo vabbè non lo so se abbiamo divagato però è una cosa che mi sentivo diciamo che quello che facciamo anche fa capire a noi e agli altre persone quello che che leggiamo che molte volte non lo riescono nemmeno a capire quello che si fa nella Santa Messa o quello che che la Santa Messa è tutto però in questa maniera forse nel fare questo è un tutto generico quindi tu sei astratta chissà dove mentre invece in quella maniera con i piccoli passi con i piccoli passi riesci a rientrare e non siamo tutte marine ecco potrebbe essere questo il discorso oh ma che senti è così oh è brutale che dici io questo lo dico io non siamo tutte marine no no è vero male siamo siamo proprio piccole petitte petitte delle lenticchette siamo delle lenticchette siamo dove ci mette il Signore al nostro posto non al Signore piano no siamo i posti degli altri sì sì esatto non riconosciamo quel Gesù che sta facendo delle grandi cose questo questo è senza dubbio insomma ma questo da sempre volume 25 volume 25 21 dicembre del 28 volume 25 nel creare l'uomo Dio gli diede anche un vuoto invisibile per l'anima sua dove l'uomo doveva formare le sue opere sante scrivi Luisa stavo facendo il mio giro nel Fiat Divino e riandando ai primi tempi della creazione per unirmi agli atti fatti dal nostro Padre Adamo nello stato di innocenza per unirmi con Lui e seguire dove Lui lasciò e il mio amato Gesù dunque per il suo tempo di pensiero stavo facendo il mio giro nel Fiat Divino e riandando ai primi tempi della creazione per unirmi agli atti quindi anche noi ci uniamo agli atti infatti l'Adamo è innocente uniamoci a Luisa non a Carlo e l'altro seguiamo a Luisa e se a te facciamo questo giro come stiamo parlando del momento nell'Ede quando l'Adamo è innocente nell'Ede sono stati innocenti per unirmi con Lui e seguire dove Lui lasciò e Luisa appunto poi ha seguito dove Lui lasciò e il mio amato Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia nel creare l'uomo Dio gli diede un universo visibile dove doveva spaziarsi vedere le opere del suo creatore fatte con tanto ordine e armonia fatte per amore suo e in questo vuoto fare anche le opere sue e come le diede un vuoto visibile così le diede un vuoto invisibile più bello ancora per l'anima sua scusa no ho capito che cosa sto vuoto scusa oh spiega vediamo se ce lo spiega e il vuoto della creazione è il cielo il vuoto invisibile è l'anima più bello ancora per l'anima sua più bello ancora per l'anima sua dove l'uomo doveva formare le sue opere sante le opere interiori dove l'uomo doveva formare le sue opere sante il suo sole il suo cielo le sue stelle e facendo eco al suo creatore doveva riempire questo vuoto di tutte le opere sue stai parlando di opere interiori ma siccome l'uomo scese dalla mia divina volontà per vivere della sua perdette l'eco del suo creatore e il modello di poter copiare le nostre opere quindi si può dire che non ci sono altro in questo vuoto che i primi passi dell'uomo tutto il resto è vuoto i primi passi fatti da Adamo eppure deve essere riempito e perciò aspetto con tanto amore chi vive e deve vivere nel mio volere che sentendo la potenza del nostro ego ed avendo presente i nostri modelli si affrenderanno a riempire questo vuoto invisibile che con tanto amore viete della creazione ma sai tu qual è questo vuoto? la nostra volontà la volontà divina mancano gli altri volontari come diede un cielo un sole alla natura così diede il cielo il sole del mio fiat all'anima e quando ti vedo mettere i tuoi passi appresso ai passi dell'Adamo innocente dico ecco finalmente il vuoto della mia divina volontà incomincia a ricevere le prime conquiste le prime opere della creatura perciò si attenta e segui sempre il tuo volo nel mio volere divino quindi Luisa quindi Luisa ha continuato a riempire questi atti riempire la sua vita di atti di volontà divina questo vuoto la volontà divina che ti stai in attesa che la riempiamo di atti divina ed ecco come devono stare che devono fare i piccoli nella divina volontà è necessario volume 16 8 febbraio del 24 è necessario che tu venga avanti a tutti e dopo darai una voltata della nostra volontà e andrai dietro a tutti te li metterai come in greco e ce li porterai tutti nel nostro seno questo è l'operato che ha fatto che doveva fare Luisa stavo fondendomi tutta nel santo volere divino e siccome nel fare ciò come la più piccola di tutti mi metto avanti a tutte le generazioni anche prima che Adamo e Eva fossero creati affinché prima che loro peccassero io preparassi prima di loro l'atto di riparazione alla divina ma è stato bellissimo questo è già rimasto il cadere già ripararlo prima ma è stato di riparazione perché che nel volere divino non c'è nel passato nel futuro ma è tutto presente quindi poter mettersi prima ed anche perché essendo piccola potessi avvicinarla avvicinare la maestra suprema per perorare e fare i miei piccoli atti nel suo volere per poter coprire tutti gli atti delle creature con la sua volontà divina per coprire tutti gli atti delle creature con la volontà divina e così poter circolare ci sono in oriente non posso orientare ci sono da luglio no ci sono da luglio se potessi fare allora 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 dato il seno non lo prendete pensiero su perché tutto questo operato che l'ha fatto come la più piccola di tutti mi metto davanti a due generazioni prima che andiamo per fare l'atto di riparazione alla maestra suprema prima che perché tutto tanto presente è atto unico quindi poteva farlo ed anche riprendo Dante perché essendo piccola potesse avvicinare alla maestra suprema per perorare e fare gli piccoli atti nel suo volere per poter coprire tutti gli atti delle creature con la sua volontà divina e così poter vincolare la volontà umana spezzata con la divina e farne una sola chi deve perorare Gesù Gesù le dice chi deve perorare riparare unificare la nostra volontà non solo con la sua ma con quella degli altri deve starci vicino e tanto insieme con noi da ricevere tutti i riflessi della divinità per copiarli in se stesso deve avere un pensiero che sia di tutti una parola un'opera un passo un amore che sia di tutti e per tutti se tu sapessi con quale amore ti aspetta il nostro celeste padre il gaudio il contento che sente nel vederti così vicino a portare nel suo greco la creazione tutta per dargli il ricambio di tutti si sente ritornare la gloria le gioie i trastulli dello scopo della creazione perciò è necessario che tu venga avanti a tutti questo contento specifico di Luisa che però dovremmo fare anche noi perciò è necessario che tu venga avanti a tutti e dopo che sarai venuta avanti darai una voltata della nostra volontà e andrai dietro a tutti te li metterai come in crembo e ce li porterai tutti nel nostro seno e noi vedendo ricoperti dai tuoi atti fatti nel nostro volere li accoglieremo con più amore e ci sentiremo più disposti a vincolare la nostra volontà con quella delle creature per fare che ritorni nel suo pieno dominio un po' un po' quando facciamo gli atti di tutti che facciamo per portare a Dio i frattestini ci sono andati di volontà di Dio quindi non solo Gesù e Maria hanno fatti i nostri atti ma pure Luisa ce li ha fatti e Luisa e Luisa la scelta apposta Luisa sono i treplici atti praticamente ma scelta Luisa e anche Adamo in questo senso anche Adamo la sposa i treplici atti sono i treplici atti Gesù e Maria e Luisa la madre figlio e la sposa Gesù e Maria e Luisa sono i treplici atti perciò coraggio tutti tutti fruiscono degli atti fatti nella nostra volontà che più che sole tardeggiano su tutti per fare che il sole del volere eterno solga di nuovo con quello scopo per cui furono create tutte le generazioni infatti in dei siti c'è scritto che lui mentre facciamo gli atti e noi facciamo gli atti lui manda luci se questo credito manda luce e questa luce tocca le grandi ma il prima dono anche loro vi ringrazio vi saluto che sono venute persone scusate per qualche divagazione grazie grazie a presto ciao grazie 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 a te vediamo con cara abbiamo preso la tua volontà divina come vita ci hai fatto contemplare Gesù nelle lodi meraviglia che hai fatto in Maria Santissima come dice Generante tutti i figli nel suo cuore il germe con cui fu concepita la sovrana celeste fu preso dalla stirpe umana perché anche lei ebbe la sua vita umana come tutte le altre creature come le bianchie dice Gesù però c'è questa gran differenza non concesse a nessun'altra creatura che in questo germe umano prima che venisse concepita la sua bell'anima il mio fiat con la sua omnipotenza accentrò i suoi raggi in questo germe e con la sua luce e calore annientò e fece morire ciò che di male c'era in esso purificandolo del tutto e rendendolo puro e santo ed esente dalla macchia d'origine allora prima che venisse concepita Maria Santissima nel germe umano Maria Santissima viene dalla natura umana purire no? però prima che venisse concepita nel germe umano Maria Santissima ha preso il fiat divino ha preso questo germe l'ha purificato e poi viene concepita e poi dopo che l'ha purificata dalla macchia d'origine questo germe fu concepita in questo germe l'immacolata bambina questa è di Maria bambina di Maria la nascita di Maria si che tu si no scusa no no proprio ho notato che la cosa bella delle lodi nella divina volontà è che fa una progressione dei volumi adesso stiamo proprio alla fine vero Padre un gino a 390 e quindi prende dal volume 34 poi 35 36 quando iniziamo da capo la settimana 1 inizia dall'11 12 è bellissima quella selezione allora proprio in questo periodo stavo traducendo il volume 34 mi trovavo mi trovo proprio su quei brani del 1937 il dicembre 8 poi il dicembre 16 dove di quelli lì e sono una progressione proprio il volume 34 ci sono 4 5 passi in cui Luisa dice continua sempre sullo stesso sull'immacolato concepimento sappiamo sempre che l'immacolato concepimento è trattato prima volume 15 poi volume 16 poi volume 17 sempre l'8 dicembre l'ultima cosa e diciamo l'ultima verità di Gesù che non ce la fa più proprio che deve dire tutto sta nel volume 34 è meravigliosa e quindi dice proprio che lei fu concepita nel fiat divino e fu concepita diciamo dentro Gesù prima che ancora Gesù si incarnasse perché lei fosse purificata concepita pura da ogni immacchia fu concepita come dice la Chiesa no con i meriti nei meriti previsti del futuro redentore cioè lei fu concepita nell'umanità di Gesù affinché l'umanità di Gesù già presente ovviamente nella volontà di Dio potesse essere poi concepita in lei quindi lei fu concepita in lui affinché lui potesse essere concepito in lei e poi il fiat divino le dà la potenza di concepire non solo se stessa ma il figlio suo in tutte le creature affinché ogni creatura abbia a disposizione madre e figlio e quindi questo vediamo adesso in questo volume 24 è bellissimo l'immacolato concepimento e per quanto riguarda Adamo Marina lui è stato creato sempre in visione di Gesù certamente lui Adamo è stato creato nella divina volontà ma è stato creato dentro l'umanità di Gesù così come Maria Santissima perché gli atti primi come dice un altro passo Adamo e poi diciamo come prima creatura prima fu concepito e pensato e creato dentro Dio con tutti i suoi atti e poi fu messo fuori lo stesso come Adamo e infatti diciamo che saremmo stati tutti concepiti in questo modo se non ci fosse stato il peccato originale e di fatto che Maria Santissima ha dovuto purificare il germe perché sì e questo immacolato concepimento non costituisce in sé un merito di Maria Santissima perché dice Gesù la Chiesa sa soltanto le prime lettere dell'alfabeto della sua grandezza perché noi prendiamo i titoli di Maria Santissima e le diamo come se noi le diamo il merito degli effetti della divina volontà quando il suo merito sta nel fatto che al momento di questo concepimento dotata di ragione divina le fu dato la possibilità di scegliere di fare un atto libero di volontà della sua volontà conobbe conobbe le conseguenze della volontà umana conobbe le sofferenze del verbo incarnato conobbe le sofferenze che lei avrebbe patito e lei con questo atto di volontà che continuò e non diede neanche un respiro per tutta la sua vita allegò la sua volontà umana ai piedi dell'altissimo questo è il grande merito e diciamo la grandezza di Maria Santissima è il fatto che non diede mai vita alla sua umana volontà grazie bellissima grazie bellissima grazie grazie e poi fu concepita in questo germe l'immacolata bambina che tutto il portento dell'immacolato concepimento fu operato dalla mia divina perfetto non c'è un singolo merito di Maria se vogliamo ma il merito di Maria sta proprio nel fatto di non aver conosciuto di aver fatto sempre la volontà del padre e quindi non dobbiamo confondere come dice Gesù noi confondiamo gli effetti con la vita Maria fece sempre vita nella divina volontà non fece un altro germe il fio non fece un altro germe umano ne lo distrusse ma lo purificò e col suo calore e luce gli tolse tutti gli umori che aveva contratto questo germe dal peccato d'Adamo e fece ritornare il germe umano in lei come era uscito dalle nostre mani creatrici perciò come fu concepita la piccola vergine regina così fu concepito in lei e nelle umane generazioni il regno della mia divina volontà perché noi la trinità santissima nel formare e dare ad una creatura grazie sorprendenti guardiamo in lei tutta l'umanità tutta l'umanità dell'umana famiglia come se fosse una sola vedi dunque come fu come fu concepita la vergine in questo germe esente ed ogni macchia che fu tutta opera del fio divino così restò concepito di nuovo nell'umanità il suo regno divino e come l'immacolata verginella nacque così fu restituito il diritto di poterlo possedere ora venendo io Gesù sulla terra a prendere umana carne me ne servì del germe della sovrana del cielo e si può dire che insieme con lei lavorammo per formare di nuovo questo nostro regno nelle umane generazioni quindi non resta altro che conoscerlo per possederlo e perciò sto manifestando ciò che al regno e dalla mia volontà divina appartiene a ciò che la creatura batta le sue vie segua i nostri passi ed entra in possesso di essa e la mia divina volontà col suo calore e luce ripeterà il prodigio di togliere gli umori cattivi che possiede il germe umano e per essere sicura metterà il germe nella sua luce calore e si costituirà vita del germe e così si scambieranno il possesso la mia divina volontà prenderà il possesso del germe per formarvi la sua vita di luce di calore e santità e la creatura ritornerà a prendere di nuovo il possesso del regno del mio fio divino puoi leggere questo pezzetto per essere sicura e per essere sicura metterà il germe per essere sicura metterà il germe della sua luce e calore e si costituirà vita del germe questa è qui la divina volontà la divina volontà la divina volontà per essere sicura metterà il germe della sua luce e calore e si costituirà vita del germe e così si scambieranno il possesso la mia divina volontà prenderà il possesso del germe per formarvi la sua vita di luce di calore e santità e la creatura ritornerà a prendere di nuovo il possesso del regno del mio fio divino come era prima del peccato originale quando il germe non era accorsato contaminato il concepimento della vergine immacolata fu un atto questo volume 31 soltanto questo volume 31 9 ottobre 1932 così fu il concepimento della vergine immacolata fu un atto nuovo della nostra volontà nuovo nel tempo nuovo nel modo nuovo nella grazia in lei venne rinnovata tutta la creazione nella nostra ondiveggenza e immensità chiamammo tutte le creature con tutti i loro atti buoni passati presenti e futuri come se fossero uno solo affinché su di esse e su tutti i loro atti fosse formato questo concepimento e tutte le creature avessero di fatto diritto quando il nostro volere compie un atto che deve servire al bene di tutti non mette nessuno in disparte ma facendo uso della propria onnipotenza riunisce insieme le creature umane e gli atti loro tranne il peccato perché il male non rientra negli atti nostri e eseguisce l'atto che ha stabilito di fare come vedi figlia mia anche i tuoi atti parteciparono al concepimento della celeste regina e perciò con diritto sei figlia sua e lei con diritto è la mamma tua questo è bello eh questo è bello no no davvero è bello hai scoperto la mamma? si hai scoperto la mamma? si è accesa si è accesa una lampadina grande grande hai scoperto la mamma dell'eccellenza l'abbiamo scoperto i nostri atti partecipano così come in altre occasioni Gesù ci ha detto che i nostri atti partecipano alla creazione di Adamo anzi addirittura insieme a Luisa noi diamo gloria a Dio prima ancora che Adamo fosse avesse la vita per poter dire ti amo così pure i nostri atti in un altro volume 22 dice che sono necessari per l'incarnazione del verbo adesso ci dice che i nostri atti partecipano al concepimento di Maria Santissima quindi i nostri atti sono nell'atto unico eterno di Dio prima che ancora tutto fosse come vedi figlia mia anche i tuoi atti parteciparono al concepimento della celeste regina e perciò con diritto sei figlia sua e lei con diritto e la mamma tua ogni nostra opera parte sempre dal nostro atto unico il quale appunto perché unico collega insieme con le cose siamo tutti a punto lo saremo tutti quando staremo nella vita a volontà quando prendiamo questo atto unico se cos'è tenente con la sua quando riconosciamo di essere questo atto unico dando alla luce la Vergine Santa noi raggiungemmo molteplici effetti concedemmo l'esistenza all'Immacolata Signora rinnovammo l'intera creazione lavammo la creazione di nuovo amore e la mettemmo al sicuro perché la affidammo alla materna custodia della Divina Maria questo consiste appunto la nostra onnipotenza e la nostra forza creatrice di compiere cioè ogni cosa e di procurare del bene a tutti mediante un atto solo ne vorrei prendere tutti i nostri atti da quell'atto solo dell'attuto così fa il battesimo delle creature della mia volontà il battesimo tu hai sto pallino perché c'è un germe e gli altri che verranno c'è un germe e lo sviluppano e loro si fa se no si fa un giudizio sole non vi ha ne in cielo volume 34 è quello che diceva Marina prima volume 34 l'8 dicembre 8 12 1935 dovrebbe essere 37 allora è un altro è un altro brano comunque questo è il volume 34 no forse è sbagliata la data spero non vi ha ne in cielo ne in terra alcuna bellezza ne calore ne prodigio paragonabile a quello dell'immacolato concepimento della mia divina mamma ah sì il mio fiato omnipotente che in se stesso non ha né principio né fine ho però in lei una nuova creazione infinitamente più bella più meravigliosa di quella dell'universo intero perché compì il portento superiore a qualsiasi altro di costituirsi vita della sua vita e di accrescersi in lei in ogni istante questa crescita la stessa crescita allora del verbo quando cresceva in età sapienza grande accresce in lei in ogni istante mediante ogni suo atto ed in ogni sua preghiera l'anima scusate non ho bussato dalla porta ma la crescita dell'anima ecco perché conteneva tutto Maria Paglia Maria Santissima per ogni anno grazie per quello che si vedeva esternamente ma era l'anima che cresceva si cresceva cresceva questa semiglianza la rendevo sempre più insieme al contenere in sé tutto cielo, terra angeli, santi ah dice l'anima in quanto capiezza ogni atto fatto la di una volta è andato nuovi cieli no tutto e se lo mettere tutto dentro Maria Santissima come pregava la Madonna come pregava in epoca la Madonna non pregava noi abbiamo bisogno di pregare Maria faccia gli altri no perché dice mediante ogni suo atto ed ogni suo preghiera ma poi lei viveva che faceva girava luci Gesù che girava appena nata la sua bell'anima uscita dal corpo andava in giro in tutto e in tutte le cose create per ricambiare Dio in amore per tutte le ragazze per ogni cosa creare vero già questo girare nella vita ricambiare Dio continuamente tutto quello che diceva Gesù che faceva Gesù lo faceva che si dava in Maria quindi lei sapeva già non solo nell'antico testamento ma tutto il Vangelo è quello che avrebbe detto Gesù anche il modo di pregare Gesù c'è questo glorificare il Padre effettivamente riparare in tutto lo dicono i Vangeli non lo dicono nella storia perché vanno riparare il Vangelo siamo a seconda era adesso si passa alla terza era ci fanno conoscere ciò che Gesù per il Vangeli vi ha fatto avvi dentro quanto ministriace quando certe religioni ce ne sono che non contempo una Madonna e c'è uno la detto dice il mio figlio è onnipotente riprendo il pensiero il mio figlio è onnipotente in se stesso non ha né principio né fine ho però in lei una nuova creazione infinitamente più bella più meravigliosa di quella dell'universo intero che può contenere l'universo solo l'anima che si può ingrandire tantissimo l'anima ma perché compì il portento superiore a qualsiasi altro di costituirsi vita della sua vita e di accrescersi in lei in ogni istante mediante ogni suo atto ed ogni sua preghiera la creazione dell'universo già pur così mirabile e da noi mantenuta mediante l'impero del nostro atto creante e conservante pure non sorpassa il prodigio della creazione di questa Vergine creare rimane quello che è perché in essa non solo manteniamo l'atto creante e conservante ma anche l'atto crescente certo mentre Dio in questo momento sta ancora creando il cielo il sole le stelle i respiri nostri e tutto lo conservo lo crea e si mantiene invece in Maria cioè chi vive nella divina unta c'è l'atto crescente non è che esplodiamo cresciamo quindi è l'anno allora il legge è anche l'atto crescente e questo è il prodigio dei prodigi cioè la vita del nostro volere come rinata in essa e il suo crescere continuo in ogni atto che faceva come l'umanità di Gesù cresceva in età di salienza non è povere per esempio io che faccio ho cominciato a fare i primi atti adesso ne faccio di più mi si aprono altre preghiere altre strade poi si è l'altro crescere no no cresci tu nella divina volontà cioè cresce Gesù in te e questo è senza niente crescita e quindi io adesso cresce la preghiera no e quindi ne faccio sempre di più atti prima magari ne faccio continuare anche questo si che immagino crescita Gesù ecco in quel senso dicevo crescita è un segno perché ovviamente più cresce la vita della divina volontà e più deve mangiare allora bisogno di più atti è vero allora più abbiamo bisogno di fare atti è un circolo virtuoso più facciamo atti più cresce il sole della divina volontà più cresce il sole della divina volontà e più deve mangiare perché è affamato di atti di sole e quindi è come un elefante che deve mangiare tonnellate e tonnellate di erba noi dobbiamo mangiare tonnellate e tonnellate di atti per sfamare il sole della divina volontà altrimenti non cresce il sole che sorge è Gesù certamente Gesù il padre tutta la vita della divina volontà ovviamente ha come centro Gesù come abbiamo letto prima la divina volontà ha come centro l'umanità di Gesù e chi vive in essa vive in questo centro il centro è l'umanità di Gesù il fulcro l'origine l'anello di congiunzione per noi ma nella divina volontà anche l'umanità di Gesù è piccola perché nella divina volontà c'è l'umanità di Gesù con la divinità di Gesù ci sta il padre il figlio lo spirito santo gli atti ad intra gli atti a destra la creazione la redenzione la santificazione quindi c'è un sole immenso che ha come suo centro l'umanità di Gesù e chi vive in essa vive in questo centro primo ottobre 1925 volume 18 quello che abbiamo letto all'inizio nel libro delle preghiere quindi abbiamo bisogno dell'umanità di Gesù perché Gesù essendo divino umano ha levato gli occhi lo sguardo la parola assolutamente senza di lui il vivere della divina volontà per noi non esiste è proprio perché per lui in vista di lui che noi siamo stati creati che noi siamo e che noi possiamo vivere nella divina volontà e entrando in Gesù troviamo tutta la divina volontà quindi non solo gli atti dell'umanità di Gesù che partecipano ma anche tutti che poi sono tutti un atto unico entriamo in Gesù negli atti della divina volontà che sono gli atti del padre del figlio dello spirito santo della creazione della redenzione della santificazione gli atti nella divina volontà che fa Carla gli atti nella divina volontà che fa Rossana tutti tutti gli atti non sono gli atti ma anche gli effetti gli effetti degli atti sì ecco perché in divina volontà spande luce hanno effetti anche gli atti che facciamo per chi ci sta vicino anche dire con noi certamente tutti gli atti buoni dei santi tutti gli atti ogni bene diciamo ogni cosa buona viene sempre da Dio ma anche per esempio gli atti dell'antico testamento anche se non sono animati dalla vita della divina volontà sono sempre stati un effetto della divina volontà e noi andandoli a riprendere andandoli a inglobare gettiamo su di loro la luce la gioia la vita della divina volontà perché utilizziamo questi effetti della divina volontà per fare un nuovo atto della divina volontà questo è il segreto del rifare gli atti utilizziamo gli effetti per fare il nuovo atto di vita e quindi quelli che si vedono coinvolti Abramo Isacco Giacobbe Beniamino eccetera dicono vedi questa creatura nella divina volontà ha usato gli effetti della divina volontà che sono i miei atti per fare un nuovo atto quindi io mi sento inondato dalla vita della divina volontà e quindi loro ricevono gloria accidentale ricevono la gioia come se avessero fatto avessero ricevuto in loro la vita della divina volontà questo è il rifare gli atti chiaro no? capire questo è una cosa importantissima eh Marina ci facciamo degli amici in cielo altro che amici ci facciamo ci facciamo proprio dei segugi gente che non ci lascia proprio dicendo io mi devo fondare tuffare nei vostri atti ci facciamo una folla immensa che sta in ogni atto in ogni sole della divina volontà loro ci stanno ad amo fino all'ultimo non se li perderei però manco morti senti e prendere gli atti le opere degli angeli degli arcangeli tutti gli angeli del paradiso prendere le loro adorazioni e anche perché ogni angelo ha una missione no? e quindi offrirli al padre a nome di tutte le creature va bene? perché l'atto la creazione dell'angelo e la gloria e le conoscenze date agli angeli sono atti di divina volontà tant'è vero gli angeli fanno la scoletta e se noi li teniamo diciamo occupati e busy nella divina volontà loro ma sono disposti a lavorare con noi per noi in noi nei nostri atti tutto il tempo tutta l'eternità perché sentono anche loro la gloria immaginiamo un angelo che continua a lavorare un angelo custode per l'anima anche se l'anima fa la cattivella anche se l'anima addirittura sta nella via della perdizione immaginiamo se quest'anima riceve la vita della divina volontà in lei l'angelo si inginocchia come si è inginocchiato dinanzi a Maria non perché Maria in sé come creatura è degna di adorazione no per questo i protestanti non capiscono ma perché in Maria regna la divina volontà e dovunque regna la divina volontà l'angelo si inginocchia che questa divina volontà regni nella creatura o regni in Dio è degna di adorazione ma è di fronte alla divina volontà e agli atti della divina volontà che l'angelo si inginocchia e adora e quindi immaginiamo quanta gloria e quanta splendore ricevono gli angeli dai nostri atti nella divina volontà se potessimo se potessimo avere in mente sempre questa cosa saremmo già santi e diciamo immaginiamo che i nostri angeli aspettano come leggiamo mi pare nelle riflessioni pratiche delle ore della passione aspettano con ansia le nostre ripassioni i nostri atti fatti nella divina volontà perché vedono ripetere l'umanità di Gesù e quindi si rimangono ecclissati rimangono estasiati dalla divina volontà non operanti un Dio che è già una cosa una cosa diciamo addirittura operanti nella creatura è una follia divina e quindi loro rimangono assolutamente estasiati e dicono questo Dio è pazzo è folle opera e crea se stesso non in se stesso ma lo crea nella vile materia di poco pane e di poco vino immaginiamo che Gesù vuole riprodurre la sua vita non nella vile materia di poco pane e poco vino ma in un'umana volontà che è libera e lo può cacciare è un prodigio ancora più grande dell'Eucaristia quindi gli angeli proprio impazziscono e quindi vediamo l'esclamazione degli angeli che leggiamo nelle ore della passione gli angeli sono tutti in adorazione dicono ma che cosa succede queste sono follie sono veri eccessi un Dio che crea non la creatura ma se stesso e dove nella vile materia di poco pane e poco vino immaginiamo un Dio che riproduce se stesso in un'umana volontà che lo può cacciare via lo può uccidere e invece liberamente riceve la vita del Dio in se stessa questo è un prodigio infinitamente più grande che la Santissima Eucaristia per poter raggiungere il proprio intento il nostro Fiat si pronunziò nell'atto del concepimento di questa Vergine Benedetta e quando il nostro Fiat si pronunzia il nostro atto raggiunge tale una sontuosità una sublimità un'altezza un'immensità ed una potenza da racchiudere tutti nella rete del proprio amore nessuno escluso salvo colui che si rifiutasse di accettare il bene che gli viene da accettare la nostra divinità vedendo che la nostra volontà era come rinata in questa santa creatura le partecipò i suoi diritti divini in modo da renderla padrona del nostro stesso amore della nostra potenza sapienza e bontà e regina del nostro Fiat a sua volta la celeste signora valendosi dell'atto crescente del nostro volere ci rapiva e mediante ogni suo atto giungeva ad amarci non solo per sé ma ancora per ogni singola creatura ricoprendo ognuna di esse col proprio amore ella ci faceva udire l'eco temerissima di ciascuna di loro chi avrebbe potuto resistere a questa vergine santissima noi ci sentivamo come legati e come fatti prigionieri da lei poiché ella operava ci amava ci lodava e ci pregava in virtù dell'atto crescente del nostro Fiat possedendolo ella richiudeva ed assorbiva in sé stessa il proprio creatore la trinità sacrosanta la potenza con cui ci dominava era tale che noi sentivamo imperioso il bisogno di riamarla in egual misura la stessa valenza di Pio ne avremmo ne avremmo avuto cuore di negarle al cucchetti quanto ella ci domandava nella contentarla noi ci sentivamo anzi maggiormente felici ecco che lì si dice se vuoi salvare l'anima dei ruoli della madonna che lei la prende la inzuppa dentro alla grazia la porta a confessionare poi la pulisci l'anima e poi la porta a giusto come la nostra sapienza infinita feconda la terra ed abita tutte le creature circondando continuamente la creazione dell'universo la quale sua volta gravita intorno a noi così la nostra la nuova creazione del concepimento dell'immacolata signora attornia continuamente il Dio da cui viene a sua volta costantemente circondata mediante questo reciproco accerchiamento il Dio e la Vergine mantengono la fecondità del bene formano la santità delle anime e richiamano incessantemente gli uomini al proprio creatore la santità è formata da Maria e da questa la città non abbiamo niente il 4 febbraio 1934 volume 33 volume 33 4 febbraio del 34 chiamammo a vita la Verginella Maria e creandola tutta pura tutta santa tutta bella tutt'amore senza macchia di origine deponemmo in lei il germe della nostra stessa volontà divina affinché tra lei e noi vi potesse essere libero accesso unione inseparabile e perenne la celeste regina non appena concepita ci rapì con la sua beltà e ci ferì con la sua tenerezza cosicché il nostro amore fu costretto a straripare dal nostro seno e a rifugiarsi in lei guardando attraverso la sua bellezza tutte le creature esse non ci sembrarono più brutte e perciò noi l'amamo con quello stesso amore che era rimasto nascosto e ristretto in noi fino allora che adesso divampava nel cuore della vergine santa affinché a sua volta ella potesse amare tutti gli uomini come suoi propri figli generati in lei dal suo padre celeste la nostra paternità divina le comunicò la divina maternità che bello però volle il suo senso completo e potente quando fu completo è riuscito come da un lato la vergine maria comprendeva che noi amavamo tutte le creature in lei così dall'altro sentiva che il nostro amore formava la nuova generazione dell'umanità nel suo cuore materno quale miglior stratagemma prosegue Gesù avrebbe potuto ideare la nostra paterna bontà per esternare il nostro infinito amore a tutti gli uomini non esclusi quelli che ci avrebbero offese dalla loro stirpe noi eleggiamo una creatura per poterli amare noi la formamo bellissima per dar loro la più affettuosa delle madri per dar loro la più affettuosa delle madri noi nascondemmo in lei il nostro proprio amore è una verità che mi lascia sempre proprio estasiata è proprio il fatto che lo stratagemma dell'amore materno è uno stratagemma divino dell'amore paterno l'amore materno sta nascosto dentro l'amore materno ma proprio per sua natura che è un amore di sacrificio un amore eroico un amore che dà la vita un amore che ultra misericordioso resta quasi nascosto nella paternità divina allora sapendo che proprio l'uomo avrebbe offeso la paternità divina la paternità divina Dio Padre distilla l'amore materno da se stesso e lo mette in una creatura e lui stesso ci ama nascosto dietro Maria lui ci ama con amore materno in Maria altrimenti noi l'amore materno nell'amore paterno non l'avremmo potuto trovare perché è talmente nascosto infinito proprio per sua natura e quindi è uno stratagemma divino il fatto di distillare e comunicare ad una creatura l'amore materno da dentro l'amore paterno è una cosa bellissima anche perché Dio come Padre amore paterno è anche giustizia divina certamente quindi proprio per poter vedere e poter conoscere noi non avremmo potuto distinguere i vari attributi divini saremmo stati l'amore paterno come ci viene è un amore che genera che protegge che istruisce che guida che comunica e quindi per sua diciamo diciamo definizione in lui gli aspetti dell'amore materno stanno nascosti e quindi noi saremmo stati appunto come dire gli aspetti della giustizia avrebbero coperto gli aspetti della misericordia della tenerezza del sacrificio ultimo e quindi Dio li ha voluti mettere fuori di sé così noi li potessimo vedere e li ha messi in una creatura quindi ci ha amato Dio con un amore materno sublime mettendo queste sue qualità di amore divino chiamato amore materno fuori di lui all'interno di una creatura quindi è Dio padre che ci ama in Maria nascosto con amore materno dentro di lei è una cosa bellissima una dualità un Dio materno e un padre è una bellissima riprendo è in questa celeste regina che tutti gli uomini possono trovare il nostro amore nascosto e nel suo cuore che essi possono farsi amare inesauribilmente da noi che rimaniamo soggetti al suo dolce imperio da quanto ti dissi godine Gesù tu puoi facilmente arguire come la sovrana signora possegga tuttora in cielo il nostro amore nascosto in favore di ciascuna creatura e quanto essa goda nel sentire che noi abbiamo tutti gli uomini in lei facendo loro veramente da madre ella li nasconde nel proprio cuore per farli amare da noi nei propri dolori per farli perdonare nelle sue preghiere per farci loro per farci loro concedere le grazie più preziose sì ella è davvero la mamma che sa sempre coprire e scusare i suoi figli amatissimi presso il trono della nostra divina maestà ricorri perciò incessantemente Gesù stesso che ce lo dice ricorri perciò incessantemente alla tua celeste regina e fatti coprire da lei che generosamente provvederà a tutti i tuoi bisogni 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 c'è una strisita la madre questa è mamma a tutti i tuoi bisogni il mio amico quindi la tua mamma la mia amica ma voi dire c'era il padre della madre e lo spirito santo diceva la corredentrice lo disse anche lui no? è corredentrice c'era la triste della maritana corredentrice una passione ma quando anche lei ripara queste nostre cose ripara anche Gesù perché non vuole che arriva arrivano i nostri peccati la nostra chiesa Gesù per riparare per riparare Gesù perché Gesù non gli arrivino addosso e gli abbiamo sempre colpito quella di Luigi Maria che diceva l'officina consagrazione una volta penso addirittura sull'autobus perché volevo tanto leggere questa consagrazione poi alla fine l'ho fatta così questa consagrazione che diceva che mi ha dato tanta gioia che anche se l'anima fosse proprio coperta ha fatto l'esempio di una mela tutta marcia che ne era rimasto soltanto un pezzettino allora Maria Santissima la ripusce tutta si toglie tutto in marcia però non è che la presenta quel pezzettino così lo mette in un bellissimo gabberet d'argento e lo corre davanti al trono del padre come se fosse la cosa più preziosa dopo di che ecco il padre si accontenta anche di quel pezzettino una cosa più bella questa celeste regina vinse il suo creatore preparò la retezione e fu la portatrice del verbo eterno sulla terra il 12 aprile 1935 volume 33 12 aprile 35 volume 33 la piccola regina sin dal primo istante del suo concepimento incominciò la sua vita insieme con la divina volontà e quindi insieme col suo creatore onde sentiva tutta la forza l'immensità la foga dell'amore divino in modo tale da sentirsi sperduta affogata d'amore e provare forte il bisogno di amare colui che tanto l'amava quando tu hai il cuore colmo d'amore che si pena hai bisogno di metterlo fuori mi trovo a contenere perché senti che scuola e di un amore straordinario infinito perché noi le demmo la nostra volontà e il suo potere onde la tenesse come vita propria e questo amore si può chiamare il più grande amore verso Dio l'amore più eroico l'amore che solo può dire non ho più che darti tutto ti ho dato così la piccola regina se ne serviva di questa vita per amarci altrettanto per quanto era amata e cercava di pareggiarci nell'amore intanto la nostra volontà divina che possiede l'oddivegenza di tutto che ci presenta a questa santa creatura tutte le umane generazioni le colpe di ciascuna creatura commesse e che avrebbero e che avrebbero commesse dal primo istante nel suo concepimento la celeste regina che non conosceva altra vita che quella della divina volontà incominciò a dolersi con dolore divino per ciascuna colpa di esse da formare intorno ad ogni colpa mare di amore e di dolore divino era la nostra volontà divina che formava nella sua bell'anima mare di dolore ed amore per ciascuna colpa di ciascuna creatura perciò la santa verginella fin dal primo istante della sua vita divenne regina di dolore e di amore e se la nostra volontà non l'avesse sostenuta con la sua potenza ella sarebbe morta per ogni colpa e tante volte si sarebbe consumata d'amore per quante creature dovevano esistere fu allora che la nostra divinità e virtù della nostra volontà divina operante in questa eccelsa creatura incominciò ad avere amore divino per tutti e un dolore divino e riparatore per tutti o come ci sentimmo soddisfatti e ripagati per ciascuna creatura e in virtù di questo amore e dolore divino sentimmo trasporti di amore anche verso di loro il suo amore era tale che padroneggiandoci ci faceva amare coloro che essa amava tanto che il verbo eterno come venne alla luce questa celeste creatura scese dal cielo in terra per venire a cercare l'uomo e salvare ho sbagliato l'ololo sì sì no è chiaro come venne alla luce questa celeste creatura il verbo eterno scese dal cielo in terra per venire a cercare l'uomo e salvare chi può resistere alla potenza della nostra volontà operante nella creatura nessuno che cosa non potrà fare l'anima ed ottenere il permesso suo se tutti comprendessero il gran bene che l'angimmo alle umane generazioni nel dare loro questa celeste regina che vince il suo creatore che preparò la redenzione e che fu davvero la portatrice del verbo eterno sulla terra o essi si stringerebbero intorno alle sue materne ginocchia per implorare da lei quella volontà divina di cui è la stessa possiede la vita io sono la portatrice di Gesù conferma Maria in seguito dopo il 28 maggio del 37 volume 34 28 maggio 37 volume 34 io sono la portatrice di Gesù questo compito ve lo affidò a rete suprema solamente quando si fu assicurato che io tenessi grazia amore potenza e la sua stessa volontà divina per tenerlo custodito difeso amato allora fece la consegna del dono cioè fece incarnare il verbo eterno nel mio seno figlia mia mi disse questo per noi anche questo quando chiediamo il dono per l'incarnazione di Gesù no però la mia volontà di Gesù no figlia mia mi disse lente supremo ti facciamo il gran dono della vita del figlio di Dio affinché possedendolo lo doni a chi tu voglia però sappi tenerlo difeso nello lasciare mai solo in chi lo doni ecco onde supplire al loro amore se non l'amano ripararlo se l'offendono insomma fa che nulla manchi alla decenza alla santità del coro che gli si conviene si attenta figlia è il dono più grande che ti facciamo ti diamo anche il potere di bilocarlo altrettante volte quante tu vuoi affinché chi lo voglia possa ricevere questo gran dono e possederlo perciò questo figlio è mio sono posseditrice della sua vita ed essendo mio conosco i suoi segreti amorosi le sue ansie i suoi sospiri questi sono così avventi che lo fanno giungere a piangere e con singhiozze ripetuti mi dice mamma mia dàmi alle armi voglio le armi ed io la mamma sua sospiro e chiambo insieme con lui voglio ciò che egli vuole cioè che tutti possedano il figlio mio devo però mettere al sicuro la sua vita il gran dono che Dio mi affidò per la volontà della Vergine Santissima e la volontà del suo Dio non c'era divisione volume 16 8 dicembre del 23 tu devi sapere che la mia divinità è un atto solo tutti gli atti si concentrano in uno solo questo significa essere Dio il portento più grande della nostra essenza divina non essere soggetto a successione di atti e se alla creatura sembra che ora facciamo una cosa e ora un'altra e piuttosto che facciamo conoscere ciò che c'è in quell'atto solo perché la creatura essendo incapace di conoscere tutto in un solo colpo lo facciamo conoscere a poco a poco ora tutto ciò che io verbo eterno dovevo fare nella mia assunta umanità formavo un solo atto con quell'atto solo che contiene la mia divinità sicché prima che questa nobile creatura fosse Maria Santissima fosse concepita tutto esisteva di ciò che doveva fare sulla terra il verbo eterno ponde nell'atto che questa vergine fu concepita si schierarono intorno al suo concepimento tutti i miei meriti le mie pene il mio sangue tutto ciò che conteneva la vita di un uomo e Dio e restò concepita degli interminabili abissi dei miei meriti del mio sangue divino nel mare immenso delle mie pene in virtù di essi restò immacolata bella e pura al nemico restò sbarrato il passo dagli incalcolabili meriti miei e non potette recarle nessun documento era giusto che chi doveva concepire il figlio di un Dio doveva essere prima lei concepita essere prima lei concepita nelle opere di questo Dio per poter tenere virtù di concepire quel verbo che doveva venire e redire il genere umano sicché lei prima restò concepita in me ed io restai concepito in lei non restava altro che a tempo opportuno farlo conoscere alle creature ma nella divinità era già come già fatto era come già fatto perciò colei che più raccolse i frutti della redenzione anzi ebbe il frutto completo fu questa eccelsa creatura che essendo concepita in essa concepita nella redenzione amò stimolò stimò e conservò come roba sua tutto ciò che il figlio di Dio però sulla terra oh la bellezza di questa tenera piccina era un prodigio della grazia un portetto della nostra divinità crede come figlia nostra fu il nostro decoro la nostra allegrezza l'onore e la gloria nostra non c'è la legge giusto se ne è un po' di ascenda il verbo insomma qualcosa che non basta ma questo anche noi chi sarebbe noi 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 il noi sapevamo la trinta santissima però non è conosciuta non è conosciuta ci pensa il signore ti facciamo più il signore di fondo a lui interessa forse non credo non credo tanto perché si è risolvisa come è? perché ho Stefania a casa ah ecco sì stavano a scuola ah già va bene va già tutto pronto preparato sì voglio leggere se bisogna c'è una bella la carne è un giallo allora veniamo avanti questo lo lascio cos'era? ho pronto lo leggiamo un po' lo so il segno? sì lo leggiamo dopo è vero ma anche noi 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 questo tutti siamo noi no no ma anche noi come lui siamo picchioretti poniamo la domanda è vero che la mia regina mamma fu concepita negli interminabili meriti del mio Gesù ma il sangue il corpo furono concepiti nel seno di Sant'Anna la quale non è resente dalla macchia d'origine dunque come può essere che nulla è resito dai tanti mali che tutti abbiamo ereditato dal peccato del nostro primo padre Adamo e Gesù figlia mia tu non hai capito ancora che tutto il male aspetta un attimo scusate un attimo ho visto che lo stavo ho visto che lo direttore un secondo ciao Rossana ciao buone vacanze grazie noi viviamo in vacanza vorremmo essere un po' di volontà umana lei si è allontana dal cenacolo per un po' di tempo da mia madre allora Marina fammi gli auguri oggi per i 50 auguroni ciao bambinella no 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 aspetta un minuto 53 anni di malimoni oggi grazie buon anniversario bambinella grazie bambinella bambinella grazie l'abberto diceva nella divina volontà pace e salvezza a tutti voi saluti a Rossana eccola perché non gli rispondo più l'abberto perché stava bella con lui ah no eh beh no so bene no scherzi scherzi grazie felice assenzione bambinella è una festa di Maria Santissima per la vostra non è per la vostra eh quindi qui guardi non è per la vostra quindi c'è cosa la nuova perché in lei la prima volta che si arriva in cielo è una creatura che ha vissuto in tenezza con la sua vita nella divina volontà che ha fatto regnare in tutti i suoi atti la divina volontà quindi festa della divina volontà allora prendiamo il pensiero allora qui qui Luisa dice come mai come mai come può essere immacolata per la Santissima si è preso il corpo da Sant'Anna che era col peccato originale e Gesù figlia mia tu non hai capito ancora che tutto il male sta nella volontà la volontà travolse l'uomo cioè la sua natura non la natura travolse la volontà dell'uomo sicché la natura restò al suo posto quale fu da me creata nulla cambiò fu la sua volontà che si cambiò si mise niente meno contro una volontà divina e questa volontà ribelle travolse la sua natura la debilitò la contaminò e la rese schiava di bellissime passioni successe successe come ad un recipiente pieno di profumo o di cose preziose se si svuotasse di ciò e si inerbisse di marciume o di cose vili o se cambia recipiente cambia ciò che si mette dentro ma esso è sempre quello che è al più si rende più o meno apprezzabile la seconda di ciò che contiene tale fu l'uomo ora alla mia mamma l'essere concepita in una creatura della razza umana non le ricordi su un documento perché la sua anima era immune da ogni colpa tra la sua volontà e quella del suo dio non c'era divisione le correnti divine non trovavano in toppo ogni opposizione per riversarsi in lei in ogni istante stava sotto la pioggia di rotta di nuove grazie onde con questa volontà e quest'anima tutta santa tutta pura tutta bella il recipiente del suo corpo che prese dalla sua madre restò profumato riabilitato ordinato divinizato in modo da restare esente in modo da restare esente anche da tutti i mari naturali di cui è invasa l'umana natura ah sì fu proprio lei che ricevette il germe del fiat voluntas tua come il cielo così moderna fu proprio lei che ricevette il germe del fiat voluntas tua come il cielo così moderna che la nobilitò e la restituì al suo principio come fu da noi creato l'uomo prima che peccasse anzi lo sorpassò più bello di Adamo sorpassato la grandezza e la bellezza di Adamo l'abbellì di più ancora ai continui flussi di quel fiat che ha solo virtù di riprodurre immagini tutte simili a lui che le ha create e in virtù di questa volontà divina che agiva in lei si può dire che ciò che Dio è per natura lei è per grazia grazie a questo ciò che Dio è per natura lei è per grazia la nostra volontà tutto può fare dovunque giungere quando l'anima ci dà libertà di agire e non interrompe con la sua volontà umana il nostro opera è la 70 siamo 70 adesso siamo 71 volevo solo riflettere su questa verità l'abbellì ancora di più ai flussi di quel fiat e quindi come troviamo mi pare in un passo del volume 14 tramite ecco l'umanità redentrice di Gesù che Adamo non conosceva perché non ne aveva bisogno l'anima viene abbellita nella divina volontà anche delle gemme delle sofferenze del verbo incarnato quindi in due aspetti l'anima nella divina volontà e quanto più Maria Santissima supera lo stato d'origine di Adamo lo supera perché conosce l'umano conosce l'amore sofferente del verbo incarnato quindi viene abbellita ancora di più riceve la vita degli atti del Dio umanato non soltanto divinizzante ma anche redimente e poi siccome l'anima ha l'atto crescente ovviamente facendo atti nella divina volontà arriva e continua a fare atti lì dove Adamo si era fermato quindi ci sono due aspetti questo lo sto pensando diciamo adesso per farmi per darmi una spiegazione di quella che abbiamo appena letto da una parte si conosce la pienezza del verbo incarnato con la sua vita nascosta la sua vita pubblica quindi gli atti divinizzanti che formano il regno della divina volontà gli atti redimenti e quindi si viene abbelliti anche delle sofferenze divine del verbo incarnato d'altro canto possedendo l'atto crescente della divina volontà si continua lì dove Adamo si era fermato e quindi per questo Maria Santissima e l'anima che vive nella divina volontà può superare lo stato d'origine e quindi viene abbellita ancora di più in virtù dell'umanità redimente di Gesù e dell'atto crescente della divina volontà non so se mi sono capita ok grazie grazie nel volume 15 l'8 dicembre del 22 volume 15 8 dicembre del 22 avevamo la potenza della nostra volontà che questa innocente bambina ci spezzava le braccia ci sorrideva dalla terra e cambiava la giustizia in grazie e il dolce sorriso e il dolce sorriso tanto che non potendo resistere al dolce incanto il verbo eterno affrettò il suo corso non appena fu formato il suo concepimento ne diede l'uso di ragione la dotai di tutte le scienze le feci conoscere le nostre gioie i nostri dolori a riguardo della creazione e fin dal senno materno lei veniva nel cielo ai piedi del nostro trono per darci gli amplessi il ricambio del suo amore i suoi teneri baci e gettandosi nelle nostre braccia ci sorrideva con tale compiacenza di gratitudine e di ringraziamento da strappare i nostri sorrisi oh come era bello vedere questa innocente privilegiata creatura arricchita di tutte le qualità divine venire in mezzo a noi tutt'amore tutta fiducia senza paura perché il solo peccato è quello che mette distanza tra creatore e creatura spezza l'amore sperde la fiducia include timore sì che lei veniva in mezzo a noi come regina che col suo amore dato da noi ci tirava i suoi voleri ci rapiva ci metteva in festa e si faceva rapitrice dell'altro amore d'altro amore e noi la facevamo fare godevamo dell'amore che ci rapiva e la costituitimo regina del cielo e della terra c'è la terra esultarono e fecero festa insieme con noi nell'avere dopo tanti secoli la loro regina ma sai tu quale fu il primo atto che fece questa celeste creatura quando si trovò la prima volta innanzi al nostro trono lei conobbe che tutto il male dell'uomo era stato la rottura tra la volontà sua e quella del suo creatore e lei ebbe un tremito e senza frapporre tempo e mezzo legò la sua volontà ai piedi del mio trono senza neppure volerla conoscere e la mia volontà si legò a lei e si costituì centro di vita tanto che tra lei e noi si aprirono tutte le correnti tutti i rapporti tutte le comunicazioni e non ci fu segreto che non le affidavano fu proprio questo l'atto più bello più grande più eroico che fece il deporre ai nostri piedi la sua volontà e che a noi come rapiti ce la fece costituire regina di tutti vedi dunque che significa legarsi con la mia volontà e non conoscere la propria il secondo atto fu offrirsi a qualunque sacrificio per amore nostro offrirsi a qualunque sacrificio per amore nostro il terzo atto di questa Bibbia appena restitui il terzo fu restituirci l'onore la gloria di tutta la creazione che l'uomo ci aveva tolto col fare la sua volontà e fin dal seno materno pianse per amore nostro perché ci vide offesi e pianse per il dolore dell'uomo colpevole o come ci intenerivano queste lacrime innocenti e affrettavano la sospirata redenzione sì 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 questa regina ci dominava ci legava ci strappava grazie infinite ci inclinava tanto verso il genere umano che non potevamo né sapevamo resistere alle sue replicate istanze ma dove le veniva un tale potere tanta scendenza sulla stessa divinità ah tu l'hai capito dice Gesù Luisa tu l'hai capito era la potenza del nostro volere che agiva in lei che mentre la dominava la rendeva dominatrice di Dio medesimo e poi come potevamo resistere a sinnocente creatura posseduta dalla potenza e santità del nostro volere sarebbe resistere a noi stessi noi scorgevamo in lei le nostre qualità divine come onde affluivano su di lei i riverberi della nostra santità i riverberi dei modi divini del nostro amore della nostra potenza ecco perciò la causa per cui la costituimo è regina di tutti perché quando noi quando noi operiamo lo facciamo con ragione sapienza e giustizia la costituimo la regina di tutti perché mai gliene vita al suo volere umano ma fu sempre integro il nostro volere in lei mentre la nacque gliene ha ricordato la sua nascita mentre la nacque gli angeli cantarono le legne alla celeste bambina ed ella restò rapita e la sua bella anima uscì dal suo corpicino accompagnata da schiere angeliche e girò terra e cielo andando raccogliendo tutto l'amore che Dio aveva sparso in tutto il creato e penetrando nell'empireo venne ai piedi del nostro trono e ci offrì il ricambio dell'amore di tutto il creato e pronunziò il suo primo grazie a nome di tutti ecco quando siamo nell'ordine della creazione il nostro primo compito che sentiamo come cosa naturale è proprio girare tutte le opere di Dio e raccogliare tutto l'amore e riportare e ricambiare oh come ci sentimmo felici nel sentire il grazie di questa bambinella regina le confermammo tutte le grazie tutti i doni da farle superare tutte le altre creature unite insieme poi gettandosi nelle nostre braccia si deliziò con noi nuotando nel pelago di tutti i contenti restando abbellita di nuova bellezza di nuova luce di nuovo amore supplicò di nuovo per il genere umano pregandoci con lacrime che scendesse il verbo eterno a salvare i suoi fratelli ma mentre ciò faceva il nostro volere le fece conoscere che scendesse alla terra e lei subito lasciò i nostri contenti e le gioie e si partì per fare che cosa? il nostro volere io la volevo sulla terra quale calamita potente era il nostro volere abitante in terra in questa neonata regina non ci pareva più estranea la terra non ci sentivamo più di colpirla facendo uso della nostra giustizia avevamo la potenza della nostra volontà che in questa innocente bambina ci spezzava le braccia ci sorrideva dalla terra e cambiava la giustizia in grazie e in dolce sorriso tanto che non potendo resistere al dolce incanto il verbo eterno affrettò il suo corso ho prodigio del mio volere a te tutto si deve per te si per te si coppie tutto e non c'è prodigio più grande che il mio volere abitante nella creatura ah fiat merendina questo primo passo primo tra tutti è importantissimo questo volume 15 dell'8 dicembre masticando questo poi possiamo comprendere anche tutti gli altri a me piace in questa sequenza ricordare i primi tre atti di Maria Santissima quando fu concepita e il primo atto quando uscì alla luce del giorno allora qual è fu il primo atto che fece con il suo concepimento? fu quello dotata di ragione divina conoscendo le conseguenze del peccato originale di Adamo conoscendo tutte queste cose qui il suo primo atto non fu un ti amo no non lo poteva fare un ti amo con la sua umana volontà il suo primo atto fu quello di prendere la sua volontà e legarla ai piedi dell'Eterno questa è la grandezza di Maria non disse neanche un ti amo fuori della divina volontà il secondo atto come ci dice questo passo fu quello di essere di offrirsi a qualunque sacrificio pur di non fare mai la sua umana volontà questo non era ancora nato è nel grembo di Sant'Anna il terzo atto fu quello di renderci l'onore la gloria che ci devono dare tutte le creature quindi iniziò ad adorare a glorificare ad amare Dio nella divina volontà quando poi uscì alla luce del giorno quindi come creatura ci diede quando il primo atto quando uscì come creatura alla luce del giorno ci diede il primo grazie come ci diceva Carla il primo ti amo il primo grazie in nome di tutta la creazione allora il primo atto quando lei fu concepita dotata di ragioni divina Gesù dice tremò tremò di temore di fronte all'umana volontà e dice io non la voglio neanche conoscere e la legò ai piedi dell'Eterno tremò perché conosceva questo tremare è lo stesso tremore che Maria ebbe al momento dell'annunciazione che erroneamente ci viene presentato come un esitare come un come dire lei tremò perché non perché non conosceva ma perché conosceva come dice il volume 34 aveva tanta conoscenza di Dio che nessun angelo e nessun santo la poteva raggiungere quindi Maria conosceva molto più dell'arcangelo Gabriele quindi proprio perché conosceva nel momento in cui l'arcangelo Gabriele dice si vuole incarnare si vuole incarnare in te lei tremò il Vangelo diciamo sublime nell'umiltà di Maria dice esitò ma tremò ma tremò perché conosceva le pene che il verbo incarnato doveva soffrire e conosceva quello che lei avrebbe dovuto soffrire insieme al verbo incarnato quindi tremò non perché non conosceva ma perché conosceva più dell'angelo e poi aggiunge Gesù in Maria Valtorta sublime nella sua innocenza disse ma io non conosco uomo fu come quasi un'umiltà di Maria nel volersi coprire nel voler coprire la sua sapienza con una domanda di un'innocenza sublime dice ma io non conosco uomo come e quindi diciamo viene spiegata così quella parte del Vangelo di Luca ma mi piace pensare che questo suo tremore nel momento del suo immacolato concepimento lo stesso tremore nel momento dell'incarnazione dovuto alla sua conoscenza quindi ha la sua ragione divina non so se mi sono spiegata sì sì bene sì sì bello facciamo andiamo avanti andiamo magari due ore fanno sempre dai malati non so perché ciò che stupì richiamo l'attenzione del cielo della terra fu una nasta della nostra della mia volontà nella celeste ma anche gli angeli più di nocchio anche lei voglio riscatare pure voi no per me possiamo perché parlassi ancora la sovrana piccina crescendo insieme la divina volontà questo è il volume 31 8 settembre del 32 31 8 settembre del 32 la sovrana piccina crescendo insieme il divino volere formava in ogni suo atto in numeri soli parlanti ciò che stupì e richiamò l'attenzione dei cieli e della terra fu la nascita della mia volontà nella celeste bambina tutti gli esseri si sentirono allora come scossi da una forza misteriosa da quella stessa forza che dominava muoveva e conservava ogni cosa e che adesso poneva se stessa e tutta la creazione e servizio a disposizione di questa neonata la nascita della mia volontà che si effettuò con quella della celeste bambina poi ci spiega che per favore questa nascita della volontà divina in Maria attraverso Maria è sparita? no la nostra volontà che si effettuò con quella della celeste bambina fu quindi l'origine di tutti gli altri prodigi che accentrammo in lei il far vivere il numero 32 6 agosto oggi 6 agosto il far vivere la celeste regina nel fiat divino fu l'atto più grande più eroico più intenso d'amore che fece il nostro ente supremo e per quanto i nostri beni sono immensi innumerevoli di dare la nostra volontà per quanto il nostro questo questo è il la vulma 32 allora stavo dicendo il 6 agosto tornando precedentemente la precedente ciò che stupì ciò che stupì e richiamò l'attenzione del cielo fu la nascita della mia volontà nella celeste bambina questa nascita della volontà divina e ce la spieghi in Maria Santissima tutti gli esseri sentirono allora come scossi da una forza misteriosa da quella stessa forza che dominava muoveva e conservava ogni cosa che adesso poneva se stessa e tutta la creazione a servizio e a disposizione di questa neonata bambinella la nascita della mia volontà che si effettuò con quella della celeste bambina fu quindi l'origine di tutti gli altri prodigi che accettiamo in lei è perché la divina volontà questo lo leggiamo nel volume 16 dice io una volta che Adamo peccò dice Gesù i miei innocenti trastulli sulla terra finirono perché la divina volontà aveva regnato regnava nella creazione ma la creazione non poteva farmi un atto di libera volontà indipendente io avevo bisogno di una libera volontà indipendente regnante vivente nella divina volontà e la mia divina volontà vivente in essa per avere i trastulli per riuscire ad avere lo scopo della mia creazione e quindi quando arrivò Maria Santissima sulla terra finalmente la divina volontà nasce con lei cioè nello spazio e nel tempo rinasce e non c'era stato il trastullo di una divina volontà operante e regnante in una creatura umana dal tempo in cui Adamo era uscito dalla divina volontà e quindi con Maria Santissima quando esce dal grembo di Sant'Anna e dà il suo primo grazie finalmente dà voce e ragione e grazie e ti amo e entra e gira in tutta la creazione finalmente la divina volontà nasce nel creato nel tempo e nello spazio o meglio rinasce insieme con lei e quindi Maria Santissima è un atto compiuto di divina volontà e quindi quando nasce Maria Santissima nasce la divina volontà sulla terra per chiudere l'ora non sono stare no io per me no per noi forse forse Marina ha sciato a fare no no voi fate allora c'è risultato questo brano c'è la continuazione in pratica il volume 32 il 6 agosto del 33 6 agosto 33 è chiaro il fatto della nascita sì sì e tu la spieghi così naturalmente che veramente sono proprio facilissimo ascoltarti nasce l'atto compiuto della divina volontà in carne e ossa con voce ragione intelletto memoria volontà gote labbruce boccuccia sorrisi e guaiti nasce la divina volontà sulla terra dai tempi di Adamo e non non si era più vista ma perfetto 6 agosto del 33 il far vivere la celeste regina nel fio divino fu l'atto più grande più eroico più intenso d'amore che fece il nostro ente supremo e per quanto i nostri beni sono immensi e innumerevoli il dare la nostra volontà a vivere in essa non potevamo dargli di più dare più beni né aggiungere altro perché con essa le davamo tutto e formava in se stessa la fonte e la sorgente di tutti i beni divini per quanto la creatura è possibile ora la sovrana piccina col crescere insieme con la nostra volontà come cresceva così formava nell'anima sua nel suo cuore nelle sue opere e passi tanti soli parlanti che con voci di luce di amore irresistibile ci parlavano ci parlavano tanto ci parlavano d'amore ci parlavano del nostro stesso essere divino ci parlavano del genere umano ci parlavano ci parlavano i suoi passi le sue manine i palpini del suo cuore che con voce di luce giungeva fino al nostro seno divino a parlare fin dentro di noi stessi il suo dire non cessava mai perché vivendo nella regina celeste il nostro volere aveva il suo essere tutto parlante che non con voci umane ma con voci arcane e divine tiene sempre da dire che non si esaurisce mai molto più che il fia divino è parola è parola operante parola creante come poteva cessare il suo dire se lo aveva il suo potere quindi il suo dire ci teneva assediati rapiti circondati da tutti i lati occupati in modo che si rendeva irresistibile e invincibile da darle ciò che voleva la sua parola era potente faceva cedere alla nostra potenza era soave e dolce faceva piegare la nostra giustizia era luce e si imponeva sul nostro essere supremo sul nostro amore sulla nostra bontà insomma non vi era cosa nostra che dolcemente non si piegava alle voci potenti di questa celeste creatura ma mentre il mio dolce Gesù ci diceva mi faceva vedere la celeste regina che da dentro il suo cuore usciva un sole che invadeva tutta la corte celeste tutta la terra i suoi raggi erano formati di luce fulgidissima di voci parlanti che parlavano a Dio ai santi e angeli a tutte le creature della terra sicché la mia mamma celeste possiede ancora il suo dire continuo il suo sole parlante che con voce di luce parlante parla al suo Dio e lo ama e glorifica divinamente parla ai santi e le fa da madre beatificatrice e portatrice di gioia a tutta la corte celeste parla alla terra e come madre ci fa la strada per condurci al cielo vedi dunque che significa vivere di volontà divina si acquista il fare il dire l'amore continuo ciò che esce da dentro la mia volontà tiene virtù operatrice illuminatrice e continuatrice e perciò sono atti trionfatori che vincono Dio Fia ah Fia sempre ti volevo chiedere Marina allora per esempio un neonato normale nasce non ricorda niente cresce da quando era neonato nel grembo della mamma invece la Madonna invece Maria Santissima già nel grembo di Sant'Anna aveva tutte queste conoscenze e anche quando nacque la prima cosa che disse certo non verbalmente ringraziò Dio e tutte queste belle cose della divina volontà quindi lei è nata già come una bimba speciale perché già assolutamente sì assolutamente sì infatti lei aveva una sapienza prodigiosa lei fu dotata dal suo concepimento di ragione divina quindi tu una bambina proprio al di fuori della norma insomma assolutamente sì lo si vede anche in altri mistiche quando lei prima di tre anni sta con Sant'Anna e San Gioacchino lei parla come un'adulta quasi sì è vero l'impressione nel libro di Valtorta c'è scritto certamente certamente bellissima questa cosa addirittura quando da piccola la volevano toccare ah come sei bella così con la la volevano baciare lei guarda tutti e dice per favore non mi toccate non mi sgualcite bellissima che era tutta di Dio capito queste coccole queste cose queste carezzine lei non poteva capito non mi sgualcite è vero è vero carissima questa cosa bellissima allora chiudiamo 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 prima di tutto con ringrazioni 236 236 il ringraziamento a Gesù per aver creato così bello che è stata dell'immacolata madre eccetera poi 236 ringraziamento insieme mio dolce Gesù voglio attestarti il mio amore la mia gratitudine e tutto ciò che la creatura è in dovere di fare per avere tu creata la nostra regina mamma immacolata la più bella la più santa un portento di grazia arricchendola di tutti i doni e facendola anche nostra madre e questo lo faccio a nome delle creature passate presenti e future voglio prendere a volo ciascun atto di creatura parola pensiero palpito passo ed in ciascuno di essi dirti ti amo ti benedico ti adoro per tutto ciò che hai fatto alla tua e mia celeste mamma facciamo la consacrazione delle volontà umane alle santissime pagina 26 delle preghiere 26 delle preghiere nella divina volontà raccogliamo tutte le volontà umane e se non le nostre le consacriamo tutte la mamma santissima adegnamo sopra 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 le stelline mio Gesù danni la tua volontà e prendi la mia affinché mi faccia santa con la tua santità ami col tuo amore palpiti col tuo cuore cammini con i tuoi passi ripari con le tue riparazioni e formi con la mia parola un Gesù nei cuori di chi mi ascolta mamma regina nascoltemi sotto il tuo mato e tienimi difesa da tutto e da tutti è stato nel tuo volere o mio Gesù in primo nel mio ti amo su ciascuna cosa creata su tutti i beati del cielo e in particolare nella regina mamma e in virtù di quella volontà divina che le conserva belle e integre e che la Vergine Maria possiede la regina ti chiedo che il Fiat Supremo venga sulla terra cosa chiamo allora la volontà divina le nostre tutte le umane volontà e la Vergine del cielo mamma dolcissima eccomi prostratta dinanzi ai piedi del tuo trono per offrirti il mio immesso amore qual figlia tua voglio intrecciare come in un certo profumato tutte le preghiere le giaculatorie le promesse che tante volte ti feci di non compiere mai più la mia volontà mamma io le pompo questa bella corona nel tuo crepo come un testato di amore e di ringraziamento accettala ti prego e prendila fra le tue mani per dimostrarmi che gradisci il mio dono col tocco delle tue dita materne converti in altrettanti soli i piccoli atti che cercai di fare nella volontà di Dio oh sì madre regina la tua cara figlia vuole offrirti oggi gli omaggi di luce e di soli fulgidissimi so bene che tu ne possiedi già tanti tuttavia non sono quelli della figlia tua io perciò voglio darti mie per dirti che ti amo e che mi bene di amarti sempre più mamma santa tu mi sorridi te con la tua consueta bontà accetta il mio dono ed io te ne sarò tanto riconoscente quante cose vorrei dirti mamma ascolta io rinchiudo nel tuo cuore materno le mie pene i miei timori le mie debolezze e tutto l'essere mio come il luogo di rifugio mentre ti consacro senza riserva la mia volontà oh madre mia accettala fammi un trionfo della grazia trasformale in un campo dove la divina volontà possa estendere il suo regno questa volontà a te consacrata ci renderà inseparabili e ci terrà in continui rapporti le porte del cielo non si chiuderanno più per me perché avendoti affidata la mia volontà tu verrai a stare con la tua figlia in terra e la tua figlia andrà a vivere con la sua mamma in cielo oh come sarò felice allora senti mamma carissima per rendere più solenne questa consacrazione io chiamo qui presenti la trinità sacrosanta gli angeli ed i santi e dinanzi a tutti il protesto con giuramento di fare per sempre solenne rinunzia della mia volontà ed ora sovrana regina ti chiedo come compimento per me e per tutti la tua santa benedizione scenda essa come celeste rugiada sui peccatori e li converta sopra gli afflitti e li consoli sopra il mondo intero e lo trasformi nel bene sulle anime purganti e smorzi loro il fuoco che le brucia la tua benedizione materna sia penio di eterna salvezza a tutte le anime nella divina volontà Maria Santissima ci benedica ci preservi da ogni male e pronunci noi il suo fiato Gesù ti amo con la tua volontà sperti la mia volontà nella tua e dammi la tua per vivere amén fiato bella panciulla grazie grazie a voi e Marina e di benedizione e di benedizione e di benedizione e di benedizione saluti a mamma grazie un abbraccio ciao grazie 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 domenico mercoledì se ci senti a tutti grazie 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 grazie